Di Carlo Francesco Senta per favore, vuol comunicare di interrompere Di Carlo Francesco, nato il 18-2-1941 ad Altofonte, Palermo Signor Di Carlo, lei mi viene sentito in ambito del percento penale al periodo dell'Utri Marcello e Cina Gaetano come imputato in vicevento per reato connesso Lei come tale ha facoltato di non rispondere alle domande per il Ministero Intende rispondere? Intendo rispondere Intendo rispondere, è presente il suo difensore Prego, Polizia Signor Di Carlo, buongiorno E buongiorno, dottor Per iniziare, mi volevo chiedere se lei ha fatto parte dell'associazione nazionale denominata Cosa Nostra Se mi ha sentito Ho fatto parte dell'associazione Cosa Nostra cosiddetta chiamata Si sente bene? Ho fatto parte a Cosa Nostra a partire dal metà anni 60 66, 67 non mi ricordo più Può specificare come è entrato in Cosa Nostra? Chi era presente alla sua cerimonia di combinazione? Di editazione? Beh, come sono entrato in Cosa Nostra? Veramente in Cosa Nostra se ci entra, se lo invitano non è che l'ho stabilito io dopo svariati anni come penso da parte di persone di Cosa Nostra di osservanza del mio comportamento del mio modo di fare allora poi sono stato invitato una sera in una casa di alto fondo una casa mia e mi hanno cosiddetto combinato ma già io in famiglia avevo avuto un nonno un zio di mia mamma un zio di mia mamma e anche un fratello di mia mamma e un cugino anzi due zii pensandoci cioè come come principio di partenza non c'erano problemi visto che c'erano i parenti e Cosa non c'era bisogno di informazione altro solo il mio comportamento com'era e visto che ero anche giovanissimo e mi hanno combinato Sì mi puoi dire chi era presente e chi era il suo padre? Presente c'era il rappresentante di allora che era dall'inizio proprio il rappresentante perché perché prima c'era una persona anziana un certo Vincenzo Canino era stato messo fuori famiglia e il rappresentante c'era questo Salvatore Labbarbere che era giovane un po' di anni di più di me ma era giovane ai tempi mio cugino Ottavio Ottavio perché lo chiamavamo tutti tutto Ottavio Gioè padre del più famoso Nino diciamo di Cosa Nostra e un certo Girolamo Sollame che faceva di sotto capo una persona anziana Può dire come si svolse molto brevemente chiaramente come si svolse questa cerimonia? Marco la solita plasse la solita cerimonia la santina la puntura in un dito e il giuramento il classico giuramento le vennero presentati altri uomini d'onore mi hanno detto com'era la situazione nella famiglia di Altofonte mio nonno già era morto c'era uno zio era pure morto c'era qualche cugino e zii ma che non erano presenti perché ognuno aveva impegno e poi non volevano fare sapere a tutti che ero stato combinato per un periodo sono stato adesso hanno la nuova forma la dicono che le chiamano riservate era questo un senso di riservatezza ma a quei tempi era anche per il fatto perché c'era stato la prima guerra di mafia se così si può chiamare del 62-63 erano tantissime erano in cacce e c'era disposizione di non combinare molte persone o addirittura sciogliere le famiglie visto che le istituzioni avevano dato un colpo a cosa nostra da quei tempi e non era stato il colpo come ha avuto adesso però già era un colpo c'era stata questa messa dal capo di allora il segretario a quell'ora si chiamava il segretario di Cosa Noce che era un certo Francesco Solce che aveva sostituito un certo Salvatore Greco Cicchietello per differirlo degli altri e allora aveva dato disposizione di sciogliere le famiglie e non lo facevano sapere in giro i nuovi affiliati specialmente se era una persona più pulita una persona che poteva dare tanta cosa nostra nel senso anche un aiuto a metà anni 60 sia economico e sia su amicizia Senta può specificare a che periodo si sta riferendo lei sicuramente dopo la prima guerra di mafia ma a quale periodo ci stiamo riferendo in particolare a metà anni 60 quando lei è stato combinato esattamente non mi ricordo se era 65 66 a metà anni 60 ero arrivato da militare però io anche militare stesso seguivo le mie cose avevo avuto treni forniture delizie e tutto ero militare a Ciampino a Roma ma venivo qua 15 giorni Senta dopo la decisione di Sorci di Antonino Sorci di sciogliere le famiglie che cosa successe? Negli anni 70 successe qualche cosa? Vi fu una ricostituzione di Cosa Nostra? Sì poi andavano arrivando chi usciva chi era assolto perché mi sembra che il primo processo è stato quello che i bari erano i collionesi chiamiamoli i collionesi come famiglia però non intendiamoci adesso con leonese che c'eravamo quasi tutti con leonese come famiglia e mi sembra che c'è stato nel 68 erano state assolte o chi era uscito che aveva già scontato la sentenza la condanna e sono ritornate sia a Reina sia a Provenzano e Ligio si è fatto ricoverare e poi mi sembra che sappiamo la storia è scappato dalla crina e tutta quella situazione là e altri che andavano ritornando e così si comincia a ricostituire Cosa Nostra Signor Di Carlo mi scusi prima che prosegue ogni qual volta lei parla di un uomo d'onore se può specificare qual è il suo ruolo all'interno di Cosa Nostra in modo tale anche da io si non il suo ruolo il ruolo dell'uomo d'onore di cui lei parla ha parlato in particolare di una serie di uomini d'onore certamente famosi però è il caso che anche lei ci dica chi sono io ho parlato di Provenzano e sempre accennate a Salvatore Reina ma anche loro avevano una famiglia una famiglia disastrata che avevano avuto la guerra tra di loro a Corleone infatti infatti il rappresentante di Corleone che era un certo governale era scomparso l'avevano loro ucciso e tanti altri di Cosa Nostra di Corleone poi hanno ricostituito la famiglia e hanno fatto capo Ligio sotto capo Totuccio Reina consigliere hanno fatto a Pino Provenzano dopo la morte però sia nella via Lazio che era morto in Bagarella Calogero e anche quando era morto Peppino Ruffine di morte naturale però ci hanno fatto trovare il morto perché Peppino Ruffine era il consigliere anche loro si stavano organizzando come famiglia e come mandamento queste erano quelle che ho parlato la posizione di quei tempi ma ritornando tutti ognuno era capo della propria famiglia un capo mandamento poi hanno costituito il cionvirato dopo la 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 ma chi era composto questo cionvirato dopo l'assaggia di Viale Lazio quando hanno tolto Cavataio e altri che erano uno della causa della prima guerra hanno composto il cionvirato si sono riuniti tutti quelle perché poi c'è stata anche delle riunioni per invitare a quelle che capivano loro che non erano state della corrente di Cavataio e Arno di Cavataio ma c'erano altre persone che avevano contrastato e anche essere vicini a Cavataio e hanno eletto Badalamente Gaetano Stefano Bontate e anche Luciano Liggio il cosiddetto cionvirato Stefano Bontate diventa pure capomandamento perché prima il mandamento non era a Santa Maria di Gesù ma il mandamento era dal famoso Nino Solce Nino un ricco una persona anziana era per la grazia ma Nino un ricco quando è successo tutto quello che è successo se n'era andato non lo so verso Rimena si era comprata proprietà aveva lasciato questo Francesco Solce come sostituto suo Francesco Solce dicono ci portavano l'accusa che non si doveva permettere di sciogliere cosa nostra di sciogliere le famiglie e per questo il mandamento è passato da Stefano e Ciccio Solce è diventato un soldato semplice a Villagrazio finché non l'ammazzavano poi negli anni seguenti Signor Di Carlo prima che prosegua questa dichiarazione volevo sapere lei ha detto di aver fatto parte di essere stato combinato se non ricordo male l'ho detto nella famiglia di Altoponte può specificare che ruolo lei aveva all'interno della famiglia di Altoponte o avuto nel corso degli anni della famiglia di Altoponte o avuto nel corso degli anni quando sono stato combinato era un soldato semplice naturalmente come tutti poi in seguito mi sembra da 70 in poi mi hanno cominciato più a presentare ma anche prima mi sembra mi ricordo 69-70 a presentare altri uomini d'onore specialmente io che frequentavo Palermo avevo una società di atti avevo ingrandito la mia azienda di trasporto per tutta l'Italia avevo frequentazione con tutti conoscevo tutti a volte c'era qualche difficoltà e allora si è dovuto cominciare a presentare perché c'erano persone che mi conoscevano come Cosa Nostra e persone che lo sapevano e allora hanno dato disposizione di cominciare a presentare mi sembra il 69 quando comincia la Cosa Nostra a rimodernezzare e attrezzarsi poi mi sembra che era nel 73-74 sono diventato consigliere della famiglia di Altofonte sì successivamente successivamente sono diventato sotto capo perché il consigliere c'era sotto capo c'era una persona a 70 anni e di solito nelle famiglie il consigliere è più grande perché viene eletto dalla famiglia è più importante del sotto capo viene eletto dalla famiglia allora ci ho detto a quella persona anziana ma è giusto che lo fa Vossia si dice di Vossia da noi lo fa Vossia il consigliere e io ho fatto il sotto capo ero il più giovane ero molto inconsiderato anche perché per qualsiasi cosa il capo famiglia che fino a quei tempi aveva un certo valore il capo famiglia eravamo amici da bambini ci conoscevamo abitavamo accanto vicino casa e mi tenevo molto in considerazione anche per le amicizie mie anche per il mio modo di fare e poi vedevo che conoscevo a tutti sapevo che sapeva che frequentava Antonino Batalamente Antonino Batalamente per chi non lo sa voglio specificare era uno degli uomini più validi che aveva Gaetano Batalamente che ci veniva cugino infatti si faceva sostituire e a volte pure nel triunvirato oppure nella commissione che poi nel 74 si fa la commissione provinciale questo era Antonino Batalamente visto che io camminavo sempre con i Batalamente con Stefano Bontate eravamo intervi perché ci conoscevamo da periodi di scuola da bambini anche lui avendo due anni di più di me e allora hanno cominciato a presentare tutto a parte che mi tenevano in alta considerazione signor Di Carlo lei ha fatto parte della famiglia di Altofonte fino a quando? poi nel 76 divento capofamiglia adesso ci arriviamo fino a quando capofamiglia nel 76 fino al 78 però mi hanno voluto loro metterci proprio Tottor Reina e Bernardo Brusca perché Bernardo Brusca proprio personalmente aveva avuto dell'elite con il capofamiglia che c'era ad Altofonte questo la barbere per motivi di di limito e come dovrei dire confine per motivi di confine che San Giuseppe e Monreale confinano tutti avevano avuto dell'elite e cose e hanno fatto dimettere alla Barbera e mi è dispiaciuto tante cose poi Tottor Reina e Bernardo Brusca ha imposo di io andare a fare capofamiglia che a me non mi interessava proprio perché tutte queste grattaccape non le volevo poi non abitavo ad Altofonte poi ero sempre partito sia per l'Italia sia fuori cominciavo ad avere interessi fuori non mi interessava andare a discutere cose di Picurara o di Vaccara o situazioni di Altofonte comunque ho dovuto accettare ma ci sono stato solo due anni e io mi sono dimesso di solito non si dimette mai la poltrona non la vuole lasciare mai nessuno ma a me non mi interessava proprio che l'ho lasciata io quando è venuto questo? nel 78 e poi cosa è successo? nel 78 quando io mi sono dimesso dimettendomi divento un soldato semplice come da tutte le famiglie se non prendo altri gradi parlando con Bernardo Brusca e Totò Reina visto anche ad Altofonte come camminavano le cose perché c'era in quel periodo di tempo erano nate dei giovani come Cosa Nostra compreso mio cugino Nino Gioè e mio fratello il piccolo e con l'amicizia con le vicinanze di di questo come si chiama questo individuo Bagarella con le vicinanze di un Bagarella non passava un giorno che non volevano fare qualche cosa di gravo qualche delitto cose che a me non piacevano loro prendevano istruzioni che cominciavano sia a Palermo di fare pagare a piccole costrutture o a piccole persone che si indebitavano per fare un'attività volevano fare pagare cosa che a fine che ci sono stato io non ho ammesso mai ma no per perché io ero nato negli anni 60 e per me era basato avevo lavoro era basato Cosa Nostra su un'altra mentalità su un'altra forma e non volevo fare pagare a piccola gente che poi nei paesi ci conoscevamo tutti erano parenti dei parenti e poi stimavo perché volevo essere stimato di miei concittadini e no temuto e e sapevo quanto cambiare avevano le persone a vista sembravano che costruivano a vista sembrava che erano ricchi e i cambiali che avevano dietro le spalle nelle banche e così visto oppressato vista la situazione mi sono dimesso anche Bernardo Brun per stesso mi ha detto fra che vuoi fare vedi come sono i tuoi fratelli sono pure contro di te e mentalità bagarella era bagarella perché in tutti i omicidi prendevano una bagarella perché non passava un giorno che non doveva fare un omicidi altrimenti non poteva stare era ammalato come un drogato e con questo si portava pure i giovani dietro qualche cosa non me la dicevano che me l'avrebbero dovuto dire come capofamiglia ma anche anche nel 77 le cose erano cambiate che tutto si addentrava nel capomandamento e erano giustificate se non mi dicevano niente e allora mi ho dovuto dimettere dimettendomi parlando con Bernardo Bruschi e Totorrina tu sarai a disposizione del capomandamento sei aggregato a San Giuseppe nel capomandamento nessuno della tua famiglia famiglia come in alto fonte parlo famiglia personale fratelli nessuno ti può ordinare di fare qualcosa nessuno qualsiasi cosa dipende del capomandamento lo dirò alla commissione e se ha bisogno della commissione solo il capomandamento ti possono dire qualcosa Signor Di Carlo lei quando si è trasferito poi definitivamente in Inghilterra? Definitivamente posso dire quando mi hanno arrestato perché fino a che non mi arrestavano viaggiavo Diciamo quando è che sta con maggiore prevalenza in Inghilterra rispetto a dall'82 in poi perché nell'81 avevo aperto già un'agenzia viaggi all'ufficio di cambio avevo fatto già qualcosa nell'82 ci stavo di più fino all'84 l'ultima volta che sono venuto in Italia è stata nell'84 Lei anche successivamente alla sua detenzione ha mantenuto i contatti in qualche modo con l'Italia con i suoi fratelli per esempio Sì fino all'85 io ho avuto anche mio fratello a casa piccolo che era latitante per trovare in Inghilterra come qualche altro di Cosa Nostra che abitavano in quella zona che era in Icaruana con c'erano Icaruana Alfonso specialmente suo fratello non l'ho incontrato mai ci abitava da poco ho incontrato la cognata ho qualche parente che non conoscevo che venivano dal Canada a trovare Alfonso questa era una Cosa Nostra me l'ha presentato qualcuno e poi tenevi contatti certo tenevi contatti ma dico questo anche dopo l'arresto lei ha sì anche dopo anche dopo però per un due anni no dopo quando uno ha preso la condanna là si possono cominciare a avere perché si cambia di carcere proprio nel carcere dove si quando ha preso la condanna che là dicono sentenza si va a finire nel carcere dove sono tutti condannati e allora ci sono i telefoni pubblichi con la carta che si può telefonare ognuno se c'ha i soldi telefono alle famiglie una ogni 15 giorni gliela danno gratis per come spetta da 5 minuti per come spetta dico che la commissione europea non so a chi ha bisogno con chi si sentiva in particolare in questo periodo quindi siamo dall'87 88 in poi ma quando era l'attitante mio fratello Angea o con mio fratello Angea mi sembra che poi è uscito anche mio fratello Giulio e ci siamo sentiti tante volte quando era libero con Benedetto Capizzi con Giovanni Cafflì dalla famiglia di Altofonte pure mentre Benedetto Capizzi nella famiglia di Villa Grazia o Moldono Relato mi sentivo poi quando è uscito nell'89 è uscito Nino Gioè ci sentavamo pure poi è diventato capo famiglia di Altofonte Nino Gioè a posto di mio fratello Andrea e qualche volta l'ho chiamato io nella pompa e benzina perché poi si è messa pompa e benzina ma dei telefoni pubblici lui a volte mi ha chiamato spacciandosi per il mio avvocato italiano e là me lo passavano di solito non passavano mai a nessuno ma a me avevo buone relazioni dentro l'amministrazione anche perché lavoravo dentro l'ufficio ai computer dell'amministrazione c'era sempre con loro e avevi telefono e la forse rispondevo io quando ero in interno o me senta ritornando un attimo indietro siamo arrivati agli anni 90 ritornando un attimo indietro agli anni 70 lei ha detto che è stato diciamo così aggregato subito dopo la sua decisione di dimettere si è stato aggregato direttamente faceva riferimento al capo mandamento Bernardo Brusca può specificare quali famiglie facevano parte del mandamento oltre Altofonte e San Giuseppiato San Giuseppiato come mandamento abbraccia Altofonte Piana degli Albanesi San Giuseppiato San Giuseppiato a quei tempi c'era una famiglia Monreale lei ha detto anche che e basta perché Camporreale adesso ci fa ma Camporreale apparteneva nella provincia di Trabri come Cosa Nostra una volta sì infatti le stavo facendo la domanda perché pensavo avessi finito nel 74 lei ha detto venne ricostituita la commissione provinciale di Cosa Nostra può riferire chi ne faceva parte allora quindi quali erano i mandamenti essenzialmente e le persone che li rappresentavano all'interno della commissione la commissione venne costituita nel 74 sì dopo un cambiamento dopo un po' di manovre perché anche in Cosa Nostra ai tempi di come era organizzata e come sarà organizzata adesso o meglio ancora c'erano i manovri tipo politici per dire a Ciaculli mi ricordo che c'era Vannuzzo Giovanni Presti Filippo che era di una linea più morbida di una linea più vicino a svariate che non ci capimandamente che ha Arreina Bernardo Brusca qualche altro non le erano simpatici infatti si è cambiata prima nella famiglia interna di Ciaculli e ci mettono a capo famiglia Michele Greco che prima era stato sotto capo dopo che è diventato Michele Greco capo famiglia di Ciaculli e sia là e poi che c'era anche comunque uno dei particolari dopo avere tutta una situazione hanno fatto la riunione per eleggere il coordenatore della provincia di Palermo nella riunione che fanno c'era il mandamento di Cinesi che era Gaetano Battalamente di San Giuseppe Ato che era Antonio Salamone però lo sostituiva fino a quei tempi lo sostituiva Bernardo Brusca di Cascionove Sicilia che abbraccia tutti i paesi di quella zona all'Arcarapriti Alia tutte quelle là c'era Gigino Pezzuto a Mr. Mere c'era Peppino Chiaracane padre del famoso avvocato Chiaracane nelle Madonie c'era e c'è stato sempre Peppino Farinella a Bagheria c'era il vecchio Antonio Mineo a Ciaculli c'era Michele Greco che abbracciava le borgate di là vicino a Santa Maria e Gesù Stefano Bontate in quel periodo mi sembra che erano ah no c'era una a Cruillasi che il mandamento da quando era morto nella prima guerra di mafia Cacedonia è divisa alla Noce la morte che era stata causata da Michele Cavattaglio il mandamento era passato anche per le situazioni che c'era a passo del rigolo che la famiglia si chiama Bocca di Pagli che i di maggio erano erano chiacchierate per essere state molto vicine a Cavattaglio mandamento niente il mandamento era a Cruillasi che tutti chiamano la famiglia di Malaspina mentre si chiama famiglia di Cruillasi via Palagonia Malaspina non esiste esiste come caccia di Malaspina la famiglia è Cruillasi tengo a precisare perché ho letto una volta qualcuno nei giornali dice che era Malaspina no è Cruillasi c'era Giuseppe Citalda fratello del più famoso Matteo Citalda questo era il mandamento di allora poi si andava formando qualche mandamento che andavano sistemando senta c'era qualcuno anche per Bartinico sì c'era certo mi scusa l'anno non è cambiato mai non si è sciolto mai quel mandamento era uno dei mandamenti antichi da Peppino Bertolino suocero di questo che ho letto nei giornali Sino che collabora che è durato tantissimi anni come mandamento capo mandamento Peppino Bertolino poi c'era Nene Geraci e c'era anche qualcuno che rappresentava Caccano sì mi avevo dimenticato tutti questi nomi tutti e c'era Ciccentille dopo Panzica ci avevano messo perché ho conosciuto il vecchio Panzica come mandamento poi c'era Ciccino Intile mi sembra si chiama Intille o Intile Signor Di Carlo quindi per comprendere all'interno della commissione la città di Palermo era rappresentata da da quali di queste famiglie adià chiaramente sicuramente da Cruillas e da Santa Maria di Gesù poi chi c'era no no voglio precisare che parte di Palermo qua se l'ha tenuta e l'abbracciava tutta Gaetano batalamente da Cinese arrivare arrivare all'Acqua Santa va bene perché non c'erano mandamenti là ancora era un soldato va bene che faceva di di capofamiglia ma ancora nemmeno era capofamiglia Enrico Bono sarei Enrico Bono aveva un po' di giovani stava mettendo a posto la sua famiglia Ciccio Madonia Ciccino Madonia Francesco Madonia l'ho conosciuto che era capo di Cina del Re Suttana poi capofamiglia del Re Suttana ma poi l'hanno fatto capovandamento ma questo a fine anni 70 sì questo è una domanda allora Badalamente arrivava sotto la sua giurisdizione fino a un periodo proprio all'Acqua Santa mentre Stefano Bontate arrivava fino a Burgovecchio Palermo Centro Burgovecchio Portanova arrivava Stefano Bontate mentre Grille siccome ha detto lei prima abbracciava l'uditore Noce e e quelle chiamavola Passo del Re Libio ormai bocca di Farco come famiglia Senta questa situazione poi successivamente è cambiata sono stati costituiti altri mandamenti per quello che ha sua conoscenza sì certo che è cambiata perché c'era Di Maggio Rosario Di Maggio che prestava per avere il mandamento quando a volte c'era un riunione si sapeva non ne facevano parte ma a opporsi erano in tante ma in particolare Reina e quelle che aveva più vicino perché là c'erano delle corrette c'era una moderata una frazione moderata una guerrita e è una che che era tutta per Stefano Bontate e poi inserirlo che era Di Maggio e altri sì quindi lei stava dicendo che si è ricostituiti e poi si è ricostituiti i mandamenti i mandamenti si cominciano a costituire anche facendo delle famiglie perché alla Quasanta c'era un capo di Cina non era una famiglia e poi hanno fatto il capo famiglia c'era un capo di Cina che era il mio socio nei trasporti Antonino Pipitoni che era il socio mio nella società per azione che io avevo e poi l'hanno fatto capo famiglia per un periodo perché pure dopo è cambiato a a San Lorenzo capo famiglia hanno fatto un certo Filippo Giacalone poi scomparso a Partanna Mondello capo famiglia Saro Riccobono che abbracciava tutti i paesi della vicino perché molte famiglie l'avevano tolto come un certo Nicoletti che era capo mandamento che hanno tentato di ucciderlo come a San Lorenzo che c'era un capo mandamento l'hanno ucciso a Milano Antonino Matranga comunque hanno costituito poi le famiglie e poi che prestavano hanno fatto il mandamento il mandamento a San Lorenzo non l'hanno voluto fare allora l'hanno fatto a Rosario Riccobono a Partanna Mondello questo però verso 77 così a Riccobono diventa capo mandamento di là e allora batalamente si ritira nella sua zona perché poi Partanna Mondello abbraccia l'isola dell'esembre capace San Lorenzo è il risultato in Tuga qui è dentro poi visto anche nella commissione Saro Riccobono nella commissione era tutto all'inizio sia per Padalamente sia per Rebontade e altro per un po' equilibrare Reina e compagni prestano per farci il mandamento a Re Suttana e così fine 77 a farci il mandamento di Re Suttana capo mandamento che poteva essere Sciccio Madonia che era l'anima gemella di Reina e così diventa capo mandamento e ha le famiglie Re Suttana e Acqua Santa e Arrenella quelle zone di là arriva e anche perché poi cambia la situazione e anche Cruillasi perché a Cruillasi ci toglie il mandamento che non aveva avuto mai che non c'entrava di avere un mandamento lato e è stato messo quel mandamento in emergenza e allora la famiglia di Cruillasi dipende di Sciccio Madonia con altra pressione spunta pure dopo qualche mese il mandamento di Bocca di Falco siccome il Rosario di Maggio non lo volevano nessuna i familiari di Maggio però erano i di Maggio i di più di tutti che avevano un potere hanno accettato di potersi sedere a tavolo perché i di Maggio non l'hanno voluto a tavolo della commissione provinciale hanno accettato a Totucci in Gerillo il nipote di Rosario di Maggio e così è spuntato anche il mandamento di Bocca di Falco come veda c'è due sia il Saro Ricco Buono sia quello di De Maggio due a favore di Batalamento il Reina studia un altro mandamento a chi? Pippo Calò che aveva avuto in Madonia per ancora equilibrare Pippo Calò diventa capo mandamento e se ci togliono tutti perché Pippo Calò come capofamiglia faceva parte nel mandamento di Bontà si ci togliono tutti i vari famigli che appartenevano da Stefano Burgo Vecchio Palermo Centro e Portanovo e così diventa un mandamento si nasce pure questo nel primisimo 78 se non faccio errore di qualche mese senta è la noce in tutto questo la noce poi fa parte al mandamento di Totucinzerilla che alla noce non c'era mandamento la noce nasce mandamento nell'82 all'inizio dell'82 dopo la seconda guerra di mafia dopo l'uccisione di di Totoscaglione Totoscaglione era in viso ai Colleonesi e altri dopo se lo dovevano togliere davanti ma lei sa per quale motivo non venne fatto il mandamento anche alla noce no i motivi erano questi perché c'erano tantissime ma aveva una buona parte della famiglia della noce che erano intimi chiamavoli con il perdente dopo che non ero perdente c'è stata un'altra questi sono i motivi reali ma i motivi apparenti quelli che venivano detti diciamo al popolo di Cosa Nostra che venivano così ma no al popolo di Cosa Nostra va bene principalmente questa che c'era mi scusi dottore Gozzo non c'era un tamborino che andavano in Cosa Nostra a va bene a distribuire notizie ma quelli più intimi sapevano mi ricordo pure una cosa perché su todo scaglione ne avrebbero potuto affacciare difetti una giorno però si limitavano perché anche quello era un uomo di azione e aveva i suoi le dico alla noce non lo potevano toccare perché ci hanno tentato mille volte di toglierlo come rappresentante va bene perché mi ricordo io una volta che visto che c'era una minima maggioranza della famiglia il 40% e allora ci hanno portato dei difetti per toglierlo causando discorsi e affacciando altri discorsi in serie di dimostrazione della cosa hanno riunito la famiglia e ognuno si è portato i suoi per discutere quando è così una famiglia si porta due abiti sia di una corrente che dell'altra corrente come corrente con leonese da parte di chi lo portava a discutere che erano gli anselmi di quella zona erano fratelli quello si è portato a Stefano Bontato Totoscaglione e hanno assistito ai discorsi che discorsi c'erano gravi a Totoscaglione ci volevano portare dicendo che era una persona di morale poco affidabile motivo perché perché una figlia una ragazza se ne era scappato fuori uteri incinta cosa che nel 2000 non è una una cosa questi amici dei collonesi vivevano nel medioevo e allora quello dice sì mia figlia se ne è scappata come una ragazza a 16 anni 18 anni è incinta e si è sposata non vedo che cosa non è che è abbandonata dentro io non ho preso iniziative di ammazzare il mio genio e farlo sparire i giovani si è sposata adesso insomma se l'ha discuso beh perché realmente non è una cosa forse succedevano anche 100 anni a fare non arrivavano ad essere incinte subito facendo sposare però siamo nel 2000 comunque tutte le situazioni quello appena in questi discorsi ci ha detto ma andatevi a guardare già voi altri dice i vostri corna scuse alla corte perché si esprima così e che cosa era che mentre era in carcere Anselmo Rosario un uomo anziano di Cosa Nostra che nessuno se l'aspettava aveva tentato di violentarci la moglie loro l'avevano saputo come diceva Tottò Scarione e loro non avevano fatto niente e là sono rimasti sono saltati tutti in aria dice ma come dice tu come capofamiglia non hai preso quando è così si va bene signor Riccardo altrimenti possiamo continuare penso che di questioni di questo genere e poi no in questo uomo d'onore poi Anziano è morto infatti l'hanno ucciso ce l'ha ucciso Bagarella e Pippo Gambino e senta signor Riccardo e dice allora se ne mettevano tanti in giro per Tottò Scagliore ma non era irrimovibile là solo l'hanno potuto muovere in quel modo nell'82 quando l'hanno sciolto nell'aria Signor Riccardo lei ha parlato per il periodo successivo al 78 dei suoi rapporti con Bernardo Brusca io voglio sapere anche per il periodo precedente quali erano i suoi rapporti con Bernardo Brusca con Bernardo Brusca i rapporti erano buonissimi per dirle quanto erano buoni che a parte di qualche volta frequentarci come famiglia che io normalmente non frequentavo mai come famiglia personale qualcuno di Cosa Nostra posso dire pure che era quando era cercato per la latitanza perché volevano mandarla a confine o qualcosa del genere Bernardo Brusca tante volte rimaneva a casa mia a dormire avendo io una casa grandissima avevo stanze con un bagno a parte e allora dormiva per dice solo lui a casa mia ci ha potuto dormire e totuccio ri in caso di necessità perché ha dovuto scappare di una casa a San Lorenzo che ci avevano scoperto era da subito sposato e è venuto a abitare a casa mia per un mese ma a casa mia non portavo mai anche perché le mentalità erano enorme di differenza e io non volevo farci vedere questa situazione con Bernardo Brusca c'è stata una simpatia conoscendoci signor Carlo una domanda specifica la vorrei fare lei accompagnava siccome ci ha parlato di tutti questi fatti vorrei sapere come li conosceva in particolare se lei aveva anche accompagnato Bernardo Brusca a riunione della commissione ma quello ero sempre prima c'è stato un periodo che eravamo sempre assieme essendo sempre assieme ma anche da quando da soldato semplice perché quando ho conosciuto 70-71 Bernardo Brusca lui era venuto dal confine o era venuto in permesso non mi ricordo poi quando è rientrato ci siamo visti sempre spesso c'è stata un'amicizia poi vedendo poi avendo pure comodità di venire nel mio ufficio che avevo prima l'ufficio in via Scoper vicino come chiamano via regione siciliana via Scoper e poi l'avevo in via Leonardo da Vinci dove avevo il recinto dove avevo l'ufficio capannone per gli automenzi ci veniva facile anche dare appuntamenti la a altre gente e venivano sempre la in questo mio ufficio ma eravamo quasi non c'era un giorno che non ci vedavamo poi si è cominciato a partire per Napoli e molte volte ha fatto viaggi con me ma moltissime volte anche Reina senta lei ha detto che successivamente al 78 lei era aveva un rapporto diretto diciamo con Brusca Bernardo non era più all'interno della famiglia di Altofonte è un fatto usuale all'interno di Cosa Nostra ricorda altri casi sì c'è stato qualche caso non era un capomandamento si può mettere nel raggio del suo mandamento a uno vicino dicendo che dipende solo di lui ma tutti l'avevano specialmente in un periodo Reina in particolare aveva dei rapporti Reina veramente aveva quelle degli altri pure perché come famiglia di Corleone Prove nel mandamento non aveva tante a parte il suo cognato ma aveva quelle degli altri aveva i fratelli Madoni aveva tantissimi ma l'avevano tutte nel mandamento ognuno Reina era per un altro fatto che l'aveva perché infiltrava persone per sapere tutto degli altri mandamenti usale è venuto opportuno e poi ha fatto quello che ha fatto un lavoro in dieci anni abbastanza meticoloso va meticoloso valido per lui pensava va bene senta tornando alla famiglia di Bruilles lei mi può dire per quello che su conoscenza quali erano gli uomini da nora che facevano capo a questa famiglia nella famiglia di Bruilles come capo mandamento a quei tempi che c'era il mandamento come capofamiglia possiamo dire c'era Citario da Giuseppe suo fratello Matteo un certo Francesco Paolo Cicciuzzo chiamavano il barbiere di Citario era un commerciante di limone e agrumi Benedetto Citario una persona anziana il figlio Giovanni mi ricordo quando l'hanno combinato però negli anni settanta adesso metà così un certo di Maria di Maria come Francesco si dovrebbe chiamare poi ho conosciuto all'inizio che poi è morto era una persona anziana un certo Cucurullo come ha detto Cucurù Cucurù Ciccio Cucurù lo chiamavano così poi un certo Cina Salvatore Cina una volta mi hanno presentato un sveglia uno dei fratelli ma erano due fratelli che si somigliavano non l'ho saputo mai distinguere chi era c'era un certo Cuccia che aveva una vendita di polle o allevamento questo menuto non mi è in mente lei ha conosciuto i fratelli di Napoli ah sì c'era Albanese c'era di Napoli ho conosciuto i fratelli di Napoli prima Giuseppe che lo conoscevo all'inizio proprio ma lo conoscevo anche quando io non ero cosa nostra ancora che era un elettralo e poi il fratello Pietro che era un insieme Pierino come lo chiamavano nell'autofficina del fratello Giuseppe un certo Albanese Giuseppe Albanese che era il genero di Matteo Cipalda queste ultime persone di cui ha parlato di Napoli Albanese avevano delle cariche all'interno della famiglia sì uno era sotto capo di Napoli di Napoli però Giuseppe che noi chiamavamo Baffun aveva i baffi lunghi mentre Giuseppe è Albanese è diventato consigliere apposto di questo Francesco Paolo Cittarda senta lei ha parlato di Totocinà conosce altri Cinà come Cosa Nostra no però come Cinà io conosco prima di Salvatore posso dire o prima è stato Salvatore non mi ricordo tantissimi anni Gaetano Cinà Tanino per noi altri Può dirci degli elementi che ci possono fare identificare questo Gaetano Cinà che cosa sa lei di questo Gaetano Cinà come viveva che lavoro faceva Gaetano Cinà nell'ultimo tempo che aveva prima una lavanderia vicino il pollo che ama la via non so come si chiama via Carini dove è successo il fatto della chiesa e una travessa proprio accanto mi sembra si chiama Palermo non la conosco più via Chimedi che stava dal borgo vecchio prima di arrivare via Libertà aveva un negozio di articoli sportivi poi ne aveva aperto uno grande una società però quella era di articoli sportivi qua nella zona nuova vicino via Le Campania via Cinagra e lui sa dire di chi era questo negozio di cui ha parlato adesso questo di Via Le Campania via Cinagra via Cinagra il negozio nuovo che è grande che avevano aperto che ci sono stato mi sono incontrato con persone di Cosa Nostra si chiamava Guimpedo la città ingressi Guimpedo e per quello che ho saputo c'entrava una società Mimmo Terese questo albanese che l'ho incontrato anche lì dentro un giorno abbiamo avuto un appuntamento uno dei Sveglia come si chiama Sveglia o Sveglia non so pronunciare bene questo cognome perché non l'ho letto mai non lo so Sveglia si doveva Sveglia con la B sì e Tanino Cina ma era Tanino che lo portava avanti Senta lei non mi ricordo se ha specificato come lo ha conosciuto comunque Cina cioè in che ambienti ha conosciuto Cina beh a Tanino Cina l'ho conosciuto come le dico tantissimi anni anche perché io frequentavo la zona di Truill dopo anche perché conoscevo Benedetto Benedetto questo è il nome là Citalda il vecchio Benedetto Citalda ed era cognato di Gaetano Cina aveva sposato una sorella ho conosciuto il fratello come Cosa Nostra io andavo sempre anche per a volte mi è capitato molte volte nei primi anni del 70 di andare via a Lazio dove questo Citalda aveva dei negozi e lì dietro c'era una specie di ufficio e mi incontravo con Peppino Citalda il capomandamento per portarci qualche notizio o per qualche cosa che aveva chiesto o se c'era una riunione o una volta glielo facevo sapere incaricato io di qualcuno di Bernardo Brusca ma di Michele è greco di più e così frequentavo ho conosciuto Totò Cina come Cosa Nostra l'ho conosciuto l'ho visto pure uscire di Cosa Nostra quando l'avevano messo fuori ma con Gaetano ci vedavamo abbiamo preso più amicizia perché ci conoscevamo ci siamo frequentati poi amici suoi erano diventati amici miei o che erano già amici anche di lui prima e dopo di me o prima di me e anche di lui insomma Palermo conoscevo tantissime persone e conoscevo pure Tanino e così ci siamo frequentati molte volte senta Tanino Cina le ha presentato delle altre persone in particolare volevo sapere se le aveva presentato un certo Jimmy Fauci mi scusi mi scusi ero distratto dottore Gozzi perché cercavo un po' d'acqua anche perché sono raffreddato e ho la gola chiusa completamente mi scusi signor Presidente se è possibile interrompiamo un attimo Tanino Cina le aveva presentato Jimmy Fauci e se mi può dire chi è Jimmy Fauci ma non lo so se è stato Cina Jimmy Fauci prima o prima il nipote comunque anche con ci siamo incontrati molte volte comunque Jimmy Fauci me l'ha presentato o il nipote che cosa noce il nipote di chi di Tanino Giovanni Cittarda figlio di vecchio Cittarda l'ha benedetto o direttamente Tanino però Tanino sapeva tutto che serviva per me i Fauci cosa volevo io infine era questo mi hanno presentato Jimmy all'inizio perché è stato 75 cosa era io avevo fatto il locale Castello di San Nicola una discoteca sulle terrazze era alla moda in estate e cose allora avevo bisogno di qualcuno di comprarmi i dischi appena uscite perché c'è la stagione della musica che esce perché prima che arrivassi in Sicilia o in Italia a volte ai tempi specialmente si perdevano si perdeva del tempo e cose io volevo essere più emancipata e allora i dischi facevano arrivare infatti c'era sempre affollamento e anche per avere un dischi ingresi infatti hanno mandato una ragazza ingresa come dischi e così ho conosciuto Jimmy Fauci poi è venuto a Palermo ne abbiamo parlato prima si è italianato abbiamo parlato e poi ho cominciato io a andare a Londra e di là ho cominciato a vedere che avevo intenzione di comprarmi una casa di fare qualche cosa ma però negli anni successivi quindi diciamo lei si incontra essenzialmente per questa sua intenzione di andare a Londra si con Jimmy era questa per andare a Londra per i dischi ma in secondo tempo quando sono andato due volte là ho pensato visto che avevo una società ho pensato pure di farmi la residenza là che era facilissimo mi sono fatto mettere il regolo nella sua azienda come impiegato pagavo io i contributi da questo mi veniva più facile anche perché già che vuole esercitando che era diventato un'arte in Cosa Nostra un mestiere la gente nota la gente comincia i carabinieri cominciano a fare i rapporti la polizia e allora c'era qualche sintomo di farmi una proposta per la sorveglianza o per il confine e allora avendo la residenza là infatti non ha avuto né sorveglianza né confine perché anche perché non sapevano dove abitavo veramente mi scusi un attimo dottore e allora mi sono fatto la residenza in Igna e Terra ma questo già nel 77 ma già molte volte era andato in Igna e Terra e già ci conoscevamo abbastanza bene con Gilles e Fauci ogni volta che veniva a Palermo veniva a trovare io voglio sapere in particolare se lei è a conoscenza di che cosa è a conoscenza in relazione a traffici di sostanze stupefacenti che sono stati posti messi dallo stesso Fauci e se può specificare in concorso con quali uomini d'onore questo dopo però mi sembra che dal sì lo collo chi vede dal punto di vista cronologico che ho parlato anche nel 77 mi sembra il fattore che Gilles Fauci comincia a fare qualche cosa illegale la comincia quando nel 79 il principio del 79 mi sembra è stato dopo un viaggio che hanno fatto in Igna e Terra Stefano Bontade Caetano non mi scusi Laos Caetano Cina Girolamo Teresi Mil Moteresi chiamato Santo Inzerillo fratello del più famoso Totuccio Inzerillo sono andati in Igna e Terra per vedere una mossa di cani che c'era Stefano che era malato sui cani di caccia sui cani di buona razza voleva vedere una mossa di cani e se poteva comprare dei cani mi sembra comprato qualche cane andando la Stefano e specialmente Teresi con Santino Inzerillo visto come era accezzato il Faus che aveva una compagnia di importe e sport c'è venuta la felice idea di se l'hanno chiamato perché poi so tutto perché sono nate dei discorsi e io ho dovuto sapere tutto come erano andate le cose signor Di Carlo può parlare più forte o avvicinarsi al microfono perché si sente un po' lontano ho dovuto sapere tutto come le dicevo per motivi che poi sono successe delle discordanze fra i bontati e Teresi con Faus e allora mi hanno dovuto mettere tutto in chiaro erano andate là sono state qualche settimana e ci hanno proposto a Jimmy Faus visto che era accezzato bene che i container ci andavano e avevano dei depositi di genere alimentare e cose di poter importare Ashish il Teresi ci ha rientito la testa dei miliardi che poteva fare che era la realtà ce l'ha fatto molto facile ma Jimmy era una persona che mai aveva fatto nella sua vita e non è per difenderlo perché la realtà in questa situazione poi ne avrebbe fatto una giorno non aveva fatto mai di queste cose illegale cose si ha messo a disposizione e ha detto sì organizzo datemi un po' di tempo vedo perché io qua non conosco gente di di questo mestiere in Inieterra e datemi un po' di tempo comunque e hanno fatto due carichi il primo e il secondo ci ha spedito il Teresi con bontate e gli altri sa che quantitativo di sostanza stupefacente ma non mi ricordo più perché non l'ho vissuta diretta l'ho vissuta quando si è trattato poi che quasi quasi stava nascendo l'omicidio di Fauci se non c'ero io e se non era amico mio e se non intervenivo io perché poi ho dovuto intervenire per soldi quando tutti i soldi non sono stati pagati non so quanto era all'inizio due volte hanno mandato questo a Ciccinini in terra Fauci si dà da fare per vendere però era uno strato perché il mestiere non solo del mestiere non aveva avuto mai a che fare con persone chiamavoli o criminale o che facevano questo inglese specialmente comunque fosse avuto fiducia soldi non ce l'hanno portato tutti indietro lui vedendo tutto questo bene di Dio tutte queste miliardi perché i Ciccinini poi fanno faccia a diventare miliardi e in quel periodo si è sposato si è comprato qualcosa ha rinnovato non lo so che ha fatto pensando che poteva fare pensava che durava sempre questo benessere ha speso di più di quelle che aveva quando hanno chiesto i conti e non potevano mandarci più per un periodo anche perché poi l'ho capito io in secondo tempo e sono intervenuto dicendoci a Stefano Bontà come mai tu vai a fare un affare del genere e compromettere chissà il mio nome perché io ero scritto nel registro dei impiegati se avrebbe successo un sequestro di droga vai a vedere che non ci toglieranno in testa ai magistrati oppure alla polizia che io non ero coinvolto specialmente Franco Ticcarlo che fa potevano capire che io non sapevo niente Stefano Bontà dice ma io ho chiesto a Gimme mi ha detto che tu non c'entri nella ditta ma nella ditta veramente non c'entri ma sono messo là come impiegato ma poi tu devi chiedere a Gimme che non è cosa nostra tu hai il dovere di chiedere a chi è di cosa nostra comunque Bontà ha fatto una brutta parte con me e l'era discutita ma poi tu devi chiedere a Gimme che non è cosa nostra tu hai il dovere di chiedere a chi è di cosa nostra comunque Bontà ha fatto una brutta parte con me e l'era discutita solo che io non porto, perché era un amico mio anche in bontà, non porto cosa avanti perché sono azioni che si pagano in Cosa Noce comunque, tutto questo non ce ne ha mandato più però voleva tutti i soldi per pagamento, Jim si trova in difficoltà a pagare Jim le dice, ma devo riscoderle Jim dà appuntamento per portarcele e non ce le porta questo è grave a uno di Cosa Noce mi ricordo siamo già nell'80 nell'80 mi ricordo Stefano Contate si fa portare a Jim con Gaetano Cina accompagnato nel suo proprietà, Giardini che aveva una grande proprietà se l'aveva fatto portare per sangolarlo e io ero latitante già ma ero a Palermo in quel periodo mi viene mentre poi me lo raccontano altrimenti non l'avrei potuto sapere me lo racconta lui stesso ha visto spuntare altri soldati di Stefano che Jim non poteva capire che erano soldati perché non è Cosa Noce dice, ci sono avvicinato a malo modo solo che c'era Teresa e Teresa ha fatto riflessione dice, ma Franco tu sai che è intimo di Stefano se l'ha chiamato cosa dobbiamo cominciare perché l'avrebbero capito se lo toccavano io sarei andato a Reina e raccontare la situazione già che l'avevo già fatto presente perché a me mi toccava farla presente Reina Bernardo Brusca e tutti e allora l'hanno lasciato vivo però ci porto i soldi dice, vedete mai nessuno se n'è andato vivo quando Jim per Jim io ero rincacciabile anche quando ero l'attitante mi rincaccia viene col viso colore di questo bicchiere bianco spaventato di quello che ci stava per succedere dice, sono vivo per un uro caso e allora io ci ho fatto un sorrisino ci ho detto no, ma non penso perché Stefano non è una persona di questa, sai perché io sono Cosa Noce non posso mai parlare con uno che non è Cosa Noce a dire che ammazzavano me non esiste comunque finito tutto il discorso e dice io non so come pagare non so come fare tutto e quasi mi incontro con Stefano Bontate dopo qualche dieci giorni che c'era una riunione a Favarella da Michele Greco ci incontriamo là e mi dice Stefano fra me le deve fare dare i soldi di quel fannullone ma certamente vede che l'ho lasciato per rispetto tuo allora le dico Stefano tu lo sai che in Cosa Noce per soldi non si può ammazzare dice sì vero io le regole le so come le sa feva lui però dice per il preso in giro sì mi ha dato assolutamente non l'ha portato tu sai dice che uno di Cosa Noce non si può prendere in giro l'ha girato in quel modo e aveva ragione comunque ho cercato vedi di temporaggiare a questi che vogliono i soldi e tutte cose ma poi dopo Giambiente è morto Stefano e le cose sono cambiate il dottore Gozzi beato Gini perché altrimenti nemmeno io l'avrei potuto salvare senta una cosa vorrei sapere lei ha parlato di questo traffico di droga in cui è implicato Gini Fauci nel corso della sua collaborazione lei ha parlato anche di traffici di droga in cui è implicato lei stesso sì poi Gini nell'82 all'inizio dell'82 perché pensava Gini con la morte di di bontate che avrebbe finito di pagare questa situazione che non c'era nessuno invece queste si lasciano situazioni mi ricordo dopo la morte di bontate mi viene Pietro Loiacono che era il regente assieme a Giovanni Purlarà della famiglia di Santa Maria di Gesù mi viene e mi dice Già ma neanche a chissà tu visto che è amico tuo questo doveva dare dei milioni alla famiglia non so quant'è un 200 milioni più o meno alla famiglia di Santa Maria a Gesù so che so che ce l'hai incaricato tu ci ho detto no no non datemi responsabilità sembrava che in fine in fine era come ce lo dovevo dare io ci ho detto no non mi dai responsabilità ho detto a Stefano che cercavo di spingere però so che pure in mezzo ho lasciato ci sai perché c'è la famiglia che ha un sacco di te famiglia come Santa Maria di Gesù perché non so dove sono andata a finire non sanno tutte le famiglie dove sono andata a finire a parte queste di di fauce piccolezza ma tanti uomini d'onore che avevano messo svariate centinaia e milioni perché Stefano e Terese avevano raccolto tanti soldi e l'avevano investito va bene ce lo sappiamo però che non abbiamo niente hanno a che fare con gente più pulita e così ci stiamo vedendo e così mi racconta la situazione comunque di Gim ci ho detto è mezzo alla strada vediamo siccome io devo fare un lavoro se posso aiutarlo nel senso che potevo darci io qualcosa a Gim se era capace di portare le niente e terra si poteva rifare però nel gioco chi si vuole rifare a volte perde l'uno e l'altro e così all'inizio dell'82 l'inizio a metà dell'82 anzi all'inizio io comincio con Santa Paola che eravamo amici intimi Santa Paola come? Nitto Benedetti Nitto Santa Paola si tratta di un uomo d'onore e quale famiglia per te? si tratta di uomo d'onore si tratta di capofamiglia di Catania e capoprovincia poi è diventato anche e con suo con uno della sua famiglia un certo Francesco Mangione che sembra si chiamavano Mangione Mangione una cosa così Sciuzzo lo chiamavano va bene è un certo strano quello che si interessava ma non era uomo d'onore questo strano no che era strano strano come cognome ho partecipato per comprare direttamente a a Beirut una certa quantità più di ascici io ho messo dei dollari ho dato a questo strano un giorno mi è venuto a trovare però sotto sembra a dirigenza di Nitto e poi ci tenevamo in contatto allora sapevo doveva arrivare questo carico mi hanno detto loro quanto ce ne vuoi tu mi hanno detto io do questo quando arriva 1500 kg parte mia poi è arrivata mi sembra a giugno quando è arrivata a giugno mi hanno avvisato mi hanno rintracciato mi hanno avvisato e così ho venduto un carico di 600 kg a uno di partanni trapani come si chiamava a cardo un certo a cardo stefano a cardo che aveva che aveva un socio non lo so a nord d'italia e così ho fatto dare appuntamento in una bomba a benzina vicino a Catania questo furgone va a caricare a Catania a Nenitto a Santa Paola in campagna non a Nenitto perché ce ne consegnano 600 kg a me i soldi già me l'avevano consegnato però questo furgone viene sequestrato alle porte di Roma mentre se la portavano a nord in quel periodo Jimmy ci vedevamo spesso mi sembra che ero andato a Londra scendevo e allora aveva saputo che mi era arrivata che avevo e mi prega di poterce ne dare 200 kg ma Jimmy era senza una lira e ho fatto il conto mi faceva pena visto la situazione che aveva ce ne do 200 kg in fiducia se arrivava in Igna e Terra avrebbe avuto anche a chi che guadagna sia per lui sia per me invece vendercela per dire allora ci ho detto 200 kg e te le do però se arriva in Igna e Terra guadagna a parte di quanto costa e guadagna per tutte e due invece non è arrivata mai l'hanno arrestato mi sembra a nord d'Italia e ho perso la tutto questo è il secondo carico che aveva fatto Gino per rifarsi e ne ha perso tutto se ne è andato in caccia è diventato pregiudicato per questo è diventato un trafficante di droga questa ragione a meno un'altra cosa che volevo chiedere lei ha riferito anche non le chiedo i particolari già è sceso in particolare su questo traffico di droga ha riferito anche di altri traffici di droga in cui lei è stato implicato sì dopo ho messo soldi perché non le facevo io direttamente questo era uno magari che aveva ma c'erano a volte che venivano e mi dicevano se volevo mettere la mia quota se li puoi indicare solo sinteticamente quelli che ha già riferito all'autorità giudizia sì avevo messo 300.000 dollari con Totuccio Micalizzi che mi ha parlato anche Gasperi Mutolo ma non sapevo che lavoro doveva fare Gasperi Mutolo con la nave Sara Riccobone Totuccio Micalizzi ho messo 300.000 dollari avevo messo prima anche 50.000 con Totorreina che non me l'ha risiedito più indietro perché mi ha fatto sapere che si sono persi quelle di Sara Riccobone è finita come è finita non c'erano più il muro non potevo chiederle più a nessuno ma le avevo messi sì a questo punto passiamo questa però non era Agisce venga a precisare era Erorina Senta lei ha conosciuto abbiamo parlato fino ad ora del di Gaetano Cina anzi prima le volevo chiedere un'altra cosa lei ha detto che il fratello di Gaetano Cina Totocina quello che era uomo d'onore a un certo punto viene messo da parte posato diciamo ricorda in che periodo è venuto e sa per quale motivo si dice viene messo fuori famiglia posate un genco proprio palermitano che qualcuno lo esprime in questo modo ma di solito nel Cosa Nostra e nelle famiglie dice messo a riposo oppure fuori famiglia perché una volta si rientrava poteva capitare dopo un mese poteva capitare pure dopo anni perché di Cosa Nostra molte persone sono state messe fuori famiglia o a riposo come si suol dire e c'è stato Ciccino Madonia c'è stato Francesco Pippo Gambino un figlio di Madonia ce ne sono state tanti cioè non era una cosa a volte capitava un'accusa o qualcosa fino a che non si chiariva si metteva a riposo e allora Totò Cina è stata messa a riposo finché non si sistemava la situazione familiare era una situazione interna alla famiglia che aveva e la puoi specificare? mi viene sempre dura parlare così intime e familiare delle persone perché sono molto delicato e gli altri anche e Totò Cina ha avuto la disgrazia di avere una figlia che si va a innamorare di un polizotto ma questo sarebbe niente arrivato a un certo punto sono punti di vista chiaramente disgrazia per Cosa Nostra si si per carità io sto parlando come Cosa Nostra in quel periodo ma anche per lui perché era la situazione quella che è però c'era una cosa magari in una famiglia a volte non era la prima che può capitare però là c'è perché di solito c'è padre e madre che vanno d'accordo e allora moglie e marito con grande dolore allontanano la figlia non hanno frequenza e cose mentre là la moglie era d'accordo con la figlia una parte della famiglia che è d'accordo in questa situazione Totò si viene a trovare solo Totò si viene a trovare solo che deve fare una cosa che può fare o se ne va in galera per tutta la vita che ammazza moglie figlie e tutto o o fa quello che ha fatto per fortuna che è meglio questa la seconda e cioè che ha fatto che ha fatto ha fatto sapere a suo comandamento la situazione cosa era nella famiglia anche quella mentalità che c'era tantissimi in cosa nostra invece a questo comportamento è vedere e prendere tempo perché a volte quando capita in una famiglia molto intelligente se ce n'erano possono dire e vabbè che puoi fare vedi com'è lo fai concedere lo mandi a Milano a lavorare insomma l'allontare tua figlia o ti separe ma siccome in cosa nostra non molte capiscono certe cose familiari hanno detto o l'ammazzi tutti o tu sei fuori cosa nostra e hanno messo a Totò che mi è venuto piangendo con le lacrime per dire piangendo con le lacrime perché era una persona interna era buona come carattere non so cosa abbia potuto fare o meno perché con me non ha fatto mai niente però era una persona buona con le lacrime e allora ciò l'ho comportata ciò che vuoi fare può capitare a tutti oggi siamo a 2000 una ragazza che i sentimenti non si non si possono cambiare insomma quello che potevo dire però non ci potevo fare niente io ci ho potuto fare niente però non ti allontanare non pensare che si invergognava quando ci incontravamo e cercava di evitare io ero l'apitante ci andavo a prendere il caffè ho cercato di comportarlo questa è stata la ragione che è stato messo fuori famiglia non lei sa se poi anche dal punto di vista familiare ci sono state delle ripercussioni cioè per capirci il Cina è rimasto con la moglie? no no già si era separato subito mi ricordo che aveva una situazione ingresciosa si era separato subito a meno poi non l'ho seguito anche perché sono cose molto intime uno non chiede cerca di senta lei queste cose le ha prese direttamente da Totocinà in questa occasione in cui è venuto da lei o anche altre persone gli hanno parlato? no ma anche con altre perché Totocinà si ma poi anche con Tanino certo Tanino non mi può parlare è stato messo fuori famiglia ma si parlava della situazione interna della famiglia propria famiglia intima di suo fratello con Tanino e anche con Gim ne abbiamo parlato o qualcuno che conoscemmo e anche ne ho parlato mi sembra con Giovanni che ci veniva ci veniva ci viene nipote che era combinato Giovanni Città Giovanni Città senta in questo procedimento oltre al Cina ha imputato anche Marcello Dell'Utri lei ha avuto modo di conoscerlo? ho conosciuto ho conosciuto Dell'Utri ho avuto modo di conoscerlo sia la prima volta sia molte volte che l'ho incontrato può specificare può specificare quando l'ho incontrato la prima volta? ma nei primi anni 70 nei primi anni 70 dove l'ho incontrato chi glielo ha presentato? ma presentare così perché a me non mi risultava in quel periodo che era cosa nostra ma poi l'avrei saputo presentato come amico come si presenta normale e me l'ha presentato Tanino Cina dove? ma eravamo in un bar non so se in un bar del quale bar ma a me sembra quello che c'è più sopra di dove aveva il negozio Tanino Cina bar Via Libertà quello che chiamavano il bar del Viale l'ha capito? ma forse questo lei ha avuto poi modo di incontrare nuovamente Dell'Utri Marcello? beh Dell'Utri l'ho incontrato quella volta qualche altre due volte sia nel negozio di sportivi là davanti però c'erano un'altra gente di l'uomo d'onore sempre in questa via a Chimeti come si chiama sia poi l'ho incontrato a Londra sia l'ho incontrato prima di Londra mi sembra era stato prima sì prima da Stefano Pontati una sera però non abbiamo fatto mai amicizie così conoscerne così anche perché non lo so non siamo anche che io ho un carattere aperto e forse lui era questa che c'era una concedita che lui era un carattere chiuso non siamo diventati mai amici senta ha incontrato dell'utri anche a Milano va bene questo è stato più all'inizio ancora dopo quella volta che l'avevo visto in via libertà è la prima volta dottor Evole mi può specificare come a Milano Grazie a tutti. Il secondo incontro? Non ho incontrato solo lui, c'erano altri, per quelli che sono i miei ricordi. Ero andato a Milano, ma prima che partissi a Milano mi sono visto con, mi ero visto anche con Stefano Bontate, Teresi e con Cina. Ma sapendo che io stavo andando pure a Milano, ci abbiamo dato un appuntamento l'indomani a Milano, in un ufficio che loro conoscevano. E che io andavo sia là e poi in altre forze, vicino il Duomo di Milano, si dovrebbe chiamare Via Larga. Uno dei pochi indirizzi che mi ricordo, visto che ci andavo sempre a trovare persone di Cosa Nostra in questo ufficio. Lei sa di chi era questo ufficio? Questo ufficio era una società, a parte che c'erano tanti uffici in questo palazzo, per quelli che sono i miei ricordi. Era una società, non so che cosa importavano e sportavano, comunque là c'erano sempre signorine che giravano, segretarie. Mi incontravo con Ugo Martello, che lo chiamavano Tanino, che era latitano da tanti anni, dalla famiglia di Bolognetta a Cosa Nostra. Mi incontravo con qualcuno di Pippo Buono, a freddo, e c'era un certo Pergola, però non era Cosa Nostra a Pergola. Che era più, come dire, più addeggiato nel lavoro di lui dentro, perché lo vedevo che lui si muoveva come lavoro. Gli altri si muovevano per ragionare cose di Cosa Nostra, in qualche altra stanza o meno. Prima di proseguire, visto che ha parlato di Pergola, lei sa se questo Pergola aveva rapporti con queste altre persone che lei vedeva all'interno di questi locali? Lei ha citato Ugo Martello e, se non ricordo male, Pippo Buono. Sì, scelta che aveva un rapporto. Infatti, loro che muovevano tutto, ma alle spalle c'era Pippo Buono, perché era il capofamiglia. Può dire che il ruolo aveva all'interno di Cosa Nostra Pippo Buono? Sembra che l'ho detto, capofamiglia di Bolognetta. Però quasi tutta la famiglia l'aveva a Milano, aveva un sacco di giovani, combinati. Senta, lei perché doveva andare, doveva recarsi a Milano? A parte tutto che io a Milano ogni tanto andavo per motivi di lavoro. Allora, mi sembra che ho detto prima che avevo una società per azione e avevo autotrene articolate, avevo un ufficio anche a Genova e a volte capitava visitare qualche cliente o per portarci fatture per pagare o dovevo andare. Ma molte volte ci andavo anche, pure che mi vedevo, specialmente prima che arrivassero Luciano Ligio, ogni tanto ci vedevamo. Si ricorda come si chiamava questa sua società di trasporti? La mia? Sì. Per certo mi ricordo, c'ho messo il nome. TESS, Trasporti Espressi Sicilie. Società per azione, perché c'era una TESS che non era per azione, a volte ce la confondevano, mentre quella mia è S.P.A. Senta, in questa occasione quindi poi vi siete incontrati con il Bontate presso questi uffici? Poi sì, ci siamo incontrati con questi uffici perché Stefano lo sapeva, c'era stato in quell'ufficio e poi c'era uno che guidava la macchina e che risiedeva, non mi sembra, a Milano, pur essendo cosa nostra, a Palermo da Stefano ed erano molto abbientate a Milano e allora sapeva strato e tutto e ci è venuto facile a venire a trovare con una macchina grande e è venuto Stefano, Terese, Tanino e questo qui guidava. Tanino, lei intende chi? Tanino Scinnà. Tanino Scinnà? Sì. Mimmo Terese e Stefano Bontate. C'era anche Tanino Martello, Ugo Martello? Nell'ufficio sì, va bene, ci siamo salutati solo così e non mi ricordo se abbiamo preso caffè o siccome già si faceva l'orario di andare a mangiare e abbiamo detto no, non mi ricordo aperitivo. Comunque ci siamo salutati, poi con Tanino mi dovevo vedere la sera perché molte volte andavo a dormire in casa di Tanino, lui era latitante, non lo sapeva nessuno veramente dove abitava e molte volte mi ha ospitato, cosa che non faceva con molte, eravamo pochissimi proprio quello sopra. Senta, c'era anche Nino Grado in quell'occasione? E questo era l'avutista che guidava, chiamiamolo avutista per carità, in cosa nostra non c'è solo avutista, uno deve guidare. E' un'offesa quando si dice l'avutista a un altro, deve guidare o perché uno non può guidare e non c'è la patente o perché uno deve guidare, ma non è mai l'avutista e l'altro è il capomandamento o non è il capomandamento. Era Nino Grado che guidava perché conosceva Milano bene. Quanto tempo siete stati nei locali di questa ditta di Martello, di Ugo Martello? Ma non mi ricordo, ma non più di qualche ora. Poi ci siamo messi in macchia, a me a Tanino, che con Tanino, con gli altri eravamo intimi, invece con Stefano, ma con Tanino era più con me che scherzava sempre, avevo battuto scherzi, mi chiamava, perché mi diceva che ero sempre gentile, per vestire, mi chiamava il barone. E scherzavamo sempre, a sfottò, a volte anche. E ci siamo messi tutti in macchina, diceva andiamo a mangiare, ero con noi e poi aveva un puntamento. Dopo mangiare siamo andati nel pomeriggio in un ufficio. Sì, aspetti, prima di arrivare a questo punto, visto che lei diceva che siete stati per un'ora nell'ufficio di Ugo Martello, ricorda di che cosa avete parlato, che cosa avete fatto in questo... Ma là, sicuramente non di cose così, un po' superficiale, non è... Perché se Stefano deve andare a parlare con Martello di qualche cosa seria, deve andare a parlare con Pippo, buono. Especialmente ancora siamo prima del 77, c'è molta severità. Ma parlare così, non di... Come? Non mi ricordo, parlare di cose così, che si può parlare, di Belano, come qua, di cose... Poi se uno deve dire qualcosa riservato, se lo chiama a parte a uno e tu dici. Così, un'oretta, un'oretta, che cosa si può parlare. Senta, ricorda qualche cosa relativamente proprio alle persone sia di Tanino Cinà che di Stefano Pontate e... in quel momento, cioè, per esempio, soprattutto in relazione al vestiario delle stesse persone. Ah, va bene, queste erano pure le cose di Tanino Cinà con me che è spezzato. Dice, guarda, guarda che sono elegante. E dove debbano andare, che debbano andare a incontrare. E di qua, di là. C'era sempre questo sfottoato. Anche perché, poi capisco perché era lo sfottoato e cose. Quando arriviamo dopo mangiare, dopo aver pranzato in un ristorante di Milano, che Nino Gratto mi sembra era conosciuto lì dentro perché l'hanno salutato, il capo cameriero, la proprietaria. Dopo aver mangiato, siamo andati in un ufficio nel pomeriggio. Ma non molto lontano da dove abbiamo mangiato e... Comunque, doveva essere Milano Centro. Una città che non ho mai capito Milano. Specialmente, che guidava e si andava scherzando, non ho potuto vedere quale sciade ha fatto. Comunque, siamo andati in questo ufficio. Siamo andati in questo ufficio. Signor Di Carlo, prima di arrivare all'ufficio, lei, come mai, va pure lei a questo appuntamento? Le venne detto con chi era l'appuntamento? Per quelle che sono i miei ricordi, mi hanno detto di andare con loro perché poi pomeriggio, anzi, la sera volevano che stavo con loro, ma con Stefano veramente ci trattavamo bene anche. Poi mi hanno detto con chi si doveva incontrare, ma a me a quel tempo il nome non mi diceva niente. Mi hanno detto che si doveva incontrare con un industriale, un certo Berlusconi. E con... E ci sarà, mi ha detto, i Dellucci. Dellucci, me lo ricordavo di quella volta che avevo preso il caffè con Tanino. Però non mi dicevano niente, nell'uno e nell'altro. Perché conoscevo l'industriale per motivi di lavoro o si sentivano. Però proprio a quella non è che mi faceva impressione. Poi forse perché ero abituato a trattare con un bar industriale o con altre persone di una scelta. E mi ero impressionato, chiunque sia. Magari per loro, non lo so. Ma loro non erano perché c'era Teresa che era un grosso costruttore a Palermo. C'era Stefano Pontate che veniva di una famiglia agiata, una famiglia che hanno trattato sempre con politici e tutti. E allora non penso che erano anche... Però a me non mi diceva niente il nome. Comunque siamo arrivati là, se lei vorrà sapere. Quindi dico, ma le venne specificato per quale motivo, le vedevole che lei fosse presente? No, no, il motivo non me l'hanno specificato prima. Poi sono là e ascolto. Va bene, perché visto che non erano discorse segrete, poi io ero Cosa Nostra, a parte tutto c'era Tanino là che non era Cosa Nostra, assistito perché era il più interessato direttamente con Dell'Utri, perché capisco che Tanino aveva portato questa amicizia di Dell'Utri e Belluscone a Pontate e a Teresa. Cioè Tanino doveva essere pure presente. A parte tutto, visto che c'è anche il Dell'Utri che non è Cosa Nostra e Belluscone, nemmeno. E allora non c'è motivo perché sarei uscito io per non interessarmi le cose di Cosa Nostra, segrete con altri, ma era una cosa così. una cosa normale a quei tempi, che ognuno industriale o qualcuno che aveva bisogno si rivolgeva a Cosa Nostra o per mettere un'azienda o per garantirsi o per quello che c'era la situazione. Poi le chiederò a chi si riferisce in particolare. Per adesso continuiamo su questo specifico tema. Volevo sapere se lei può collocare temporalmente questo incontro di cui stiamo parlando. Come anno, intendo dire? Mi sembra che dovrebbe essere... Non so se era primavera o autunno del 74. Primavera o autunno del 74. Com'è che risale alla primavera o all'autunno? Ma risalgo perché io ero vestito, gli acci pure, una giacca. Magari io avevo la gravata. C'era Tannino che aveva giacca senza gravata. Nino aveva, Nino Grada, per quelli che sono i miei ricordi, un giubbottino di antile, quello là che avevo. Non avevamo cappotto. E per me là non avere cappotto non può essere inverno. Lei ricorda come erano vestite anche le altre persone per riuscire a farci capire anche qual era il periodo di tempo in cui si è svolto il lavoro? No, non posso avere giacca e cravatta. Ma non ero vestito, altrimenti io nemmeno avrei avuto la giacca che non sopporto, non mi sta appeggiata. Senta, quindi siete arrivati in questo ufficio, ma ci può descrivere di che cosa si tratta? Dove si trovava l'ufficio? Era un palazzo? Era una villa? No, no, non era una villa, era un palazzo. Le dico che era un palazzo non moderno. E nemmeno antico, come dire, come potrei paragonare. Via Roma vecchia qua, da noi altri, questi palazzi possono avere, non so, 60 anni, 70 anni. Questo tipo così. Per quello che era grande la sua percezione? Sì, almeno, per quelli sono i miei ricordi. Palazzo, non lo so, all'inizio del Novecento, non ho idea di quando, più o meno. Però non erano né moderne e nemmeno antiche di quella costruzione, antichissime. Antichissime? Non erano antichissime? Eh, siete entrati? Era un palazzo, siamo entrati, non mi ricordo se era primo piano, e c'era un ammezzato prima, c'era il primo piano, erano due piani, comunque non mi viene. Siamo entrati, a venirci all'incontro, è stato proprio il Macello del Lugge, che io conoscevo, avevo visto la prima volta, una persona bassina. E ci ha salutato una stretta di mano. Con Tanino si è abbaciato, con gli altri si è abbaciato. Con me no. Lei come è stato, no, lei era già, già lo conosceva. Sì, lo conosceva, una stretta di mano, ma io ero, sono stato sempre un po' Cristia, abbaciata, poi non essendo Cosa Nostra, che magari con Cosa Nostra ero bricata, a volte si immagina. Senta, le ha detto che si è abbaciato con le persone che erano insieme a lei, con tutte le persone? Sì, sì, ma anche con, visto che è un grato che si conosceva bene, perché hanno avuto battute di scherzo. Ma si davano del lei o del tu? No, del tu, con me si dava del lei. E in particolare si è abbaciato anche con Stefano Bontate? Sì. Forse Stefano le dava del lei e Stefano le dava del tu, perché Stefano non aveva queste grandezze. Senta, visto che stiamo in questo, proprio che stiamo parlando di Stefano Bontate, mi descrive un attimo lo stile di vita, non veramente i fatti che lei ricorda di Stefano Bontate. Aveva altre amicizie, diciamo così, altolocate? Dottore Gozzi. Una vita dispendiosa. Dottore Gozzi, io conosco Stefano Bontate, ma se ci devo raccontare la vita di Stefano mi sembra che facciamo. No, 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 assolutamente, perché penso che il Presidente non me lo permetterebbe. No, semplicemente in generale, certamente se è del caso, soltanto ancorando dei fatti obiettivi, ecco. Non giudizi, non le chiedo un giudizio, ma dei dati di fatto che lei ha potuto personalmente percepire. Stefano Bontate era, a parte tutto, era una persona intelligente, a parte che aveva fatto una buona scuola, va bene, si era diplomato nei Gesuiti, aveva una licenza classica. Ma a parte tutto era cresciuta in una famiglia, perché ho conosciuto il suo padre, rigido, però molto aperto, abituato a ricevere a casa sua, prima sua, vico come paterna, molte politici, molte persone, di un certo livello, compreso la sua omonima Margherita Pontate, che era di casa, mi raccomando. Stefano Bontate era una persona che avrebbe voluto portare Cosa Nostra a un certo livello, fino agli ultimi anni, fino ai mesi prima che morissi, fino all'80, perché poi all'inizio dell'81, i primi giorni, ci siamo incontrate e l'ho capito negli occhi che non ne poteva più, e doveva iniziare a fare qualcosa. Solo che ci è venuta male, è venuta al contrario. No, io volevo sapere, lei se conosceva comunque altre persone importanti? Sì, ma aveva rapporti con il direttore di banca, con politici palermetani e... I nomi vorrei, signor Ricano. Ma come si chiama, era di caso, con Mimmo Teresi e Pulpora, come si chiama, Polpora, Sebastiano Polpora. Va bene, perché mi ha fatto delle cortesie, Teresi così, trame, e lui, ma qualche piccolezza così. E... E che se sindaco che hanno ammazzato si chiamava Inzalaco, con Stefano era intimissimo. Poi c'era un... Il nome non mi ricordo, politica locale. C'era come si chiama, che era regionale anche, ci andava, mi sembrava una pecorella che ci andava, come diceva Stefano. Si fa vedere quando ha bisogno di voti, appena dice poi lo chiamo, viene sempre con me. E... Iucolano. Mi ricordo bene questo nome. Iucolano. Iucolano si dovrebbe, si doveva chiamare, ai tempi. D'acquisto, tutti l'aveva, va bene. D'acquisto di... Mario D'acquisto. Va bene. Solo con Mario D'acquisto, siccome poi era intimo con il senatore, chiamavolo senatore, ma non era senatore, topo greco, ha cambiato un po', perché le cose, tra di Salvo e anche Salvo Lima, ha cambiato un po', e allora si è aderito un po' dell'altra parte. Ma c'era il senatore Cerame che Stefano voleva combinare nella sua famiglia, mentre poi so che lo combinano, esce da Michele Greco. era abituato in questo modo. Senta, quindi questo per quanto riguarda i politici, lei ricorda anche se presso, per esempio, funzionari di polizia o magistrati, comunque appartenenti all'amministrazione pubblica, la bontata avesse le conoscenze? No, no, questo non lo so, va bene, comunque i suoi conoscenze l'aveva, però posso dire solo una conoscenza diretta che avevano, siamo sempre nello stesso quasi cognome, commissario, vicequestore Burpi, anche perché abitava nello stesso palazzo, un palazzo che aveva costruito Mimmo Terese e l'aveva a portata di mano, per qualsiasi cosa. Senta, sa anche se aveva rapporti con Trada Bruno? Beh, i rapporti l'aveva però direttamente lui, no, ci faceva tenere a Saro Riccobono, era più intimo con Saro Riccobono, Stefano non l'ha voluto ricevere mai, ma Stefano era difficile che riceveva sbirro, scusate la frase, si esprimeva così sbirro a casa sua, nemmeno a quell'insalago voleva a casa sua, che era figlio di sbirro. Senta, al di là di questi, vi erano rapporti, non so, ecco, le dicevo con appartenenti all'amministrazione pubblica, giornalisti? Sì, ma anch'io ho visto una volta un giornalista, che non mi ricorderei più come visto, da Stefano Bontate, ma ci andava a mangiare sempre un giornalista da Stefano Bontate. Giornalista di quale giornale? Dal giornale di Sicilia, poi mi sembra che l'ultimo periodo l'avevano trasferito, l'81 l'avevano trasferito a Messina, sempre a livello di giornale di Sicilia. Era intimo con Stefano, ci teneva, le piaceva, ma anche perché Stefano aveva una sua classe. Senta, un'altra cosa, le volevo chiedere, sempre rientravo nella domanda che avevo fatto originariamente, che tipo di vita conduceva? Cioè, aveva dei villini, che macchine acquistava? E basta. A parte tutto, Stefano Bontate è uno di quelli che ha guadagnato miliardi e miliardi perché è stato nel suo mandamento, e poi nella sua famiglia aveva i più grossi trafficanti che c'erano in Italia. Prima di sicarette, anni 60, fino a metà anni 70, e poi i nascici e altre cose, e starebbero nella sua famiglia. Masino Spadaro aveva nave e Nunzio a mattina o la mattina, come si dovrebbe chiamare. Questi erano proprio il suo mandamento, anche che erano a Portanova, perché facevano parte il mandamento di Stefano. Non si muoveva fuori se Stefano... proprio nessun mandamento, anche che erano a Portanova, perché facevano parte il mandamento di Stefano. Non si muoveva fuori se Stefano... Questo è una disponibilità di danaro. Dico, ma al di là di questo, lei ricorda se il Bontate aveva una villa? Certo, l'ho vista costruire questa villa. Dove ci trovava questa villa? Era una villa grande, piccola? Non so se... come si chiama? Via Borre... La... che va... Dalla Guadagna che va verso Villa Grazia, a metà, di fronte ai casi popolari. A destra, salendo verso... andando verso Villa Grazia o Alto Fonte, sulla destra c'è la villa costruita da Stefano Bontate, una grande villa. E Bontate amava anche... E si centrava anche dalla strada principale, come lo dico io, e poi c'era una piccola travessina che si internava, c'era il muro, il giardino e si andava a entrare... C'era un grande portone, si andava di dietro. Poi avevamo modo di parlarne specificamente della villa. Io voglio sapere, oltretutto, se lui amava anche le macchine sportive, se ricorda questo particolare... Sì, aveva macchine sportive, però non era un grande proprio amatore. Sa dove le acquistava queste auto? Ma quando si trattava di Alfa Romeo, da Lillo Adamo. In che rapporti era con Lillo Adamo? Buonissimi rapporti. Buonissimi rapporti, ma non perché lo considerava Stefano... assai. Era Lillo Adamo che considerava moltissimo Stefano, anche perché il giame di Stefano cercava di pagare meno possibile nelle zone dove aveva dei concessionari dell'Alfa Romeo. Va bene, senta, abbiamo fatto una digressione, ritorniamo di nuovo all'incontro che è avvenuto in questo palazzo antico, ma non antichissimo, come diceva lei. Vi è venuto incontro Dell'Utri Marcello, vi siete salutati e poi siete andati dove? Me la rifà la domanda, mi scusi se tolta la ricorda. Sì, sto parlando dell'incontro con Dell'Utri Marcello a cui sono presente, lei diceva Tanino Cina, Stefano Bontate, Mimmo Teresi. A Milano, giù? Sì, a Milano. Quindi, una volta che vi ha accolto, poi dove siete andati? Siamo arrivate, siamo entrati, c'era una sala, c'erano persone che a volte si vedeva, c'è stanze che andavano e venivano, siamo entrati in una grande stanza e c'era una scrivania, c'erano qualche, mi sembra qualche divano per sedere, queste sedie, ci siamo seduti là. dopo un po' di tempo è spuntato questo signore sui cent'anni, cent'arrotte anni e hanno presentato il dottore Berlusconi. Senta lei? Hanno presentato a tutti, hanno presentato a me, ricorda chi faceva la presentazione? Dell'Utri, a Tanino lo conosceva però. Come venne presentato Stefano Bontate nella fattispecie, la ricorda? Il signor Bontate, Stefano Bontate da Palermo, dove era stato giornalisticamente più conosciuto Stefano. Io appena a quei tempi non c'ero stato mai e ero fortunato. Senta, nell'ambito delle presentazioni lei, non ho capito bene ha fatto un accenno, poco fa ha compreso se qualcuno già si conosceva? Sì, con Tanino, per quelle che sono i miei ricordi, non posso affermare, già conosceva Tanino. Chi si conosceva con Tanino? Con Berlusconi. Senta, lei ha modo di individuare Berlusconi in chi? Perché, come sa, ci sono due fratelli Berlusconi. Berlusconi è questo che oggi fa il politico, l'altro non lo conosco. Lei è sicuro di questa individuazione? Su che cosa si basa? ma perché dopo qualche anno poi l'ho visto, a parte che l'ho visto poi è capitata un'occasione di vederlo, subito dopo, ma a parte che poi dopo qualche anno leggendo il giornale la volta che aveva cominciato a uscire qualche giornale o nome o che comprava società o qualcosa allora veniva più poi ce ne ho sentito parlare tanto in seguito e allora a Tanino e tutta la situazione e allora non ho avuto dubbio che era quello che ho incontrato ed era quello anche là perché ho sentito parlare là di Milano 2 ho sentito parlare di quello che aveva bisogno poi veniva normale che io chiedevo a Tanino anche perché ci sono stati discorsi in seguito a questo incontro cosa era successo poi cosa ci hanno chiesto e cosa e Tanino si confidava con me perché Tanino ricordiamoci non era cosa nostra Tanino certe cose le faceva pensando a fin di bene però comunque le dico una cosa se io sarei stato a posto di Tanino me l'avrei tenuto per me Berlusconi e Dell'Utri tutto per me e che l'avrei pittu la casa questo è un altro discorso senta lei ricorda ritornando a questo incontro come erano vestiti nella fattispecie ci ha parlato di come erano vestiti Teresi Bontate e Cina come era vestito Berlusconi e come era vestito Dell'Utri Dell'Utri era un vestito non mi ricordo più il colore ma blu scuro Berlusconi è venuto con un ma vestito blu scuro come giacca e cravatta si giacca e cravatta mentre mi ricordo questo dottore che è venuto il dottore Berlusconi me l'hanno presentato non era quello di adesso senza capelli aveva i capelli va bene era un castano chiaro e era un maglioncino a giropolo una camicia sotto e un maglioncino a giropolo e un jeans no jeans proprio un pantalone jeans sportivo era comunque ricorda se ci fu qualche cosa vi siete detti qualcosa hanno creatano a cenare relativamente a questo abbigliamento dopo quando siamo dicevi stamattina hanno fatto un'ora come le donne a truccarsi a petturarsi ma chi bontate terese che sembrava a chi doveva incontrare che quello ci è venuto in jeans un maglioncino è un battuto tanto per scherzare verso terese verso bontate senta andiamo al contenuto di questo incontro prima di tutto lei ha detto che ci sono stati 15 minuti circa in cui siete rimasti con i dellutri e ancora Berlusconi non era arrivato ricordati che cosa avete discusso in questi primi 15 minuti se avete discusso di qualcosa ma no con me perché quando si è di più di 4-5 che parlano passano quei 10-15 minuti quindi non c'era una discussione comune non c'è un discorso serio di poter ricordare si parla di tutto e di niente successivamente all'arrivo del Berlusconi di che cosa appena si arriva a parte tutto che poi è arrivato anche il caffè che hanno fatto arrivare il caffè ci hanno offerto il caffè e quando arriva Berlusconi poi cominciano a parlare di cose più serie più serie di che cose anzi parlando di lavoro di lavoro ognuno che attività faceva più o meno mi rivolgo un particolare su Mimmo Teresi che Mimmo Teresi stava facendo due palazzi in quel periodo a Palermo e Mimmo Teresi non mi ricordo se ha detto certo c'è lei dottore sta facendo una città intera e lui diceva ma guarda che amministrativamente non c'è molta differenza amministrare due se uno si deve organizzare senti Carlo non si sente bene dovrebbe mettersi più vicino amministrativamente guarda dice che non c'è molta differenza se uno deve organizzare un'amministrazione curarne due e curarne 20 non c'è differenza questo chi lo diceva? Berlusconi comunque però io lo dico in due parole in sintesi ma ha fatto 10 minuti e 20 minuti parlare e ci ha dato una lezione economica amministrativa per quello che che era la situazione di costruzione perché forse aveva finito o aveva finito o aveva in costruzione una città due come chiamavano Melano due per quello che ho capito perché ancora non sapevo niente e hanno cominciato a parlare in questo modo e poi poi sono andate nel discorso di garanzia perché ma oggi è preoccupante a Milano perché forse io lo sapevo non forse a Milano succedevano un sacco di rapimenti io ne sapevo parlare perché quando c'era lì Giofore quello aveva intenzione di portarsi tutti i soldi del nord a Corleone poi di questo parleremo specificamente di sequestri al nord quindi si parla di sequestri aveva ragione Berlusconi di essere preoccupato per quello che era la situazione cosa disse lo ricorda? dicendo che era preoccupato ci ha fatto raccontare la situazione Stefano ma la parola in quel minuto l'aveva Stefano sia perché era un capomandamento sia perché era Stefano poi era il diretto interessato io ero completamente che nemmeno avrei dovuto esserci ma c'ero perché per l'intimità e poi erano cose discutibili che si potevano discutere ma anche comunque sia visto che c'era gente che non era Cosa Noce e anche ero là perché Stefano le piaceva camminare con persone che poteva fare figura nello stesso tempo presentare a Berlusconi che aveva Cosa Noce che non conosceva Berlusconi però capiva mafia e cose garanzia che quello aveva giovane alle spalle cosa poteva essere in Cosa Noce si fanno queste queste scene show e gli dicono l'ingresso ero là e hanno parlato che lui aveva dei bambini dei familiari che non non stava tranquillo avrebbe voluto una garanzia e qua Marcello mi ha detto che lei è una persona che mi può garantire questo ed altro chi gliel'ha detto mi scusi Berlusconi Berlusconi ha detto che Marcello Dell'Utri lo poteva garantire no Marcello Dell'Utri aveva detto che Stefano poteva garantire Macello Marcello mi ha detto che lei è una persona che può garantirmi questo ed altro allora Stefano Modelli ci ha detto no io qua e là sa come sono però lei può stare tranquillo se dico io può stare tranquillo deve stare dormire tranquillo lei avrà persone molto vicine che qualsiasi cosa lei chiede avrà fatto e lei rassicurandolo poi c'ha un Marcello qua vicino e qualsiasi cosa si rivolge a Marcello Marcello chi? Dell'Utri e non c'erano altri Marcello la dottore senta ben ha detto anche quindi se ho capito bene gli disse che avrebbe avuto qualcuno accanto si ci metteva Dell'Utri accanto e poi ce le mando qualcuno se già non ce l'ha allora si sono guardate perché non so se già ce l'avevano dato loro stesso sia Tanino che sia Marcello qualcuno vicino comunque si sono guardate poi mi hanno discusso quando sono usciti l'ha rassicurato dicendo ci metterò qualcuno vicino e già poi dice già la persona dice più più intima mia perché a questo punto cerca di alzare un po' il Dell'Utri nel senso di amicizia con Stefano dicendo c'è una persona che può garantire perché Marcello è molto vicino a noi altri Marcello è tutto le solite parole di circostanze quando una persona deve fare uno più importante di quella che è di fronte agli altri è così una cosa la volevo chiedere ma se Dell'Utri era così come lei sta dicendo adesso c'era bisogno di mandare quindi un'altra persona accanto al Belluzio ma Dell'Utri non è cosa nostra quindi non è l'uomo da noi ma siccome quello capisce che tramite i Dell'Utri ci arrivano tutto a Stefano agli altri direttamente a Stefano dice c'è la persona Dell'Utri quella poi ci mandiamo qualche persona vicino al di mandare deve essere cosa nostra senta lei ha detto che Berlusconi si è riferito in particolare a queste possibilità di sequestri ha riferito anche delle minacce specificamente la si è parlato che lui aveva avuto settore sì una cosa così impressione di che però se minacce non mi ricordo specificamente ma niente dicerano perché noi di cosa nostra prima minacciavamo e poi ci andavamo a fare la garanzia è una cosa normale in cosa nostra altrimenti che bisogna uno chiedere senta venne detto comunque in ogni caso da dove proveniva cioè chi temeva temeva per quello che è siciliano i meridionali siciliani temeva ma ero in quel periodo mi ricordo anche io sapevo di Catania visto che era molto abitato di Cosa Nostra ma c'erano molte anche emigrate catanese che non è Cosa Nostra messinese siracusani calabrese ma venne detto in quel caso specificamente di messinesi catanesi no no io per dire cosa c'era in quel periodo e allora tutti avevano preoccupazione ma Cosa Nostra stava con gli occhi aperti prima che facessero un sequestro e anche questa gente stava pure con gli occhi aperti perché Cosa Nostra li ammazzava ne sparivano tante ne strangolavano tante a Milano gente che non è Cosa Nostra Senta quindi siamo arrivati al punto in cui Bontata replica al Berlusconi dicendo che avrebbe mandato una persona fidata ma successivamente come si è sviluppata la discussione se c'è stata ulteriore discussione fuori poi mi ricordo perché realmente siccome non era una cosa che mi interessava molto allora capita mi ricordo se già c'era andato Mangano ho sentito di parlare Mangano ma visto che Stefano aveva detto ci manda una persona sia Danino sia Dell'Ut quando si sono guardate poi fuori di Scena ha detto a Stefano e a Teresi ma Vittorio già c'è Vittorio o avevamo pensato Vittorio perché questo Vittorio era amico anche di Dell'Utri diceva va bene allora c'è tanto per quello che che deve fare quello che vale perché in Cosa Nostra non è la presenza di uno di Cosa Nostra è tutto ci potevano mandare pure a nessuno ma c'è Cosa Nostra che protegge basta che si sa che è protetto di Cosa Nostra e ci viene difficile o chi lo fa il sequestro ci viene pure difficile avviverlo il sequestro e allora diceva bene Mangano per quello che deve fare per quello che deve essere ma comunque il rapporto è sempre con Dell'Utri senta Mangano quindi in quel momento Vittorio Mangano è l'uomo d'onore alzino che io lo dissi o no lo volevano combinare no non sto parlando di Vittorio Mangano che mi ha detto Vittorio Mangano ah te scusi non so dove era la mia mente Vittorio Mangano è Cosa Nostra e io l'ho presentato nel 72 o 73 chi glielo presentò lo ricorda? ma eravamo dietro la villa si chiamava la clinica Villa Serena dietro Villa Serena c'era un capannone c'era presente un certo un capodicino della famiglia di Portanova si chiama Giovanni Lipari sì e c'era un altro della famiglia del Borgo Borgo Vecchio Tanino Tanino Calisti si dovrebbe chiamare non mi ricordo per quale motivo per qualche cosa io ero andato là e mi hanno presentato a mano ma glielo hanno presentato ritualmente cioè una presentazione sì sì come Cosa Nostra perché là e quelle due erano Cosa Nostra e io le conoscevo da tanto tempo e quando sono andato là siccome a questo mangono non lo conoscevo e l'avevano fatto da pochissimi mesi io per questo non lo conoscevo mi hanno presentato questo mangono che era una persona alta con capelli molto castane molto chiari ma sono stato tanto tempo per non vederlo più poi forse l'ho visto un'altra volta non ho avuto mai intimità con questo di Cosa Nostra quindi ritornando all'incontro non ho capito se lei ha detto se il nome di Mangano venne fatto nel corso dell'incontro o successivamente all'incontro mi sembra all'uscita o se ne è parlato anche all'ufficio un minuto così ci lasciamo a Vettorio o ci facciamo andare a Vettorio non mi ricordo dopo 20 e rotte anni però si è fatto il nome di Mangano là si è fatto il nome di Mangano perché ho capito pure dopo che ci teneva sia Tanino che sia Dell'Utri ma Stefano non ci teneva molto a Mangano infatti ma parte tutto non aveva niente in contrario e poi non poteva dire no perché in quel periodo apparteneva al suo mandamento Mangano ricordiamoci Mangano è a Portanova Portanova Pippo Calò a quel periodo ancora non c'era mandamento ed era da Stefano Bontato per essere chiaro senta quindi per terminare perché lei io le avevo fatto una domanda poco fa lei mi ha detto quello che è successo in pratica dopo la fine dell'incontro terminiamo questo incontro di cui abbiamo parlato siamo arrivati al momento in cui come le dicevo Bontato replica dicendo che avrebbe mandato una persona fidata anzi lei ha detto una persona che deve essere cosa nostra cioè deve essere un uomo d'onore ma certo detto questo che cosa come continuò la discussione ma ha continuato fuori perché no ma due parole proprie perché poi Tanino Tanino ci dice ma Stefano così così mi ricordo se già c'era oppure avevano parlato a Mangano se già faceva servizio dice ma che fanno ce la siamo a Vettorio va bene e Stefano diceva ah lasciateci a Vettorio però i rapporti erano di più con Macello dell'Utri infatti poi c'è un discorso che me lo porta Tanino questo discorso dopo pochi giorni perché ci ho chiesto com'è finita e mi ha chiesto Tanino i soldi che ci avevano fatto chiedere senta lei ha detto fino ad ora se ho capito bene delle richieste che sono state fatte dal Berlusconi al Bontate Bontate fece delle richieste al Berlusconi Bontate ma Bontate quando si ragionava là ci ha detto ma perché non mi era accorso visto che si parlava un po' prima del fattore del sequestro dei figli dei familiari che poi figli proprio non ha detto familiare per quelli che ricordi miei si parlava di costruzione e cose Stefano ci ha detto alla fine ma perché non viene a costruire a Palermo in Sicilia questo lo disse Stefano Bontate si rivolto a al dottor Berlusconi al dottor Berlusconi che cosa venne ha risposto lo ricordo ma con una battuta un sorriso sorgnione ci ha detto ma come devo venire proprio in Sicilia ma come qua i meridionali siciliani c'è un problema qua e devo venire Stefano ci ha detto ma lei è il padrone quando viene là siamo a disposizione per qualsiasi cosa così è stato battuto questo come un discorso senta ricorda se Berlusconi disse altre cose a Bontate Berlusconi anche lui alla fine ci ha detto che era pure a disposizione per qualsiasi cosa lo dicevano a Marcello di quello che poteva era a disposizione a disposizione non so se il milanese c'è la disposizione differente del siciliano perché a noi quando ci dicono la disposizione cosa non si deve essere a tutto significa che deve essere disponibile di tutto voi avete avuto modo di parlare con il Bontate di questa disponibilità che era stata espressa come era stata percepita dal Bontate Bontate che aveva sempre tantino di osservare e aveva avuto una buonissima impressione aveva avuto una buonissima impressione e con battute che di solito poi ci voleva arrivare Cosa Nostra che dobbiamo cominciare a farle ingrandire ci sono persone che non sono nate in Sicilia perché in Cosa Nostra si deve nascere in Sicilia o fino a Napoli era arrivata che in Napoletano però di un certo livello come Cosa Nostra ma se non era a Napoli in provincia o in Sicilia non si può fare parte mai di Cosa Nostra c'era stata una battuta un giorno ci cominciamo a combinare gente fuori della Sicilia finalmente perché ce ne dice tante che discutono meglio di siciliani però sono battute che si pensano così però a arrivarci ce ne vuole anche quando le dico se poi ci dobbiamo arrivare in questo discorso negli ultimi mesi negli ultimi anni di vita di bontate col fattore della massoneria ci voleva arrivare per avere un sviluppo logico sia delle domande che eventualmente delle risposte se possiamo percepire ciò che è la domanda del pubblico ministerio in relazione a determinati fatti alcuni altri avvenimenti che ricorda che fanno riferimento allo stesso contesto temporale se fanno riferimento lo stesso contesto temporale a cui si dice la domanda oppure se non sono delle opinioni che filtrate attraverso i contatti successivo da frequentazione con il montale perché francamente non sto capendo bene rispetto al pubblico ministero quello che è avvenuto in quella riunione è da quelle che sono considerazioni o fatti io ogni volta chiedevo se si era verificata all'interno della riunione quindi nel corso della discussione o successivamente ma fino ad ora mi pare che abbia discusso soltanto di questione avvenuto alla riunione o subito dopo comunque possiamo fare direttamente la domanda signor Di Carlo se può specificare relativamente proprio a queste ultime circostanze che lei ha riferito quando le ha apprese da Stefano Bontato scusi un attimo che ora raffreddone non posso parlare c'ho il naso completamente atturato mi scusi mi scusa la colpa Presidente se potessimo sospendere cinque minuti così richiediamo il tempo al il territorio connesso di riprendersi e poi decidiamo anche come regolarci come programma eventualmente come dire è disposto a continuare pubblicità pubblicità di riprendersi si ma adesso ripeto appena cinque minuti così che poi concordiamo anche sul da farsi per il dopo pubblicità durerà ancora l'età è ancora parecchio ancora sì un po' di tempo allora possiamo discorre terminiamo questo va bene allora continuiamo su questi episodi e poi vediamo ancora ci sono un po' di domande su questi episodi signor Di Carlo lei può riprendere sì mi ripeto la domanda per favore sì la domanda era questa anche su sollecitazione dell'avvocato della difesa del Dell'Utri se lei può specificare relativamente a queste ultime circostanze che ha detto queste cose che le sono state dette da Stefano Contate quando le sono state dette se erano riferibili diciamo com'è che lei le riferisce a queste circostanze di cui aveva prima parlato ma alla fine di quell'incontro va bene alla fine di quell'incontro abbiamo parlato di quell'incontro poi io forse sono andato più avanti parlando di Cosa Nostra in generale dicendoci l'opinione l'intenzione più che opinione l'intenzione che aveva Stefano Contate di portarla più Cosa Nostra più ampia e più civile va bene ma quel discorso l'abbiamo fatto dopo dopo il discorso ne ha visto c'era fatta una buona impressione Berlusconi c'era fatta una buona impressione anche come si esprimeva e tutto e ha commentato in questo modo ma era una battuta come commento che avrebbe voluto cominciare a combinare Industriale a Milano perché non dipendeva solo di Stefano Contate ci vogliono la commissione ci vogliono tutti senta io le volevo fare alcune domande relativamente a queste circostanze che lei ci ha riflettito ad alcune lei ha già dato una percezione di risposta però vorrei che rispondesse più specificamente in maniera più organica lei ha detto di essere stato invitato a partecipare a questa riunione prima di tutto vorrei che ripetesse chi l'aveva invitata di tutte le persone presenti chi le disse di andare alla riunione ma tutti tutti i tre specialmente quelle più principali ho capito lei mi può specificare come mai lei poco fa diceva che all'interno della commissione già nel 74 75 c'erano due fazioni anche più di due fazioni sì ma non era lei a quale di queste fazioni diciamo apparteneva lo può specificare io io era amico con tutti lei era amico con tutti ma era è fedele solo a Bernardo Brusco perché era il mio capomandamento perché c'era un amico con tutti e fedeltà è un'altra cosa per sempre specialmente in Cosa Nostra poi le dico fino al 77 Cosa Nostra non era tutta questa così frazionata così sì piano piano perché era reina era come dire come si chiama quell'animaletto che scava e non se ne accorge un tallo va bene sotto sotto perché io lo vedevo lo sentivo lo sentivo parlare per 7-8 ore quando viaggiavamo per andare a Napoli e lo ascoltavo e lo guardavo e le dicevo ma tu hai allora solo un contrasto con questa gente perché tutta questa gente ha una dinastia di 300-400 anni dei nonni ave che erano in Cosa Nostra e si sono arricchite e tu non c'hai prima di te nessuno nemmeno suo padre povere erano state e avevano fatto galera povere proprio mi ricordo negli anni 70 che hanno fatto una colletta io ho uscito soldi per pagare un avvocato con leonesi famiglia queste sono le motivazioni molto profonde dei contrasti che sono nate all'interno di Cosa Nostra come mai lei che comunque era vicino a Brusca e tramite Brusca a Riina anzi lei era vicino anche direttamente a Riina Salvatore come mai Stefano Abbontate invita proprio lei a questo incontro ma mi sembra che stiamo parlando all'inizio di anni 70 a parte questo io ero vicino con tutti ma con Stefano Contate eravamo amici prima di essere Cosa Nostra va bene perché siamo un villagrazio alto fondo che c'è stato è quasi sempre là con mio nonno andavo a casa di Don Paolo e tutti ci conoscevamo eravamo intimi cioè io quanto volte ho mangiato con Stefano Contate non si sa sia fuori nel ristorante sia a casa sua cioè non c'era a parte tutto non c'era questa di distinguersi questa situazione e cioè essere presente là non era a parte tutto che eravamo a Milano a parte tutto non era una cosa segreta in un territorio ognuno si aveva un amico industriale se poteva fare qualcosa fuori della Sicilia fuori che non c'è una famiglia che controlla quella zona poteva fare quello che voleva senta lei diceva anche che è stato invitato ricordo così vagamente quello che diceva che è stato fatto una specie di scena una specie di show che si usa all'interno di Cosa Nostra che cosa intende dire? show è la parola inglese sì no questo lo so cosa significa show no vorrei sapere cosa intendeva dire in particolare in relazione a questo voglio sentire dire uno specialmente che va in un industriale che non ha abitiato in Sicilia perché in Sicilia basta che dicevano puntate e puntate o per quelle che eravamo conosciuti di Carlo e di Carlo allora la gente più vicina lo sa eppure che ci vado solo sono sempre io ma in un industriale a Milano quello si immagina questa mafia dovrebbe essere forse l'aveva vista in televisione o non lo so in qualche cosa allora ci ha voluto fare vedere che ha giovani abbastanza puliti eleganti insomma che possono controllare possono fare possono dire non ci va a spiegare chi ero io e io chissà se lui avrebbe voluto bisogno di me io dovevo dire il mio capomandamento prima che andasse là però faceva la sua figura Stefano e questo è giovane non ci va a spiegare questo è mio questo è di un altro mandamento e questo è di un altro posto vabbè è chiaro questo no la volevo chiedere un'altra cosa quindi lei ha riferito comunque al suo capomandamento a Brusca Bernardo o anche allo stesso Rina Salvatore di questo incontro che ebbe a Milano ma non c'è motivo non sono andato a fare un reato io non sono andato ho dovuto dire che non c'è bisogno di dirlo ma mi sono visto a Milano eravamo là siamo andati a mangiare così se c'è una cosa specifica o se mi chiamano per fare qualcosa allora c'è il dovere che io glielo vado a dire ma che glielo dice pure Stefano perché un capomandamento anche che un altro mandamento a me mi poteva chiamare se aveva bisogno per qualsiasi cosa però poi si deve mettere a posto mentre se mi chiamava un capofamiglia o un altro soldato io prima che faccia una cosa devo dirlo al mio capomandamento là non c'era motivo non c'era niente ognuno come io mi sono o assistito a discorsi o presentate come amicizia così o presentate come cosa nostra industriale che aveva pippo buono per me non c'era differenza per me non ognuno l'avevamo specialmente se fuori della Sicilia allora io dovevo dire tutti industriali incontriano motivi di lavoro senta lei sa ricorda chiaramente se anche Rina lo stesso Rina Salvatore e Brusca Bernardo avessero rapporti con Bontata che tipo di rapporti avessero in quel periodo ma in cosa nostra i rapporti forzativamente dovrebbero essere buoni fino a che non si spararono tutti va bene perché ha vista lei fino a Natale dell'80 e pensate Natale dell'80 siamo il 23 dell'80 pensate che poi il 23 aprile Stefano Montate muore quanto mesi ci sono 4 mesi e là ci baciavamo tutto c'era riunione siciliana propria di Catania di Ienna di tutti eravamo un centinaio che abbiamo festeggiato e faccio l'agulio di Natale e Capodanno vediamo se uno di fuori che non sapeva se poteva distinguere se c'era un odio che dopo 3 mesi 4 mesi prendevano i scoperti chiamiamole scoperti Marriina e Brusca erano o non erano erano là certo che erano là nella festa se non c'erano loro non c'è si dico e quindi che rapporti c'erano? cuore baci e cose Stefano di qua Stefano di là quando si quando si deteriorano questi rapporti si deteriorano e quando? ma erano già sotto sotto che camminavano e Stefano non ne poteva più ma non erano i rapporti in se stesso che poteva essere che avevamo il discorso di Milano dell'altro il rapporto era potere in Sicilia potere a livello di Cosa Nors perché quello era malato di onnipotenza Reina e compagni e quelle che ci andavano dietro perché io l'ho spiegato prima Reina era fatto così Reina era invidioso e geloso da impazzire Reina cominciata a fare finire Gaetano Batalamenta per questo motivo noi abbiamo saltato della commissione regionale quando Batalamenta è tutto va bene c'è tutta una storia questo era Reina però tutto questo contrasta con Cosa Nors contrasta poi al livello di toccare Cosa Nors a interesse di Cosa Nors Reina voleva fare il padrone nei mandamenti degli altri c'è chi acconsentiva come Bernardo Brusca perché io da quando ho conosciuto Bernardo Brusca fino a che c'era Antonio Salamone no ma quando ho conosciuto Bernardo Brusca che dirigeva il mandamento nostro non c'era differenza di Bernardo Brusca a Reina perché tutto quello che diceva Reina il nostro mandamento era come lo diceva Bernardo Brusca ma non solo da noi poi quello che ha fatto di Madonia va bene senta un'altra domanda sempre relativamente a questa a queste cose che ci ha detto all'incontro ha partecipato Cina Gaetano Tonino Cina che lei stesso ha detto non era uomo d'onore e ha già dato una spiegazione sulla sua presenza io vorrei che ribadisse per quale motivo era presente ma le faccio una domanda diciamo precedente logicamente precedente cioè lei è accaduto altre volte lei ne ha conoscenza che a circostanze di questo genere abbiano partecipato soggetti che non erano uomini d'onore cioè è normale accade in cosa nostra perché dobbiamo sapere mi offongo la domanda perché è generica e poi bisogna capire che cosa significa la circostanza di questo genere Presidente voglio capire che qualificazioni vuole dare a quella che è la premessa della domanda io non ho alcun titolo per dare qualificazioni poi sarà il tribunale che darà la qualificazione io voglio sapere semplicemente se ha incontri tra uomini d'onore e soggetti o delle istituzioni o comunque soggetti importanti per Cosa Nostra come poteva essere chiaramente un industriale poteva partecipare ordinariamente una persona che non fosse appartenente a Cosa Nostra la domanda mi pare che non è anche assolutamente pertinente perché non si tratta tra incontri tra uomini d'onore perché tra un tra nel gruppo dove erano alcuni soggetti poi indicati come uomo d'onore era pure tal uno che tale non è quindi mi pare è proprio su questa la domanda la domanda si credo che sia questo ma è sempre generica va bene ma se sono regole Cosa Nostra vediamo se il sindicato dovrebbe conto sono state ammesse fino ad oggi può rispondere ma qua si ha risposto l'avvocato per me risponde a lei infatti non eravamo tutti Cosa Nostra c'erano soggetti che non erano Cosa Nostra allora non si andava a parlare di Cosa Nostra di presentazione regole di Cosa Nostra si va a parlare di garanzia a un'altra persona che non è Cosa Nostra e allora Tanino poteva ascoltare a parte tutto in quella situazione le voglio ricordare Tanino è la persona che porta questo appuntamento Tanino è visto da Deluce come un grande uomo perché Deluce non è Cosa Nostra non può sapere ma Tanino vede amico con tutto Tanino può andare dovunque e ci risolve cose perché Tanino è parente di Cosa Nostra amico di persone di Cosa Nostra uno che ha gli occhi chiusi come diciamo in Cosa Nostra vede vicinare lo vede come una personalità se lo buttiamo fuori là che figura ci fa allora nessuno a parte tutto là c'è il signor dottor Berlusconi c'è Deluce chiamarlo ma c'è può essere pure il dottore dottore del luce non sono Cosa Nostra allora può assistere possiamo assistere tutti questo è il discorso e capita in tantissime occasioni però non si va a parlare di Cosa Nostra nessuno si permette parlare del regolo di Cosa Nostra no certo infatti io non le stavo chiedendo questo le stavo dicendo siccome chiaramente quello che lei ci ha descritto è una richiesta di intervento formulata nei riguardi di persone che si pensava potessero intervenire avessero il potere di intervenire e mi pare chiaro insomma qual era il motivo per cui si pensava che potessero intervenire io voglio capire come mai voi permettete che venga a conoscenza di queste circostanze una persona che non è di Cosa Nostra ma perché stavamo parlando con gente che non è Cosa Nostra là e poi Tanino per loro perché a volte ce l'abbiamo tutti vicini persone che non sono Cosa Nostra per un motivo o un altro non si combinano però se è così vicino che capiscono tutto sanno tutto ma non sanno come sono le regole ma ce n'è moltissime di questa gente che per un motivo o l'altro non vengono mai affiliati funciuti come si sol dire va bene però sanno capiscono e sono i più muti anzi come si sol dire perché quello di Cosa Nostra poi si sente autorizzato a mettere a parlare tra di loro senta lei sa di rapporti tra industriali e Cosa Nostra che erano intrattenuti tramite soggetti che non erano uomini d'onore mi scusi la domanda mi è sfuggita lei sa di altri chiaramente di rapporti tra imprenditori uomini delle istituzioni eccetera e Cosa Nostra che erano in qualche modo mediati da soggetti che non facevano parte di Cosa Nostra ma ce ne erano tantissime specialmente a Palermo se ci può indicare ma in questo punto ricordo ma è normale specialmente c'è quella persona che è stato sempre vicino a Cosa Nostra ognuno che può pensare che Cosa Nostra io pure prima che mi combinassero guardavo delle persone anche al mio paese mi sembravano grandi uomini mi sembravano che comandava il paese poi quando mi hanno aperto gli occhi va bene dici no non fa parte alla famiglia c'è una persona che si atteggia qua e là però lo teniamo in considerazione se abbiamo bisogno lo chiamiamo è una persona disponibile però non è Cosa Nostra allora l'impressione si può avere un costruttore un uomo di stato o l'istituzione come chiama lei possono vedere in quella persona una potenza chiamiamolo mafioso però non è ma per ognuno ci va perché anzi quello perché uno di Cosa Nostra io nero in paese quando sono diventato poi Cosa Nostra cercavo di minimizzare il più possibile mentre quella gente che non capisce cosa esiste fanno il più grande a volte c'è capo di essere ucciso per fare questa grandezza l'impegno non possono prendere c'è poi chi li uccide per media perché dice io sono il rappresentante e nessuno mi conosce e quello pensano che è il capo per paese prendere invece è una garanzia perché se guardano a lui come capo mafia io risparmio confine e cosa senta un'altra cosa le volevo chiedere sa chi aveva organizzato questo incontro Tanino e Dellucci Tanino Cina e Dellucci Cina parla e Dellucci parla con Tanino e fanno questo incontro e un'ultima cosa le volevo chiedere relativamente a questo incontro lei ha già parlato della disponibilità che venne data della generica disponibilità che venne data dal Berlusconi la disponibilità è anche bontata e spresse cioè che significato ha io le chiedo chiaramente come a seconda delle regole generali di Cosa Nostra cioè che significa mostrare dare la propria disponibilità da parte di un uomo d'onore a un altro soggetto che non è uomo d'onore un uomo d'onore che dà disponibilità a uno che non è uomo d'onore io lo so va bene e l'uomo d'onore lo sa cosa ci sta per dire a volte poveracci quello che non lo sa ne si mettono a disposizione la prima volta non sanno come ci finisce la vita e allora l'uomo d'onore ci c'è a disposizione e è a disposizione di qualsiasi cosa però più è a disposizione e più nelle mani se lo mette con Cosa Nostra nelle mani ne può fare quello che vuole può chiedere quello che vuole più a disposizione è quello di Cosa Nostra pure che si chissà lo disturgono o si ha problemi e lui si rivolgi può arrivare pure a farci il piacere dell'omicidio certo però non si prende l'impegno perché uno di Cosa Nostra non parla di omicidio con uno che non è di Cosa Nostra ma se quello ci racconta i problemi che c'ha poi là cerca di confortarlo poi ci toglie il problema se lo capisce lo capisce se non lo capisce è lo stesso ma mai uno di Cosa Nostra si mette a parlare perché sa per reati con uno che non è di Cosa Nostra solo uno l'ascolta perché questa è per esperienza e ci ho passato perché sono stato capo famiglia mi venivano a raccontare cose erano cose che potevo tutel o ci parlavo io o qua e là una volta ci ho detto a uno visto che mi interessava di prima persona ci ho detto quando te lo porti questo inciniere dal mio paese a centri te lo vado in una cassa l'anno aggiustato la situazione è quella ma quello che mi aveva venuto a parlare io non ci ho detto questo ci ho detto che non era Cosa Nostra che era un mio socio ci ho detto solo ci ho detto ma sì ma non te lo fa a posta l'inciniere forse pieno di lavoro i mandati forse fra un po' di fare i pagamenti qua e là non ci ho detto io oggi mi era in mia intenzione perché se succedeva quel mio socio che non è Cosa Nostra non deve sapere questo è quello mentre dall'altro lato quello che si mette pure a disposizione in industriale non sa che chi si mette in mano a Cosa Nostra mi creda è rovinato perché un passo indietro non lo può fare più solo la morte o si diventa proprietario dell'industria o dell'azienda o soci a poche e poi maggioritari oppure se quello comincia a vedere dove è ridotto vuole fare un passo indietro l'ammazzano e cominciano con gli eredi amministrati perciò se io devo andare sui soggetti devo dire che sono stati fortunati che sono morte sia Stefano Bontate che Teresa fino a quel punto va bene sono stati fortunati perché Bontate aveva intenzione molto serie di allargare e di arrivare dove voleva questo glielo disse Bontate ma questo in secondo tempo quando parlavamo di allargare questo siamo già più in avanti quando voleva arrivare alla massoneria voleva arrivare in tutti i forci Stefano voleva ingrandire cosa noce più in avanti in che periodo lo può specificare 79-80 ricorda anche in che occasione lo fece queste confine parlavano che c'erano discorsi situazione interna cosa nostra che discorso a livello di Palermo a livello della Sicilia e problemi che c'erano a Napoli che c'erano due famiglie che se litigavano sempre due famiglie che erano nate come famiglie due perché prima era tutta una nel 77 e l'idea era venuta a me di fare due famiglie perché ne ho parlato con Reina una notte che eravamo là io Bernardo Brus che è Reina eravamo in un appartamento avevano sempre problemi questa famiglia di Napoli dipendeva da Palermo della commissione di Palermo solo della provincia di Palermo e c'erano sempre problemi perché mezza famiglia era vicino a Stefano e altri e anche patalamente altri l'altra mezza era scelta con Reonesi che erano i nuvoletti ce n'era una giorno allora una sera ero io Bernardo Brus che parlavano dice c'è stato Duccellina ma perché non la dividete fate due famiglie spazio ce n'è tanto tutta la campagna e ha guardato ma sai che aveva una buona idea appena scendiamo chiama il più intimo propone questo e si fa così e così poi è stata fatta dopo due mesi e allora c'erano sempre però problemi ma questa discussione di cui le ha parlato prima è avvenuta in questo caso questa con bontate per capire questa con bontate e dico i problemi che c'erano in quel periodo i problemi in quel periodo c'erano che c'erano persone che volevano che si mettessero in famiglia persone che erano della massoneria mentre per leggi per leggi di Cosa Nostra lo intendo chi apparteneva alla massoneria non poteva fare parte a Cosa Nostra solo nella provincia di Palermo e sia a Bontate sia Michele Gregor e qualche altro volevano che si togliesse questa situazione mentre i cosiddetti cafoni chiamavano per mischianarsi non capivano che significava o meno no 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 perché si sentivano togliere il potere oppure non potevano confrontarsi con queste persone che a maggior parte è più culturata e tante cose questo è un discorso di Stefano ecco perché dove dico Stefano dove voleva arrivare perché Stefano nell'ottanta aveva centinaia di miliardi Stefano aveva un tenore di specialmente con i salvo vicini perché i salvo erano innamorati di Stefano realmente prima di Gaetano Badalamente e poi di Stefano hanno dovuto consentire di essere vicini ai grechi vicini a chiunque sia ma per Stefano si la vedevano guarda che fra la politica e fra il denaro Stefano voleva arrivare dove voleva arrivare ma abbiamo discusso ma qua c'è di parlare perlomeno una settimana se prendiamo questo discorso una settimana no però volevo sapere quindi questi rapporti con la massoneria semplicemente lei sa se poi si sono concretizzati che io sappia no perché poi è stato ucciso Stefano fino all'ultimo no va bene ma se ci stava arrivando si voleva se ci sarebbe arrivato se fosse sarebbero state al contrario a morire erano più ci rire e altro e chissà se morivo pure io Senta lei ha detto chi aveva organizzato l'incontro di Milano lei sa anche chi aveva richiesto se c'era qualcuno che aveva richiesto questo incontro ma l'incontro come ho detto prima è stato tra Berluce e Tanino certo se non lo voleva non sarebbe venuto appuntamento il dottore Berlusconi era tutto programmato l'oreale è tutto ma questa è una sua deduzione dico lei sa venne espresso ma è una deduzione l'ho visto venire aveva un appuntamento con lui ma lo so è l'altro il resto che è la sua deduzione quindi lei si basa su questo fatto per dire quello che dice ma certo queste sono salite da Palermo Presidente io ho terminato su questo specifico avrei da chiedere delle altre cose sempre legate a questa evenienza però successive temporalmente quindi se vogliamo prendere una pausa si potrebbe fare anche vediamo se possiamo tirare fino a certe ore invece di interrompere Presidente io almeno credo che abbia bisogno di almeno un'oretta e mezzo forse due ore mettendo conto che sono le 13.10 credo che possiamo continuare e chiudere con l'esame da parte del Pubblico Ministero invece di interrompere dipendendo come dice e vice con il Rubenello un po' per tutti se ci teniamo in questi termini in questi temporali no appunto Presidente non è prevedibile io pensavo di aver già fatto ben di più di questo ma a questo facciamo pausa poi prendiamo va bene possiamo procedere sento successivamente a questo incontro di Milano lei sa che cosa è avvenuto cioè il Mangano in particolare sa se venne poi inviato effettivamente presso il Berlusconi un attimo solo va bene va bene continuiamo signor Di Carlo ha sentito la domanda poi risponde signor Di Carlo Sì dottor Riccotto dopo ho seguito un po' così la situazione anche perché mi ricordo è venuto ci ho chiesto a chi ci avete mandato o a chi ci è rimasto a chi ha chiesto a Tanino Cina e mi ha detto che c'era Vittorio Mannano ci avevano ci avevano messo vicino non certamente come saliere perché non offendiamo il signor Mannano perché Cosa Nostra non è non è pulita ci sta là nessuno non fa salire nessuno che a Cosa Nostra ha un potere enorme sta vita e miracoli si suol dire nelle mani di uno di Cosa Nostra e allora hanno messo là abitare là a Milano trafficava e nello stesso tempo si faceva la figura che Berluscone aveva qualcuno vicino di Cosa Nostra e Stefano l'aveva vicino basta questo in Cosa Nostra che chiunque sia senti dire un calabrese o un siciliano in Cosa Nostra chiunque sia delinquente vuole fare qualche azione si prendono subito provvedimenti poi ho chiesto e Danino mi ha raccontato dice sono imbarazzato perché dice ma subito mi hanno chiesto di chiederci 100 milioni perché Danino non è che ha capito a queste cose se siamo sempre là non essendo Cosa Nostra pensava ci faceva pagare qualcosa al mese così o mettendoci a quello era già a forza signor Di Carlo no prima che va avanti vorrei sapere 100 milioni di allora degli anni 70 o è il valore di oggi no 100 milioni di anni 70 in principio anni 70 valgono non so quanto valgono oggi come oggi va bene e così Tanino era dice ci mi pare malo qua e là ho detto eh perché tengo a fare tanto sono ricchi e poi si hanno voluto e così ho incoraggiato Tanino e poi mi ha detto sì ce l'ho fatta avere questi 100 milioni poi non ho saputo tanto perché interessarsi poi delle cose degli altri ho saputo questo perché lui si era lamentato o era mortificato perché lui ci teneva posto e pensava faccia una cosa gradiorita a mente a dell'Ugri specialmente in particolare che erano interi e poi a Belluscone che lui mi diceva che aveva intenzione di ingrandire per i sport e tutte queste cose dice sai conosco l'industriale può sapere l'agevolazione rappresentanza di tutte queste cose di sport casa di sport e cose questi erano discorsi di Gaetano Cina fino a quel periodo non era cosa nostra era un ingenuo perché se era uno di cosa nostra se l'avrebbe tenuto più tirato perché questo l'ha già detto va beh senta lei ha parlato di 100 milioni quindi viene data questa somma in un'unica soluzione e poi nient'altro che io sappia questa di 100 milioni ma poi conoscendo cosa nostra e sapendo sono i primi 100 e poi vanno cominciando lei ha conoscenza di questi 100 milioni ma sa se ve ne ero date poi delle altre somme no non lo so vabbè non in relazione non in relazione a questo incontro signor no no all'inizio questo poi non ho chiesto non è che non ho chiesto poi un'altra volta solo ho avuto discorsi con Tanino al riguardo però siamo più avanti non so quanti anni sono passati che aveva il problema che ci avevano detto di mettere antenne la cosa dovevano mettere per la televisione aveva questo problema chi aveva questo problema Gaetano Cina a chi chi si era rivolto a Gaetano Cina di nuovo Dell'Utri Dell'Utri Marcello sì e siccome non erano non erano nella zona di Stefano da mettere questo cosa e allora ecco siamo sempre là Tanino non capiva che pure che non era nella zona di Stefano una volta che è interessato Stefano può dirlo senza Stefano e Stefano ci pensa a lui anche che un'altra zona lo dice sa come mettersi d'accordo con altri cape mandamenti o meno non lo capiva o c'era qualche altra cosa che lo spingeva a non prendere contatti con bontate direttamente ma non lo so cosa c'era anche perché forse vedendo che era erano troppo mi scusate era troppo caro bontate forse aveva queste esperienze comunque mi viene a dire a me visto che era amico di tutti cifra così così sai io ho detto senti Tanino dice dirlo a me tu c'hai mi sembra che ancora suo fratello era in Cosa Nostra c'è la famiglia di Guilles che c'è un sacco di parenti ma poi c'è Mimmo Terese che come essere nella famiglia di Guilles visto che si era sposata con la nipote e figlia di Cosa Nostra di Guilles abitava là ho detto dillo alla Terese dice ma io ti vedo intimo con i Madonia perché mi sembra che è con Saro Riccobono perché qui Sant'Eme doveva mettere Monte Pellegrino che sono sotto giurisdizione chiamavano la Cosa Nostra però sotto giurisdizione era di San Lorenzo che era da Saro Riccobono e Acqua Santa Rinella e Resultana che era Ciccio Madonia dovevano installare poi qualche cosa dovevano installare da Monte Cuccio o qualcosa così che come territorio ci dovrebbe arrivare Ruillas ma erano già installate o era un'intenzione di installare mi sembra intenzione di installare ricorda il periodo in cui avvene se erano installate non dicevano prima ricorda in che periodo dopo quanto tempo dall'incontro di Milano avvenne questo discorso non lo so per aiutare la sua memoria come dice sempre dicono gli avvocati e la difesa alcune dichiarazioni che lei ha reso all'udienza il 25 agosto nel procedimento contro Mangano Vittorio e altri nove associati mafiosi lei ha detto in particolare in relazione a questo fatto che Tanino Cilà la viene a dire che dovevano installare dei ripetitori per associati mafiosi lei ha detto in particolare in relazione a questo fatto che Tanino Cilà la viene a dire che dovevano installare dei ripetitori dice sai ho bisogno così e così ho detto va bene ma tu non sei intimo con Mimmo Teresi e con Stefano Bontate dice e lui questo dovrebbe essere penso Tanino Cilà ma tu sai appena ci chiedo qualcosa subito soldi e sempre soldi ricorda di aver reso questa dichiarazione sì mi ricordo infatti ha detto forse erano più cari va bene perché passano sempre anni e anni alla memoria però mi ricordo più o meno che era il discorso cari in siciliano significa soldi sì quindi diciamo c'era anche questo motivo per cui Cilà non andò direttamente e appunto perché non era cosa nostra non capiva perché se andava negli altri ci sembrava che era differente lo stesso senta lei dicendo parlando poco fa di persone che non sono di Cosa Nostra ma che frequentano comunque l'ambiente di Cosa Nostra ha parlato di occhi chiusi che cosa intende dire che è un'espressione è un'espressione di Cosa Nostra ci abbiamo aperto gli occhi infine ci ha aperto gli occhi il cervello e il tutto che vedono è differente perché mi sembra che poco fa ho portato il paragone che uno vede in un paese qualcuno che ha una reputazione e pensa che è un pezzo grosso come mafia mentre non è nessuno va bene e allora quando ci aprono gli occhi che è combinato allora guarda in un'altra forma la persona sta un pochettino di più senta dopo aver parlato con lei sa se poi Tanino Cina si rivolse a bontate si so che si rivolse a bontate per lei si hanno sistemato tutto perché non mi ricordo se io ho parlato con di questo con con Bono qualcosa o con Ciccio Madonia si sono venuti sa quindi se vennero corrisposte altre somme di Danaro da parte del Dell'Utri per quella che è la mia esperienza se l'hanno messo e sono là hanno pagato se le mettevano senza pagare semplicemente che già qualcuno ha iniziato a pagare per altre cose e poi non paga per altri problemi sarebbe saltato in aria fatti che sono a sua conoscenza va bene per mia esperienza va bene se poi l'hanno messo e sono là e non c'è successo niente hanno pagato in Cosa Nostra non c'è discorso senta queste somme di Danaro sia i 100 milioni di cui abbiamo parlato sia queste eventuali di cui aveva parlato adesso a che titolo venivano date per quello che è a sua conoscenza non per deduzione chiaramente a conto per avere la garanzia di non essere sequestrate non essere toccate e qualsiasi cosa non solo e sequestrate ma qualsiasi cosa può succedere un industriale quindi per protezione per che cosa non lo capisco lo deve specificare meglio Cosa Nostra non usa protezione perché altrimenti in Cosa Nostra si pensa alla parola alla proceduzione protezione in Cosa Nostra era vietato e quindi per quale motivo lo può specificare meglio più di questo i motivi le posso specificare garanzia garanzia Cosa Nostra è tutto garanzia di non essere disturbato chissà ci succede è Cosa Nostra che va a cercare a chi ha fatto la situazione chi l'ha disturbato di non essere sequestrato se sequestrano si va a cercare il sequestratore per come è successo a Monreale nel mio territorio il mio territorio diciamo il mio mandamento con la mandalare se vi ricordate di questo sequestro che non era stato fatto Cosa Nostra l'hanno fatto a vedere mente e subito Cosa Nostra si è messo in giro si è liberata quella donna e i sequestratori in parte sono morti quasi tutti Cosa Nostra dà questa carenzia ma il marito della mandalare pagava e allora ai morialesi quando uno paga ha questa carenzia si ha sequestrato però subito è stata liberata e allora a Belusco non ci è successo non l'hanno sequestrato pagava però se ci avrebbero sequestrato e che poteva succedere vedeva Stefano Bontate con tutti i suoi interessarsi e trovare ho capito senta che rapporti vi erano tra Stefano Bontate e Pippo Calò questo sia nel periodo del 1974 che rapporti erano tra Bontate Stefano e Calò Pippo questo sia quando c'è stato l'incontro di Milano quindi a metà degli anni 70 sia nel momento in cui si parla di queste antenne di quando si parla di questi soldi per le antenne con Pippo Calò tra Bontate e Pippo Calò ma quando era a Milano Pippo Calò rappresenta un soldato di Stefano perché è nella famiglia nel mandamento di Stefano metà anni 70 se poi già ci hanno fatto il mandamento è un mandamento che ha voluto non Stefano Bontate perché facendo il mandamento a Pippo Calò il suo circondario di territorio c'è risretto infatti Pippo Calò ci toglie le famiglie in questo caso l'hanno voluto i Poglionesi perché Pippo Calò è stato uno un po' come dire diplomatico un amatore dei soldi e allora siccome ci interessavano i soldi non ci interessava né Pontate né quasi nessuno faceva il bello e cattivo tempo con tutti questo era Calò finalmente con la latetanza abitava fuori della Sicilia poi l'hanno fatto il capomandamento si faceva girare come voleva uno le diceva sì sì va bene poi appena lo chiamava Totuccio che si sono incontrate davanti di me anche al castello da me in qualche altro posto e cambiava bandiere ma lui era vicino anche a Riina il Calò era vicino a Riina ma io l'ho conosciuto sempre vicino a Riina va bene solo che faceva doppia pagina e Pontate era a conoscenza di questa vicinanza con Riina si sapeva però non cercava di toglierlo come capofamiglia anche perché sapevo che non volevano tante nella famiglia propria di Portanova loro lo stimavano però non le piaceva ma che dovevano fare senta lei in relazione all'incontro di Milano sempre sulla sua collocazione temporale mi sa dire che rispetto a questo incontro dell'Utri Marcello da quanto tempo era arrivato aveva cominciato a lavorare a Milano oppure ancora non aveva cominciato a lavorare insomma come si colloca rispetto all'inizio del suo lavoro presso il gruppo Berlusconi ma non lo so veramente perché appunto le dico a me non mi diceva niente Berlusconi il nome al final periodo sapevo a Milano che aveva nelle società lavorava era almeno Tanino me lo dimostrava diligentissimo di qua di là ci sa fare però non so io di altro quando c'era arrivato se c'era arrivato prima se c'era arrivato dopo sentivo solo questi discorsi non ero io portato a sapere perché non ne vedevo questi con rispetto parlando questi grandi per me erano persone insignificanti specialmente i del luce o ero io che non stavo attento perché non non è che mi facevo questa impressione o se perché ce l'ero abituato io dal 64 che avevo avuto il treno mi giravo a Milano ne ho conosciute veramente ricchissime gente però conosciute così per motivi di lavoro che nemmeno sembravano che erano così ricchi una volta uno mi ha detto questo è Lucchini che a tutti i ferri di tutti i ferri che io carregavo Lucchini sarebbe quello famoso che era molto indusci che era una vrescia che ha salutato quasi come un operaio era padrone di 4, 5, 6 ferri solo là ero abituato non è che mi facevo questa impressione per questo non mi è rimasta impressione niente poi le mie amicizie anche a Palermo ero un giovane abituato a mangiare con persone bene non è che mi facevo impressione forse altro se ci sarebbe pensato qualche altra persona che non avevano scelto mai la mano a un industriale o a un dottore o qualcosa ci poteva rimanere in presa era la prima volta ma io ho mangiato con Nobile ho mangiato con Baccari che purara ho mangiato con tutti i tipi di persone che non mi fanno impressione sì signor Riccardo l'ha detto questo io una cosa volevo sapere a lei visto che ha detto questa cosa lei se ho capito bene vuole dire che nel 74-75 quando è a metà degli anni 70 quando lei si incontra con il Berlusconi lei non ha idea di chi sia non dà grande importanza a questo fatto come mai ricorda questa circostanza mi scuso il dottore non ha l'idea ma non è che io vivevo nel sotterraneo io leggevi il giornale qua e là non è che era Berlusconi di adesso e nemmeno penso che era così ricco come adesso perciò magari potrei dire ma da dove viveva questo dico ma lei va bene 25 anni fa 24 anni fa non penso di avere avuto io questa sanezza dico ma c'è un motivo per cui lei ricorda questo questo incontro ma c'è un motivo perché quando poi ne ho sentito parlare qua e là visto che tutti negano l'evidenza negano qua e là quasi negano l'amicizia negano la conoscenza non mettiamo le cose a forza che sono queste le cose c'è un motivo non si ricorda ma lei ne ha parlato più volte con Cina certo perché fino a 78 come le dicevo non so se 78 o 79 se ne parla ancora o per l'entenne o per altre cose o perché Tanino Cina andava a Milano o perché c'era De Luce o perché De Luce mi sembra che lo incontro nell'80 a Londra nel matrimonio e si prende pure mi dà il numero di telefono suo io ero l'abitante vabbè c'è tutto questo discorso ora ci arriviamo c'è per 6 anni che ne sento sempre parlare 6 anni 8 anni qualche cosa senta sempre una ragione a Tanino Cina lei sa se Tanino Cina oltre ai soggetti di cui lei ha già parlato degli appartenenti di Cosa Nostra di cui ha già parlato sa se aveva rapporti con altri uomini d'onore parentele con uomini d'onore ma il parentele di Tanino Cina mi sembra che l'ho detto tutto posso uno un acquisito non ho detto sarebbe contorno contorno Giuseppe si ricorda che lavoro faceva questo contorno a Pippo Contorno l'ho conosciuto quando non era Cosa Nostra e lavorava in un deposito rivine a tempio di Luciano Liggio che era a Milano stati chi era questo deposito di vini mi scusi signora di era dei Pullarachi in società con Luciano Liggio Pullarachi Ignazio ci ho conosciuto là che non era Cosa Nostra in quel periodo poi è diventato Cosa Nostra e lo zio Giuseppe e ho avuto appuntamento là con Luciano Liggio verso il 72 73 non mi ricordo in questo come si chiama di vini Senta lei ha parlato un attimo per chiarire il tipo di parentere il grado di parentere la tua affinità tra Cina Caetano e Giuseppe Contorno se lo ricorda si ci viene il zio Caetano Cina perché il Contorno si è sposato una Citalda sorella di quel Giovanni che ho detto che è Cosa Nostra è figlia di quel Benedetto Benedetto Citalda la moglie di questo Benedetto Citalda è sorella di Gaetano Cina è una Cina e allora la socia di Pippo Contorno è una Cina sorella di Gaetano Prego Va bene quindi già la domanda che stavo facendo la risposta perché vorrei richiedere un momento di Benedetto Citalda lei ha parlato di rapporti Cina Gaetano con Mimmo Teresi con Stefano Bontate sa ha visto e come ne sa eventualmente di rapporti di Tanino Cina con altri uomini d'onore oltre lei chiaramente ma erano buoni con Mimmo Teresi ma avevo buoni rapporti con tutti cosa noti ricorda altri soggetti in particolare specificamente quando dico con tutti moltissimi certo ma qualcuno a cui era particolarmente vicino come ha detto adesso che erano soldati su contorno contorno anche l'altro anche l'altro che totuccio contorno totuccio questo non so già Federico Federico come cognome Federico il costruttore Salvatore no no Salvatore Federico è un altro fratello contattissimo anche con Inzerillo i fratelli Inzerillo erano intimissimi ci vedavamo sempre e capitava sempre in cosa noti incontrarci dopo a volte sono andato a cena molto volte con Teresa io lui e anche Michalizzi sotto capo di Saror Rippo Buono Senta lei relativamente tornando un attimo a Jimmy Fauci di cui lei già ha parlato come soggetto che trafficava anche con gli stuprofecenti ricorda altre circostanze in cui vi siete incontrati parlo chiaramente di circostanze in un certo rilievo penso che vi sarete incontrate molte altre volte visto che lei lavorava formalmente per la ditta del Fauci in particolare mi riferisco al suo matrimonio sì se non faccio errore si è sposato nella primavera di dell'80 1980 in primavera ma con chi si sposava il Fauci con una donna inglese con una donna inglese ricorda il nome di questa donna sì Shannon e Crin dove si è svolto il matrimonio se lo ricorda il ricevimento successivo certo perché siamo già nell'80 io l'avevo frequentato di due volte e cominciavo a conoscere le zone coste e si è sposata nella zona vicino dove avevano loro i magazzini e l'ufficio sono Lambert Lambert è su di questo di Londra e e invece il ricevimento dove è stato fatto il ricevimento mentre poi è stato fatto chi è andato a Londra mi sembra che è facilmente individuato è la piazza di Piccadilla all'angolo che si fa via Regente Free Regente Free c'è il gran caffè mi sembra di avere vestito in tolato ci sono i bambini italiani che ci si monta sempre perché è di un italiano proprietario come mai ci sono le bandiere italiane? ma non lo so anche perché le origini sue di questo famoso itola itola ingrese come si chiama questa persona forse non l'abbiamo sentito forte si dovrebbe chiamare conosciutissimi l'unico che la regina ha fatto un italiano non lo so senta lei quindi ha partecipato anche oltre che al matrimonio anche al successivo al banchetto al banchetto siamo al banchetto abbiamo marchiato ricorda chi era presente ricorda chi era presente a questo banchetto ma sia al banchetto sia in chiesa c'erano le stesse persone a parte tutto io sono stato testimone di anello per lo sposo mentre Teresi era testimone di anello per la sposa cioè era ero là Teresi sempre Girolamo Mimmo Teresi chiedeva se era Mimmo Teresi Mimmo Teresi sì sì Mimmo Teresi Girolamo Teresi e dalla chiesa anche prima che entrassimo in chiesa chiesa che siamo andati là aspettare che arrivasse la sposa c'era Mimmo Teresi io Lillo Adamo questo della concessionaria di Palermo che io conoscevo così però con la moglie Mimmo Teresi con la moglie e Tamino Cina ma senza moglie un certo architetto moffoletto una cosa così si deve chiamare moffettino moffoletto può essere moffettini e moffettini sì siccome a volte a volte capita negli amici stesso e ci modificano il nome specialmente che non è cosa nostra che ci scherzavano e lo sottenono anche a volte uno che non lo conosce tanto non sa come si chiama realmente questo architetto con la moglie sto parlando partati un po' e Mimmo Teresi parlando tu lo sai che io avevo da tre mesi che ero latitante ufficialmente poi latitante cercavo di farlo sempre per partare inosservato visto il mestiere ha detto tu lo sai che ero latitante mi ricordo ha detto sì sì perché non non ha un'espressione abbastanza facile il dottore Dell'Utri a meno per me quelle che è e chissà viene a Milano chissà franco si trova a passare a Milano mentre da disposizione fa sì mi ha dato i numeri che letto l'ho scritto in maniera che non è però sia di un ufficio sia di casa proprio Mimmo mi ha detto c'ha abitazioni c'ha tutto ne ha fatto dormire tante non ti preoccupare si ha ma io non l'ho usato mai non ci sono stato mai anche se andavo a Milano sapevo dove andare non andavo da loro dormire andavano in quelle che mi sentivo sicuro anche perché siamo nell'ottanta e si comincia sotto sotto che c'è il ritardo abbiamo detto che era il reino a camminare allora uno stava attento con chi si univa con chi faceva e tutto comunque le diede il suo numero telefonico se hai capito due telefoni sì lei come li ha notati questi telefoni lo ricorda li ha notati in qualche agenda in particolare in quel modo io avevo sempre una particolarità di scrivere i numeri a volte i primi due numeri li mettevi in coda perciò a volte passando del tempo non capivo nemmeno io più non mi interessava molto infatti nella mia agenda è venuto difficile quando me l'hanno seguita dal mondo di capire di dove erano i numeri quindi di scrivere in modo che non potessero essere compresi dagli altri sì senta lei ha detto ha già fatto riferimento alle persone che a un certo numero di persone dicendo che erano sedute al suo tavolo sì ricorda e in particolare io le faccio la domanda per Marcello Dell'Utri e per Tanino Cina che sono imputati in questo procedimento dove gli stessi fossero all'interno della chiesa dove fossero posizionati chiaramente si tratta di un posto particolare in chiesa sì in chiesa non l'ho visto perché io davo le spalle ero all'altare visto che ho fatto i testimoni e là era una cerimonia un po' differente perché era fra cattoliche e una protestante non lo so cosa hanno combinato e hanno fatto un pochettino differente dell'Italia ok quindi in chiesa non so dire no io ci davo le spalle perché ero accanto lo sposo come testimone e cosa e anche Teresa non l'ho visto in chiesa mentre a mangiare sì l'ho visto anche perché non era al tavolo con me senta e invece al ricevimento lei ha detto se ho capito bene mi correghe eventualmente che al suo tavolo erano assaluti Danino Cina Mimmo Terese la moglie Marcello Dell'Utri Lillo Adamo e la moglie l'architetto Molfettini e la moglie credo c'era qualcun altro oltre queste persone? no in questo tavolo c'eravamo solo questo Filippo Monteleone dove era Filippo Monteleone si faceva di avutista non mi ricordo se era seduto pure là però si muoveva sempre perché sia Luciano sia Monteleone che lavoravano con Jimmy Favucci e avevano le due macchine che guidavano per portare spostare qualche famiglia erano sempre in movimento non lo so qualcuno ritardava ci capivano in macchina per dire facevano due viaggi non posso essere sicuro se era seduto accanto a me senta chi altri che lei conosce era presente a questo a questo matrimonio in particolare volevo sapere da lei se era presente un certo dottor De Luca si Gustavo De Luca medico era anche al vostro tavolo o era in un altro tavolo non mi ricordo preciso ma di solito Gustavo De Luca specialmente che non era con la moglie e io non ero con la moglie perché con Gustavo De Luca siamo stati molto amici era un ragazzo bravo era capace che non mi ha lasciato mai non so se era seduto con me senta io a questo punto le do lettura di quello che lei ha detto il 7 marzo del 97 perché specificamente lei ha detto ricordo che a un tavolo c'ero io Gaetano Cina la moglie di Mimmo Teresi Marcello Dell'Utri lo stesso Teresi la moglie di Lodamo lo stesso Adamo la moglie dell'architetto Molfettini Molfettini e Filippo Monteleone e questa è la prima delle due cose la seconda cosa contemporaneamente al nostro tavolo c'era pure il dottor Gustavo De Luca palermitano e poi dice tutta una serie di cose sul De Luca che io adesso vi chiederò ricordo di aver reso questa dichiarazione il 7 marzo del 1996 si si ricordo va bene le conferma? si certo che le confermo va bene però il fattore di Filippo mi ricordo si alzava si muoveva appunto che aveva il compito di guidare la macchina e andare a prendere queste persone senti dottore De Luca lei ricorda qualche cosa che ce lo possa fare identificare in qualche modo? ma dottore De Luca mi ricordo che che ci eravamo visti mi sembra la mattina addirittura a Roma che lui era veniva da Palermo siccome l'aereo per Roma perdeva del tempo fatalità si va a prendere un caffè via Veneto va in città io avevo un puntamento alla vicina me lo ritrovo davanti e ci abbiamo preso il caffè mi ha detto ma tu non vieni siccome io ero latitante pur essendo un amico e cose sempre non dico mai dove vado e quando vado e come ci ho detto non penso che ma tu sei testimone sì però dice la gym che forse non vengo lui è arrivato a Londra appena vista a gym la prima cosa che ci ha detto Franco Romero mentre mi ero sentito con gym a quale orario mi dovevo prendere era per non dire uno che è latitante quale ha lasciato a fare quale non fare mi faccio capire dovevo passare la frontiera signor Di Carlo mi scusi se l'ha interrompo mi faccio capire quindi De Luca era invitato a questo matrimonio sì certo che era invitato no siccome lui ha sostenuto di essere capitato lì per caso lei è sicuro del fatto che fosse invitato ma guarda che Londra è 14 milioni di persone per caso mi è sempre un po' difficile trovarci a Londra io ci sono stato latitante e stavo come un pascià lei sa come stavo latitante là e vivevo come un pascià perché nessuno mi poteva trovare è come se trova una persona a Londra mezzo a 14 milioni di persone come un agono al pagliare De Luca ha dormito anche in casa di Fauci De Luca va bene ha dormito in una stanza vicina a quella mia perché lui ha affittato una casetta per ospitare gli ospiti sentite Luca lei sa se con chi è sposato se conosceva altri uomini d'onore ma certo che io conosco De Luca con chi è sposato perché ancora nemmeno era sposato io conosco la famiglia del professore prima padre poi i figli uno è Ferdinando Latteri va bene conosco tutta la famiglia Latteri miei sono persone educatissime persone bene poi De Luca si è sposata con una figlia del professore Latteri fratello di Adelfio sorella di Adelfio sorella di Ferdinando e dove lavora? dove lavorava? ma prima lavorava a Policrinoco e alle dipendenze del professore Bosio in in vascola clinica vascolare e anche nel periodo che poi c'è stato Mangano mi sembra ricoverato la più di una volta e mi portava i saluti proprio chi le portava i saluti? Gustavo Dottor De Luca le portava i saluti di chi? di Mangano di Mangano Vittorio? si le portava i saluti così perché lui ci parlava Franco Di Carlo è mio comparo perché voleva che si è matto un bambino il dottore De Luca da me era così ma era un buono Gustavo una persona le piaceva essere in mezzo così però senza nessuno scopo e senza nessuna cosa ma De Luca era là al matrimonio di King perché si conoscevano perché erano amici e perché me l'ha fatto conoscere a me senta relativamente alle altre persone che lei ha detto essere al suo tavolo e per adesso le chiedo specificamente di Lillo Adamo e della moglie lei sa se queste persone erano state invitate o erano lì per caso e se ci può indicare su quali fatti eventualmente basa la sua risposta erano state invitate e Adamo è andato anche perché era intimo con Teresi Mimmo Teresi perché le moglie si conoscevano perché erano intime erano state invitate per caso nessuno c'era là questo lei lo sa in che modo cioè come è perché ho visto che c'era là erano tutti invitati di Jimmy sapevo prima che ci dovevano andare perché visto che ci dovevano andare uno l'habitante che due mesi prima in giornale a televisione ne aveva parlato Jimmy mi dice a me specialmente la situazione dice vedi che ci sono tizzi 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 che ti conoscono mi metta corrente ecco perché io so che non erano state di passaggio perché di passaggio Jimmy non avrebbe fatto andare a nessuno quindi anche l'architetto Molfettini e la moglie erano invitati sì che erano invitati lei che cosa mi sa dire su questo architetto Molfettini siccome appena mi ha detto Molfettini e sapevo che in società la fuoritalico non so che ci avevano con persone di Cosa Nostra poi mi ha detto Mimmo Terese dice no una persona di Nostra poi era stato il poveraccio in galera infatti mi sembra mi ricorda che nel passaggio alla frontera di Fiumicino hanno avuto problemi perché questo doveva ancora esisteva nelle carte che doveva scontare già mesi cioè se l'aveva fatto non l'avevano cancellato cioè avevano avuto dei problemi in ritardo perdita di aeree e tutto senta per finire quindi è l'imputato Marcello Dell'Utri per quello quindi che gli disse o il Fauci o per quello che lei è venuto a conoscenza direttamente al matrimonio era invitato al matrimonio o era capitato lì per casa ma certo che l'ha invitato ma a parte tutto che le dico che Jim lo ripeto mi aveva detto chi c'erano va bene e questi erano nomi che mi potevano vedere non erano persone che chissà avrebbero cominciato a parlare abbiamo visto là o non l'abbiamo visto là oppure che avrebbe fatto lo sbirro come si sordì tutte persone che ah poi con Dell'Utri anche c'eravamo visti prima come le dicevo da Tanino e non mi ricordo se dopo mi ha visto anche un'altra volta che l'ha avitato perciò non mi ricordo però non erano di passaggio passaggio non siamo in Svizzera in Gnattera si ci va apposto dopo signor Di Carlo questa però è una deduzione voglio sapere se lei ha dei fatti cioè si può basare le venne dette da Jimmy Fauci oppure le venne dette dallo sesso dell'Utri mi è stato detto perché c'era il motivo particolare perché se non ero l'abitante magari lui non mi avrebbe detto niente ci sono là non mi interessa ma giusto che rimessi prima perché io sono stato l'abitante finalmente usci dentro in televisione il 6 febbraio quella non me la ricordo la data 6 febbraio poi lui si sposa mi sembra in aprile perché c'è nemmeno due mesi e sono ho capito quindi la memoria la possono avere fresca le persone mi hanno visto in televisione e se ne parlava tanto signor Di Carlo quindi l'è stato detto da Jimmy Fauci questo fatto si che era invitato si si e l'avevano detto quanto tempo prima rispetto al matrimonio o allo stesso matrimonio non ho capito no no nello stesso matrimonio prima che io andassi con Jimmy ci eravamo visti qualche due settimane prima anche tre settimane prima ho detto chi c'è in questo matrimonio anzi ci doveva andare anche l'avvocato sarebbe fratello di Stefano Bontate chiamavamo l'avvocato che poi era avvocato ad esempio procuratore legale Giovanni Giovanni Bontate con la moglie doveva andare non ci ha potuto andare all'ultimo minuto e come mai Stefano Bontate non era presente? Stefano? si non lo so mi era stato inventato pure ricorda in particolare di discorsi che vennero fatti in quella circostanza discorsi chiaramente che siano rilevanti per questo dibattimento perché di chiacchiere non ci interessa dei discorsi che possono rilevare in questo processo ma discorsi dove? al ristorante? al ristorante o immediatamente prima o immediatamente dopo comunque in quell'occasione ma nel ristorante posso parlare solo in un altro ristorante e non in questo come signor Di Carlo? ho sentito un'altra volta che signor Di Carlo in un altro ristorante poi ho cenato con le stesse persone in un altro ristorante ma dopo che si era sposato o prima non mi ricordo c'è stata un'altra cena in una Asso chi conosce Londra sono Asso vicino a quella piazza che ho indicato in un ristorante italiano di origine però una bentola veramente una taverna e ho trovato sono andato là io avevo un puntamento a chi ero là vicino l'ho salutato tutti e l'ho trovato seduti in questa trattoria e c'erano le stesse persone se vuole di nuovo le menzioni di tutte no le menzioni di tutte perché di questo episodio non aveva parlato mi sono una novità e c'era Lillo Adamo con sua moglie e Mimmo Teresi con sua moglie c'era Jim Favos con sua moglie o c'era già veniva moglie o tanto non c'è differenza avevano convissuto assieme per tanti anni comunque poi era prima era dopo Filippo Monteleone non so se c'era pure Luciani con la moglie Antonio Luciano con sua moglie Tanino Cina e come si chiama non c'era Dell'Utri allora era dopo non c'esse comunque non c'era e mi sono seduto là assaggiando qualcosa perché io dovevo andare a cena infatti vengono persone poi io me ne vado dopo noi mi ricordo i discorsi che c'era a Adamo parlando di Stefano montate attrezzamente cose che erano un principe di qua un aristocratico insomma si parlava e io lo sportevo dicendoci ma chi è un campagnolo un raccoglitore di aranci e manderini si scherzava perché cresce i miei discorsi cioè lì l'Adamo era legatissimo a Bontà a Mendo Teresi e a tutti quelli che frequentavamo sì e che cosa le venne detto in quella circostanza le venne fatto un discorso in particolare che riguardava Dell'Ute ma no quello è stato c'è un discorso che ho saltato prima quando mi sono dati i numeri di telefono dopo io parlo con Teresi però da solo perché quando vengono discorsi di Cosa Nostra si fanno da solo dopo che avermi dato i numeri di telefono non è in questo ristorante dottore Vosio non so io se ho potuto fare con questo quindi stiamo parlando sempre del matrimonio sì del matrimonio stiamo parlando ancora siamo mi sembra davanti alla chiesa quando mi vengono dati i numeri di telefono e poi siamo un po' soli che ci prepariamo per andare a lattare con Teresi comunque stiamo appartati mi dice c'è un buono picciotto in Genco Cosa Nostra si capisce un buono picciotto di qua di una disposizione una persona di qua me ne parla bene mi dice Stefano abbiamo intenzione di combinare a dell'ultimo e allora io tu che ne pensi tu che l'ho conosciuto ci potrei dire ma io non vedo una parola non la spicce che ha mai oppure simpatia non me ne fa non lo so ci ho detto ma voi altri lo conoscete meglio di me ma poi ci ho detto combinarlo voi altri questo dove è nato gli ho detto ci sono Palermo ci sono per Palermo non c'è bisogno lo combiniamo e la stella ma se intimo con Tanino Cina e questo vede Tanino Cina come un grande uomo non so da quanto si conoscono se combinata a De Luce e a Tanino no so che a Tanino non lo potete combinare o meno che lo combinano a Acrylas che fate poi quello ci perde di immagini ci perde di tutto allora lo ricominate tutte e due o niente poi siete voi altri vedete poi mi hanno detto che non l'hanno combinato meno in quell'occasione e mi ripete ma tu lo sai cosa c'è successo a Tanino dice c'è il fratello messo fuori famiglia dice che è più difficile ancora combinarlo in questo momento questi sono stati i discorsi dottore Senta lei sa se successivamente Tanino Cina è stato combinato vede a me non mi sento di parlare di cose che non ho avuto diretto presentato diretto cose presentito non mi è piaciuto mai per delicatezza e voglio essere molto delicato su questo perché non mi piace che chissà la gente dice parla per cose sentite dire ho parlato sempre purtroppo nella situazione cose dirette Sì signor Di Carlo io capisco perfettamente quello che dice lei io non so che deve dire dico ma se lei ha comunque saputo le cose anche del relato come si dice in gergo giuridico lei deve comunque riferirle o si avvara la parola che non risponde Io telefonavo di là e di quelle più intime chiedevo c'è stato qualche altra cosa che avevo bisogno di Danino che ho fatto chiedere e mi hanno risposto in un modo che io come Cosa Nostra però poi l'avvocato dicono ma come ha capito in Cosa Nostra si capisce tutto e si fa tutto va bene dovrei dire sì l'hanno combinato però è una mia capire e mi ha fatto capire perché l'euro è che io dico telefonavo di là lei ci dica in che modo perché non l'ho avuto mai presentato certo sì quindi non è una cosa che lei ha avuto sotto la sua personale percezione questo lo abbiamo capito dico ma esattamente che cosa le venne detto e da chi perché non ci ho detto da chi le venne detto e questa è la cosa più principale che non mi piace fare il nome di chi perché non voglio mettere in taglio la vita degli altri signor Riccardo io lo devo chiedere chi le fece questo nome nome chi le fece e chi le disse queste cose dottore Cose mi avvalgo su questo veramente non voglio toccare la persona mia troppo intima quindi è inutile anche chiedere il resto non sapendo la fonte quindi è inutile anche chiedere il resto non sapendo la fonte cioè se va la facoltà di rispondere a questa domanda la giudica la persona è troppo intima non vorrei dire ci succederà qualcosa ma ci sono cose che si conseguono in cosa nostra ti ascolto è una sua facoltà non rispondo senta noi abbiamo parlato fino ad ora di tre incontri con Marcello Dell'Utri se parlato specificamente il primo incontro è quello presso il bar del Viale presumibilmente poi successivamente quello a Milano e adesso questo di Londra tra quello di Milano e quello di Londra vi sono altri incontri con il Dell'Utri o anche successivamente al 1980 ha avuto modo di incontrare Marcello Dell'Utri in altre occasioni? ci ne dovrebbe essere qualcuno verso il 79 dentro Stefano Pontate sotto Villa chiamavano sotto Villa che era un po' non la senti sì un attimo sto pensando alla parola come si dice in italiano perché in inglese mi ricordo basamento un pochettino sotto il livello delle cantine una cantina ma non ecco un scantinato ma non è un scantinato perché di solito in scantinato si pensa a un garage una cosa è bellissimo è affatto per ricevere amici di Cosa Nostra o persone infatti c'era un grandissimo tavolo una cucina che era metà sala di questa corte e potevano lanciarci pure 100 persone e aveva questo l'avevo fatto per ospitare per fare mangiate come le chiamavano loro riunioni e cose ma non a riunione a livello di Cosa Nostra perché le riunioni sono giorni anche posti però l'avevano fatto qua in questo modo e una sera mi hanno invitato ci sono stato di più una sera una volta eravamo pochissimi mentre quella sera ho visto di più di 20 persone qualcuno in più mi ricordo una scena che c'era Marcello del Duto una scena quante persone erano presenti se ricorda se erano presenti altri uomini d'onore si uomini d'onore ce ne erano tantissimi ma c'era pure qualcuno che non era uomo d'onore chi era presente tra gli uomini d'onore che lei ricorda e c'era i soliti Mimmo Teresi c'era l'avvocato chiamiamolo avvocato fratello di Stefano Giovanni Tattaro c'era Totuccio Federico non so se c'era Mannoia non mi ricordo veramente c'era un altro dei Teresi che era vicino che abitava vicino da Stefano Bontato c'era uno che c'era vicino Anciuglia ma forse si chiama Gambino pure Giuseppe Gambino dalla guadagna alla famiglia di Stefano aveva un Anciuglia che lo chiamavano sempre perché il cognome dopo l'ho saputo scusi non ho capito questo Gambino Gambino Giuseppe dalla guadagna dalla guadagna abitava guadagna però era la famiglia di Stefano Bontato glielo dico io qual è è quello che poi ha preso una condanna dentro il carcere per l'uccisione di Marchese Marchese però il primo che è morto nell'82 non Marchese che è involto scusa lei ha detto che questo incontro è avvenuto quando? adesso è 79 come? adesso è 79 se non faccio sbaglio ricorda in che periodo è avvenuto? ah no non mi ricordo non mi ricordo e poi c'erano altre persone di Cosa Nostra e altre persone che non conoscevano c'era un un certo Levantino che era direttore di banco impiegato di banca che era cugino di Stefano c'era un altro che lo chiamava un avvocato non so se ci doveva diventare oppure parente di Stefano era là non era queste non erano ancora Cosa Nostra poi se ci sono diventate non lo so comunque c'erano gente di Cosa Nostra e persone di No senta signor Di Carlo nell'interrogatorio del 14 febbraio del 97 lei specificamente ha indicato che questa cena di cui sta parlando adesso leggo avvenne all'incirca nel 1977 data che ricostruisco basandomi sulle circostanze di fatto che allora già avevo conosciuto Jimmy Fauci e che tale conoscenza come ho detto era venuta nel 76 non più avanti il stato il 77 più avanti ci sta più sì o fine 78 quando dico fino a settembre o 79 non è il 77 non è il 77 no no ma c'è stato un altro evento ma portasse che io sì ho mangiato la torta sicuramente il 77 era un periodo che eravamo più intimi con Stefano ma lei sa di altre scene cene o pranzi sì ci sono stato pure un'altra cena che io non ci ho potuto andare c'è andato Jimmy Fauci aspetta vi faccio fine la domanda altre scene o altri pranzi cui abbia partecipato Marcello Dell'Utri a casa di Stefano Bontate ma uno con Jimmy Fauci e Tanino Cina me l'hanno detto loro che non ci ho potuto andare poi Stefano mi ha fatto che fa ci siamo incontrati in via Ruggero Settimo da battaglia mi ha detto proprio all'indomano dopo due giorni ci ho detto no quando ci ho fatto capire che mi aveva cercato Bernardo Bruce che non potevo andare c'erano altre cose solo così potevo giustificare con un invito di Stefano Senta lei ha detto di aver incontrato se non ricordo male proprio all'inizio di questo esame ha detto di aver incontrato altre circa due volte lei ha detto di aver incontrato altre due volte il Dell'Utri può specificare in quale occasione e può collocare temporalmente anche questi ulteriori incontri con il Dell'Utri ma poi non so di quale ho parlato già ne ho detto tanti incontri non mi ricordo più però da Tanino mi sembra ho detto l'ho incontrato di più di una volta a magazzino di sportivo però questa di via 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 cosa si chiama questa vicino via Libertà a Chimede quando ho detto di più di una volta si riferiva a questi incontri che ci sono stati in particolare può dire in che periodo sono avvenuti questi incontri ma sempre nel periodo sempre alla fine degli anni 70 sono 79 fine 79 lune all'inizio dell'80 così mi ricordo perché avevo un puntamento da Tanino con Totuccio Mitalizi e l'ho dato in Italia ma forse era nel principio dell'80 se non faccio un errore sì dovremmo chiedere qualche specificazione su questi incontri ma ce n'erano pure per casualità che sono venuti là ecco va bene perché c'erano altre persone ma lei perché si regava lì in questo posto perché si regava a trovare in questo posto di Cina ma perché capitava che ci davamo puntamente perché io avevo cosa da sbricare allora ci davamo chi? io con qualcuno che davo puntamente là e adesso ci arrivo e allora capitava per dire come è capitato in quell'occasione con Totuccio Mitalizi dice dove ci vediamo perché allora lui diceva ci vediamo in via a Meraglio Rizzo che era un attraverso c'era un bar lui diceva no io finisco a quest'ora che ti senti ci vediamo là e poi di là vediamo dove andare a mangiare e capitava dare un punto di riferimento da Tanino come è potuto capitare però a volte capitava avere un puntamento perché dovevo chiedere qualcosa a Tanino in quell'occasione mi ricordo da Tanino c'era del luce c'ero io mi ero fermato e poi è arrivato Totuccio Mitalizi con due giovani con due persone due ragazzi ragazzi maschi che donne in Cosa Noce non si avvicinano in questi casi e ricordo i nomi di queste persone che accompagnavano Micalizzi e dovrebbe dire chi è Micalizzi Micalizzi Totuccio Micalizzi che sotto capo era poveracci era sotto capo del mandamento di Saro Riccobono sotto capo di Saro Riccobono era giovane ci conoscevamo da una vita non ricordo che sembrava un bambino quando l'hanno combinato sia per la sua fiducia piccolina sia perché era giovane aveva vent'anni era venuto là perché aveva un appuntamento con me era accompagnato con le due poi quando uno si trova in una strada così principale siccome Palermo persone di Cosa Noce non ne mancano capace appena viene in un gruppo così passa quello e si ferma e si prende pure il caffè con noi ma questo avevamo appuntamento là e là c'era questo dell'ultimo Tanino Totuccio di Calizzi queste due persone che era uno mi sembra un certo Cannella che aveva un barrio con Totuccio di Calizzi e uno era un ragazzo alto alto che era giovanissimo ma ancora non mi ricordo se era Cosa Nostra era Francesco Onorato lei conosceva sì mi scusi prima che prosegua e poi proseguiamo poi c'era uno del territorio là figlio io conoscevo il nonno conoscevo anche i figli di cancellere del Polvovecchio della famiglia Polvovecchio non so se era il fratello di Nipolo o il figlio uno dei cancelleri senta ma lei Onorato lo conosceva già da prima non era Cosa Nostra quando ho conosciuto il ragazzo che camminava già però era all'inizio già di avvicinare infatti Totuccio me ne parlava bene che già l'avevano messo alla prova l'avevano messo come si soltire in Cosa Nostra a lavorare quindi per comprendere Onorato già lavorava per Michalizzi già prima di diventare uomo da Nore ma quasi tantissime dipende che gente sono dipende se c'è persone che vengono la lasciata come si soltire o che fanno rapine o che fanno cose è già predestinato anche a provarlo prima specialmente se non hanno origine di Cosa Nostra come come non l'aveva adesso mi hanno detto perché quando mi ha detto chi era ha detto ma non conosco nemmeno il cognome e allora provano per vedere come si comporta o meno ma tantissime come tantissime non vengono provate a fare omicidio o fare qualcosa illegale perché già come famiglia ci hanno visto e poi dipende non tutte le persone di Cosa Nostra devono commettere per forza degli omicidio o cose grave illegale ho capito senta ma onorato l'hai stato presentato ritualmente? no perché quando ho visto io onorato non mi potevano presentare più perché non ci appartengo più né io né lui che ho incontrato onorato per pochissimo tempo in carcere in Italia di questo potremmo parlare successivamente io volevo sapere comunque se allora quindi negli anni 70 anni fine anni 70 inizio anni 80 le venne comunque detto riferito che onorato era uomo d'onore e di quale famiglia se non l'ho detto non credo non mi ricordo di averlo presentato non l'ho detto non credo non mi ricordo di averlo presentato e penso di no perché a parte che l'ho incontrato un po' di volte con Totucci però le volte che mi ricordo che non era stato presentato ma qualcuno le disse se era diventato uomo d'onore poi in secondo tempo forse sì ma proprio però questo fino ai 81 sì incontrandomi con Totucci perché avevo un rapporto con Totucci anche di affare fino a nell'82 prima che scomparissi avevo un rapporto con Totucci poi ho saputo e l'avevo combinato ma non c'è stata occasione di presentarlo per quelle che sono i miei ricordi dottore senta in questa occasione in cui vi siete incontrati quindi con il Michalizzi con il Cannella con l'Onorato con il Cina e con il Dell'Utri che cosa avete fatto? ricorda? ma che solo il caffè mi sembra che abbiamo preso dove lo avete preso? ma però non ci siamo andati tutti quelle andare al bar che era più sopra siamo andati io, Tannino Cina Dell'Utri e Michalizzi se non faccio errori l'ha detto ne ho parlato quando l'ho conosciuto io dicevo altri incontri oltre a quelli che lei già ha riferito sempre di questi partendo dai negozi del Cina lei ha detto lei stamattina ha detto in altre due occasioni l'ho visto quindi dico ci dovrebbe essere ci dovrebbe essere un'altra occasione se ricorda questa altra occasione non mi ricordo e poi quando uno si incontra e si prende un caffè che non è direttamente con me l'appuntamento ma uno lo va a trovare in un altro amico da Danino il Cina non è che sono i ricordi così ampi e così senta ma lei ricorda cioè un incontro del genere è avvenuto o non è avvenuto io questo lo capisco perché altrimenti non le faccio neanche le domande successive non mi ricordo perché ho parlato stamattina sempre 3, 4, 5 incontri quelle più di 5 allora che ho parlato 6 in questo minuto non mi viene senta sempre per quanto riguarda queste circostanze sempre nell'interrogatorio del 14 febbraio del 97 lei ha detto tra i soggetti che ricordo erano presenti a questi incontri quindi ha usato il plurale con il dell'utri del Cina posso citare oltre al Micalizzi che è quello di cui aveva parlato poco prima anche Mimmo Teresi e Pinuzzo Albanese ricordo che una volta in cui l'onorato accompagnò il Micalizzi al Cina era presente anche il dell'utri oltre che Mimmo Teresi si andò poi a prendere un caffè come era consuetudio ma non ricordo se in questo caso l'onorato fosse presente e questo io ho un po' di confusione a questo punto signor Di Carlo mi dovrebbe risolvere questa cosa si parla della stessa circostanza di cui lei ha parlato poco fa stessa circostanza o di diversa circostanza solo che non ci ho messo tutti i nomi perché erano tanti infatti non mi veniva stessa circostanza però diremmo che lei contestasse la trascrezione si Presidente io non ho problemi a contestare il verbale e questo è il passo e il posto non è questo e questo è già quello è del 14 la trascrezione Presidente un minuto solo per trovare il punto Presidente ho trovato il punto e che io mi riferivo a un fatto diverso rispetto a quello che indicava l'avvocato mi riferivo ad altre circostanze oltre a quella che ora ci ha riferito il di Carlo in particolare la pagina nuova a me mi spiace ho sottratto all'avvocato la trascrizione dice ci sono stata io chiedo ci sono state altre volte ci sono state pure altre volte risponde il signor di Carlo va bene dico a me e questo lei in che periodo lo colloca va bene i primi dell'ottanta questo ma proprio ce ne sono stati prima che c'ero io dell'utri e cinà tutti e tre soli di andare a prendere il caffè lo sa quantificare quante volte di Carlo no molte poche una decina una ventina no cinque di Carlo non penso non so tre quattro capitava passavo mi facevano segnale ferma ferma no vado di premura no ferma capite specialmente lei sa siamo fatti così e poi c'è una domanda di chiusura comunque questo è il periodo a cui io mi riferisco lei ricorda di aver reso queste dichiarazioni signor Di Carlo è certo che mi ricordo le conferme queste dichiarazioni è certo che le conferme infatti parlando di tutto mi sembra che sono di più quattro cinque sei quando si prende un caffè magari si può ricordare dopo tanto tempo si incontra uno passava molte volte passavo con la macchina e uno si prende il caffè se erano appuntamenti come è stato quello di Milano oppure come quello di Londra oppure quello nella cena e allora sono casi specifici ma di prendere il caffè si mi dovrebbe ricordare mi scusi dottore questa è la realtà mi sono ricordato degli altri fatti perché erano delle circostanze specifiche quasi si trattava solo di prendere un caffè ma perché mi scusi a Londra non era un trattenimento a Londra era un trattenimento a Londra c'è scambiato anche i numeri di telefono abbiamo parlato una cosa importantissima con Mimmo Terese che lo volevano combinare io ho difeso un po' la situazione di Cina perché non era giusto perché capisco queste cose insomma c'è un sacco di cose più la prima volta quando lei ha parlato di quell'incontro al caffè in cui lei è stato presentato si trattava anche di un incontro presso un caffè ma era la prima volta la prima volta come ho conosciuto non viene in mente come l'ho conosciuto ma poi se capita di prendersi il caffè e passare con Tanino che poi Tanino giusto giusto era davanti alla lavanderia io sa dove non so se sa dove abitavo e via le campagne in quella zona io passavo sempre di questa via Carini la come si sa in Sitoro Carini cioè o era davanti alla lavanderia o era all'angolo là e mi fermavano conoscevo anche altre persone la mi conoscevano tutti e mi fermavo può capitare quante volte che mi sfugge non posso stabilire sono state tre volte quattro volte poi sono un caffettiere di prendere sempre il caffè riccio se chiede senta lei ha parlato anche dell'incontro della cena presso la villa cena giusto vorrei che me lo dicessi presso la villa di Stefano Bontate era una cena o un pranzo? no sempre a cena veramente una volta sola è capitato ma noi eravamo quasi tutti cosa nostra ha fatto di giorno pomeriggio a Roche qua e là ma sempre serate di cena che quelle ci sono state senta in questa occasione in occasione di questa cena presso Bontate sto parlando quindi della cena in cui rappresenta anche Marcello Dell'Utri di cui lei ha parlato poco fa avete parlato di affari con chi? con Bontate o con Dell'Utri? ma può rispondere alle due le domande sia con Bontate che con Dell'Utri? con Dell'Utri no perché io non avevo perso il rapporto ma con Bontate sì con Bontate abbiamo parlato di affari e mi ha chiesto se ero disponibile a investire una certa somma una certa somma specificò quale somma? poi abbiamo parlato perché ci chiedo io una certa somma se avevo intenzione e io le dico e dipende perché io non sono ricco Stefano come te avanti che tu ne hai guadagnato soldi di qua perché tu ci ti fa guadagnare di qua di là ci hanno detto no è un'impressione che c'hai tu io scelgo 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 qualche cosa nella costruzione trasporto comunque mi dice ti ho detto quante queste sono e mi dice una vuota di mezzo miliardo 500 milioni perché stava raccogliendo una scelta somma abbastanza elevata però dice non è per quello che pensi tu cosa potevo pensare io perché se mi investivo avevo investito sia con Saro Ricco Pono sia con Totuccio Regina era perché poi c'era un contrabbando per caso era eroina uno metteva i soldi non si sapeva da dove ci venivano perché non si chiede in cosa no però io conoscevo loro e avevo dato dei soldi Stefano mi ha detto no non pensare però sono cose a lungo sono cose mi scusi a lungo termine perché altri lavori non è così a lungo termine 4 mesi 5 mesi già si fa un lavoro che arriva vendono e poi distribuiscono i guadagni mentre mi diceva una cosa legale a me investire in società che fanno lavori se tu hai fiducia in me sto facendo una cosa che rimarrà per rimanere i tuoi figli per rimanere i nostri figli di qua di là ho detto Stefano non ho queste possibilità le mie possibilità sono a livello che molto molto più riscetti a parte che sognano per lavorare e mi ha detto che doveva raccogliere una certa cifra che cifra lo disse? ma come pensava lui è superiore dei 20 miliardi in poi da 10 miliardi a 20 miliardi poi non lo so se ne poteva raccogliere perché quando si raccoglieva per l'altro a volte bisognavano 5-10 miliardi per l'eroina in borde ad esempio e si raccoglievano facilmente a volte 30 di cosa nostra tante famiglie tante cose venivano a 50 milioni l'uno a 100 milioni l'uno questa è una cosa che voleva fare lui non lo so che cosa doveva fare senta le disse qualche altra cosa su dove dovevano essere messiti questi soldi a milano dovevano ma non le disse dove no no non me l'ha detto e per delicatezza non si chiede mai anzi mi ha detto che erano cose pulite cose a lungo termine lungo termine a parte tutto pure che uno aveva una buona volontà che io non ci sarei mai arrivato a quella cifra che si farebbe uno prestare di qua e dell'altro come a lungo termine signore me non potevo senta questa discussione che avete avuto con Bontate vedeva qualcun altro presente o eravate soltanto lei e Bontate no no mi ha chiamato a parte perché là c'erano gente che non erano cosa nostra anche e a parte tutto per queste cose Stefano chiamava una a una a parte quindi per capire dell'utri che pure era alla cena non era presente a questa discussione no no assolutamente lei sa poi in questi soldi se sono stati investiti effettivamente lei anzi prima di tutto lei ha deciso di investire soldi in questo affare no mi sembra lo specificato a parte tutto non l'avevo la cifra cosa non poteva arrivare dico e sa come sono andati a finire poi questi soldi se sono stati effettivamente investiti e quali se c'erano altri uomini d'onore che hanno investito soldi oltre al bontato io subito non ho saputo niente perché queste sono cose delicate non si vanno a chiedere poi dopo la morte di Stefano mi ricordo solo mi sembra poco fa ne ho parlato è venuto chi ha preso il posto di Stefano lamentandosi che cercavano soldi erano venuti per i 200 milioni di Jimmy Pavus e in quell'occasione Pietro Royaco mi ha detto che c'erano tutti sul puglio perché mancavano un sacco di miliardi che avevano messo e non sapevano dove erano andate a finire a chi rivolgisse e poi ho capito ci ho detto ma qualche cosa hanno qualche altro dice no faceva tutto lui e poi doveva saperlo Mimmo Teresi anche va bene era il sottocapo era in società e poi mi è tanto adesso con questa situazione che abbiamo perché molte ne ha avuto tante scappate anche da Stefano quelle più intime di Stefano sapete che fuori ammazzate e allora dice siamo rimasti stiamo cercando e ci sono debiti ci sono cose la gente vorrebbe i soldi indietro perché poi gente fuori del mandamento della famiglia di Stefano voleva i soldi indietro perché quando Stefano ha tante amiche fuori del mandamento significa che ha fatto proposte per me le indecente chiedono a me 500 milioni ma ha fatto proposte dove hanno accettato Senta signor Di Carlo lei sa poi appunto se questi soldi comunque sono stati trovati se sono entrati in possesso di cosa nostra non lo so non ci siamo visti più da quel periodo che è stato verso l'80 fine 81 con Petrino Roiacono poi a lui l'hanno arrestata a Pietro Roiacono non l'ho visto più e non abbiamo mai più parlato quelli di Gim non l'hanno riscoso questo sono sicuro perché Gim fa ci è andato in caccia e sono finito questo signor Di Carlo nell'interrogatorio del 14 sopra del 97 faccio una contestazione a questo punto in relazione a quello che lei ha detto adesso perché lei parlando per la prima volta di questa cena presso la villa di Stefano Bontate concludendo la prima parte delle sue dichiarazioni ha detto specificamente in questa occasione non si parlò certo d'affari dato che erano presenti molte persone tra virgolette terze la contestazione riguardava la prima parte di quanto ho letto la ragione credo che non facesse soggetto di contestazione non forma soggetto di contestazione questo per evitare ed involontariamente suggerire la risposta ma ho suggerito alcuna risposta presente volevo dire che si trattava della cena presso la villa si è fa una montata e ho letto l'ultima parte quello che so non si parlo di affari non diciamo per quale motivo mi scusi presidente e allora ricordo di aver reso queste dichiarazioni e quali conferma queste dichiarazioni o quelle che ha reso oggi la ripeto di nuovo perché c'è stato un intervento e non ho perso il motivo proprio allora le dico che nell'interrogatorio del 14 febrile del 97 parlando della cena presso la villa di Stefano Bontata lei ha detto in questa occasione non si parlò certo di affari dicendo anche per quale motivo secondo lei non si parlò di affari ma per me non era un parlare di affari non è andato per affari era in una cena poi si mi tira da parte e mi accenna questo non è un affare che noi in cosa nostra quando si parla di affari sono che si siede si sciabeliscono tantissime cose e allora quella si è andato a parlare di affari o a meno di società pulite o sporche per come ne possono essere cioè puntamente direte dobbiamo essere tutte di cosa nostra senta lei ricorda come poi ha ricordato in particolare questa circostanza che ha riferito oggi anche di Stefano Pontata che le chiede questi soldi da investire in una società pulita a Milano se le è stata fatta una domanda specificamente o è stato bene non è stato detto in una società pulita a Milano è stato detto a Milano da parte del collaboratore mi chiede se è venuto il momento di parlarne stamattina che anche Pippo Bono aveva dei rapporti a Milano tant'è vero l'ha detto più volte mi scusi mi scusi dottore sono molto distratto sapete per le cose sono messo che bevo ma io devo andare in bagno metto ma possiamo interrompere 50 minuti il punto di vista può proseguire signor Di Carlo sì dottore lei aveva chiesto prima appunto dell'interruzione se lei prima di tutto conosce questo l'ha già detto sono attimi conosce Bono sia Alfredo che Pippo Bono se lei sapeva se anche queste persone avevano a Milano dei punti di riferimento per gli investimenti generi in lei sì avevano tutte non le conosco perché erano abbastanza addentrate nella situazione milanese i Buoni e le posso dire una cosa anche che sembrava una situazione da tutti non è solo Palermo che si adegua ho vissuto a Milano assieme ai Buoni e vedevo che erano l'industriale che cercavano ai Buoni in particolare nella situazione se avevano bisogno di intimitazione o assorzioni o paura anche la si adeguavano cominciavano a prendere l'abitudine c'è una cosa che si può spandere facilmente cosa nostra e allora rispondo rispondo alla sua domanda sì io come personalmente ho conosciuto ho conosciuto un certo Artiglio Monte poi un certo Gaeta che mi caramevo forse non vi ricordo il primo nome e anche c'era un altro abbastanza conosciuto Monte Gaeta e un'altra persona in questo minuto non vi viene che poi se mi è andato questo in Venezuela perché quando hanno arrestato a tanti a Milano avevano inclusi questo in luce a in questo minuto non mi viene il nome perciò devo scusi Presidente un attimo solo anzi bisognerebbe chiudere lo spiraglio perché a quanto pare può essere ripreso dall'altra camera scusi un attimo solo Presidente c'è l'altra telecamera ti vorrei l'altra telecamera la può spostare lo faccia lei grazie no no basta ho tanto disposizione di non inquadrare quella telecamera fate di unirlo il possibile signor Di Carlo lei ha parlato quindi di Monti Gaeta e poi non ha capito i nomi che ha fatto l'altro nome più vicino a Pippo Buono non mi viene in questo minuto ma lo conosco perfettamente che avevo incontrato con Pippo Buono a Milano e può dirci qualche elemento che ci consente di risolvere il nome mi sembra che proprio è stato questo che non mi ricordo il nome che una volta avevano messo un mandato di cattura con Ibon e tutto a Milano a metà anni 80 era fuggito in Venezuela signor Di Carlo si tratta di Rapisarda di Rippo Alberto questo è a parte un altro più importante milanese questo mi sembra di origine siciliana questo Rapisarda questo pure Rapisarda Antonio Virgilio Vigilio si Vigilio si Vigilio lo chiamavamo Virgilio queste persone in particolare che rapporti avevano con Buono Buono le utilizzava per qualche cosa le utilizzava sia per il denaro per investire denaro sia Buono metteva nelle variate società denaro suo quindi una volta che queste persone si prestavano a reinvestire denaro di Cosa Mosca cioè i rapporti tra Pippo Buono e questi imprenditori lei sa che cosa poteva chiedere di altro Pippo cosa ha chiesto se lei ne ha conoscenza per quello che sono a conoscenza poteva chiedere di tutto anche quando mi ricordo che hanno arrestato la Fretto Buono è capace se uno va a cercare se realmente è stato arrestato trova Pippo Buono era stato il fratello che usava il nome del fratello dentro il caccio perché a Fretto Buono era pregiudicato il fratello no a quei tempi allora quando l'hanno arrestato ci ha detto che non aveva documenti era entrato in caccio a nome di Pippo Buono Pippo Buono che era fuori realmente però Pippo Buono si è rivolto a a Vigilio mi sembra stato ci hanno fatto avere come avvocato l'avvocato Sordillo e a ver a ver a chi si è rivolto Pippo Buono mi scusi perché non ho sentito bene si è rivolto si è fermo in i sedi era un po' si 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 non ho capito si era rivolto a chi per mi sembra che era a Vigilio o all'altro a Monte e infatti hanno preso l'avvocato Sordillo che era un grosso nome sia come avvocato e poi a livello in cambio quindi io vorrei capire Cosa Nostra chiaramente da tutto questo amici e sia per pulire denaro se ce ne hanno a stare perché non tutti di Cosa Nostra hanno molto denaro però ci sono quelle che ne hanno a buttare realmente miliardi e allora per reinvestire o pulire se vengono da un sequestro come si devono pulire insomma per capire anche se a lei questa mattina non è piaciuto però Cosa Nostra quindi apprestava e quindi nella parte specie Pippo Bono apprestava protezione nei confronti di questi industriali che lei ha nominato certo erano specialmente questi tre che dico io poi Ratti Santa e Subbentra ma questi tre nessuno le poteva toccare a Milano o amici suoi perché a volte questi portavano altri industriali mi ricordo che Pippo Bono aveva sempre cose da sbrigare e cercare di garantire la tranquillità questi industriali sento un'altra cosa la volevo chiedere sulla base delle sue conoscenze in Cosa Nostra vorrei che lei quindi lo ancorasse a fatti specifici volevo sapere se nonostante un rapporto di questo genere quindi rinvestimento di danaro è possibile che Cosa Nostra chieda il cosiddetto Pizzo diciamo chieda comunque del danaro che possa fare degli attentati che possa fare dei danneggiamenti mi deve scusare non ho capito bene anche quando invece di danaro dunque l'esempio specifico che lo faccio è quello di Pippo Bono nei confronti mettiamo di Virgilio o di chi altri lei ha citato Monti Gaeta ora essendoci questo rapporto di reinvestimento di danaro da parte di questi imprenditori è possibile è possibile io però voglio che lei lo ha anche dei dati specifici non un discorso generico cioè lei è a conoscenza se comunque veniva richiesto altro denaro a queste persone quindi veniva richiesto il Pizzo se sono stati oggetto di attentati di danneggiamento era possibile un fatto di questo genere? ma se allora io devo spiegare com'è la cosa nostra fatte specifiche direttamente io devo spiegare in queste situazioni allora se uno ha l'attentato l'attentato è cosa nostra e cominciano a pagare va bene questa è una secondo se l'industriale è un amico e uno investe va bene non c'è niente quella che hanno stabilito di pagare ogni anno ogni mese che dovrebbe essere di solito ogni anno due volte l'anno va bene quella è una cosa che è cosa nostra una cosa che è cosa nostra e quella è un'altra cosa allora pagano lo stesso ma poi investire anche ma quella è la società che paga cosa nostra che poi vanno a una famiglia vanno a un'altra famiglia questa è cosa nostra queste sono le regole e sono possibili attentati e danneggiamenti anche successivamente se comincia a volte capita perché una persona che lavora in un industriale a volte è stanco di questa in siciliano si dice Sanchezucca come ho dimenticato quella che aspira il sangue sono stanchi a volte comincia a perdere tempo a lamentarsi quella per farci ricordare chi lo protegge stesso ci fa fare un attentato così quello occorre quindi per capire lei ha detto all'inizio che ci sono comunque dice che gli attentati ci possono essere anche dopo che è iniziato il rapporto di conteressenza ma l'inizio mi scusi signor l'inizio è sempre violento diciamo c'è sempre un attentato o una minaccia per quello che ha a sua conoscenza se ci può citare dei fatti specifici ecco l'inizio di solito non c'è un attentato va bene si comincia a fare approccio o telefonata quando non ci sente si cominciano se non ci sente col primo e secondo se ci fa più grave ancora poi nell'ultimo tempo per quello che mi costa per qualche telefonata che io facevo a Nino cioè faccio il nome che era il rappresentante di Alto Ponte un periodo dopo a seconda a seconda avviso ci sparavano abbiamo avuto un esame tra persone che sono molte che erano industriali infatti le dico una cosa la Ferrocimento per tanti anni ha fatto la superciata per San Giuseppe Acola era nel nostro mandamento il primo a avvicinare questa persona il geometra della Ferrocimento non mi ricordo più come si chiama sono stato io tramite un geometra a parlarci siamo andati a mangiare alla scuteria e si è incanalato giusto a pagare quando le cose sono cominciate a cambiare e l'industriale i propri direttori i padroni non volevano pagare quello conoscendo bene la Sicilia l'ha lasciato il secondo che è venuto che era d'accordo con l'industriale di non pagare mi sembra che se non so sei stato a Brancaccio in una zona di Ciacullo l'hanno ammazzato faccio un paragone nessuno può andare più indietro una volta specialmente che ha pagato si muore allora ci sono mi scusi il dottore Cozzo ci sono l'industriale e una certa lunghezza di situazione che poi vanno sempre ad aumentare la richiesta sempre si stancano e vogliono fare un po' ma c'è indietro e là si ci fa un attentato per farlo svegliare vede e se continua l'ammaggia senta ritornando a Pippo Bono lei ricorda nel periodo di cui stiamo parlando siamo negli anni 70 che cosa si interessava al Bono relativamente chiaramente all'attività di natura illecita cioè che cosa i soldi che doveva reinvestire da che cosa provenivano come attività illecita all'inizio fino anni 60 fino a metà anni 70 quanto era ricco Michele Zazza era ricco Pippo Bono con suo fratello Pippo Bono aveva un 50% con Michele Zazza con nave di sigarette a quei tempi i nave di sigarette lasciavano un mare di soldi perché miliardi ne ho sceso pure io certo non erano per me perché era quasi per tutta cosa nostra perché ogni famiglia ci aveva messo una quota e siccome c'è stato io con Bernardo Brusca a Napoli mi è capitato molte volte scendere io dicine e decine di miliardi che dicono mentre a freddo buono con Pippo Bono perché se erano via freddo si andava tutto a giocare Pippo Bono aveva metà il 50% con la nave con Zazza e i soldi che ci arrivavano e là l'ha fatto lui i primi miliardi poi da 75 in poi si è un po' cambiata la situazione sia perché a Napoli non si poteva lavorare più molto anche perché ha dato un colpo incisivo la finanza e sia perché poi con la droga hanno scoperto acisce cose che i guadagni erano 200% che i sigaretta erano 100% e allora hanno passato in quella è stato uno dei primi di Pippo Bono ha capito che in un primo tempo portando di sigarette e in un secondo tempo traffico di stupefacenti si e sequestri di persona ce n'erano? sequestri di persona proprio personalmente di Pippo Bono non ne conosco conosco qualcuno che me ne ha parlato poi in secondo tempo che avevano fatto Luciano Ligie e cose e poi qualcuno che ne so direttamente tramite Cuccio Reina questo è però fine anni 70 77 così più o meno in particolare relativamente prima terminiamo questa parte e poi le chiederò qualcosa sui suoi questi persone Mimmo Teresmi e Stefano Bontate questi soldi di cui le parlava e che dovevano reinvestire da dove venivano anche questi stiamo parlando di soldi c'erano soldi di derivazione illecita certo ma mi sembra che ho accennato pure che all'inizio proprio specialmente Stefano Bontate con nella sua famiglia aveva i più grossi contrabambieri prima di sigarette con Spadaro Masino Spadaro Nino Lamattina o Mattina come lo chiamavano che in Genco Palermetano chiamavano Nina Matina erano soldati sui e lui era al 50% specialmente con suo fratello e ha fatto per 10 anni 10 anni so quante si scendevamo noi che dividevamo a parte decine di miliardi e dividerla a tutte loro avevano mentre una nave a parte anzi due una all'una e una all'altra che avevano un turno di sigaretta superiore a quello che avevamo noi altri perché poi c'erano tante liti ecco perché i liti che parlavo stamattina che c'erano state famiglie di Napoli e tutto era perché c'era il periodo chi doveva scaricare i turni i cosiddetti turni e loro avevano per due volte di noi altri come turni si immagina quanto miliardi ci sono entrato fino allo 75 poi il primo a toccare la droga mi dispiace se qualcuno di altri collaboratori all'inizio diceva che non toccava la droga un po' puntata uno dei primi è stato solo che l'anzia scelta non la toccava io non ne ho visto mai con gli occhi nella mia vita va bene ma è stato uno dei primi a fare miliardi Stefano infatti senta e questi miliardi di cui avete parlato anche in quell'occasione di cui già c'è il tempo sulla piazza milanese o comunque al nord lei sa di chi disponevano Mimmo Terese e Stefano Bontata per il reinvestimento di denaro non lo so a parte quelle che io ho accompagnato che ho visto di presenza ma di altro non lo so ma all'inizio non avevano mi sembra che i Grato avevano qualche amicizia qualche piccola amicizia ma i Grato avevano anche amicizia con Marcello Dell'Utri erano inti ma di altro non ho visto poi siamo qua quando parlo io di miliardi di Stefano Bontata mi sembra che siamo un po' all'inizio dell'80 o a fine del 79 che poteva essere non lo so che amicizia hanno potuto fare ma che cosa intende a parte quelli che ho visto non ho capito bene quello che ho visto quando ho parlato a Milano dell'incontro che era l'industriale Berlusconi dottore Berlusconi ancora non era onorevole o Dell'Utri che non era né onorevole né nemmeno industriale a meno quello è forse lavorava con l'industriale non lo so questo io ho visto però a me non mi costa perché non mi ha detto direttamente però questo è il loro amicizio Tanino me ne parlava perché Marcello andava sempre avanti a Milano lo vedeva come un colossale forse ha ragione forse sono solo io che lo vedevo piccolo questa è la realtà ho capito senta lei ricorda un incontro a Milano tra lei Cocò Salamone e Bernardo Brusca io con Bernardo Brusca a Milano ci sono andato in particolare con Pippo Bono come abbiamo parlato di Pippo Bono siamo andati a dormire da un appartamento di Affreddo Buono sì c'era Cocò Salamone Nicola Salamone Cocò che mi chiamava e io non so se c'erano qualcuno della famiglia di Monreale Cocò Salamone di che famiglia di San Giuseppe è il fratello di Antonio Salamone era perché mi sembra che poi era anziani a chi avete avete incontrato delle persone che vivevano a Milano in quell'occasione poi là ci siamo incontrati c'era Pippo Calò anche anche Pippo Calò anche Pippo Calò poi abbiamo incontrato in quell'occasione abbiamo incontrato Pippo Bono non mi viene in questo modo altro perché gli incontri erano tantissimi ricordate di che cosa avete parlato in quell'occasione ma avevano soldi da portare a Milano per pulirlo perché venivano da qualche segresto che aveva partecipato Bernardo Bruss che è il loro altro senta lei sa se anche Contrera Pasquale Contrera aveva a Milano dei soggetti che proverevano a reinvestire i soldi di Provenza e Lecce avevano pure però io non sono andato una volta con i Contrera a Milano ma così per fatale l'età avevano compagnie ci vedavamo a Roma un giorno che noi avevamo detto no ci deve venire e ci siamo andati in macchina i fratelli Contrera Pasquale e Lillo quello che muore e siamo andati a finire a dormire in un palazzo che là c'avevano un ufficio e non so che situazione avevano loro anche l'ufficio in un certo Rapisarda un palazzo sempre nel è lo stesso di cui abbiamo già parlato Rapisarda sì la stessa persona che io avevo incontrato mi sembra una volta sola a Palermo dalla mia e Terranova costruttore lo conoscevo così comunque e siamo andati in questo palazzo in questo ufficio mi riusciva Pasquale Contrera che aveva non so quanta milione aveva dato voleva comprare quel palazzo perché c'era un fallimento qualcosa e se lo voleva comprare assieme a altro avevano questi discorsi questo mi ricordo un palazzo vicino non più di 200 metri o 100 metri di è un ricordo che c'è piazza 5 giornate di Milano una piazza da 2-5 giornate un palazzo un palazzo sempre nella stessa età di quello che dicevo prima stamattina quando si parlava di quindi per capire Contrera era in società con questo ma erano in società come erano situate non lo so ma avevano problemi di rientrare o prendersi il palazzo com'era questo palazzo che era in fallimento e là ho sentito ho sentito in quell'occasione menzionare Dell'Utri e anche però non l'ho visto chi menzionava Dell'Utri? Marrati Salta e Contrera e che cosa disse? ma no non mi ricordo ho sentito solo menzionare siccome era un nome che conoscevo così ci ho fatto caso completamente nemmeno una parola mi ricordo e nemmeno me l'ho fatto raccontare solo mi ho fatto raccontare i problemi che avevano in questa situazione e io ho dormito in un appartamento in quel palazzo senta nel nel interrogatorio del 9 settembre del 1997 pagina 26 della difesa e lei ha detto mi dica la mia domanda mi dica se ho capito bene c'era una società in cui c'entrava più po' buoni con tre della pisarda lei ha detto la pisarda tutti là c'era una società mi sembra pure dell'utri c'entrava perché dell'utri forse era in società con il da pisarda comunque c'era un qualche fallimento di qualcosa ricorda aver reso questa dichiarazione sì si mi ricordo poco fa non ho menzionato nemmeno il buono adesso mi ricordo che buono con c'era avevano avuto pure un raffreddamento a proposito di questa società raffreddamento in quel senso che erano intimi in qualche modo essi erano un po' distaccati per questa situazione e sapevano che erano tutti in società non lo so che cosa dovevano risolvere senta lei conosce un certo Domenico Brucia che viveva a Milano io Domenico Brucia il primo nome no io conosco un Brucia va bene che era sposato ad Alto Fonte se ne è andato a Milano e si interessa per il ristorante però se è questo non lo so e che persona era questa? una persona che è stata in caccia una persona che se ne è andata era di Villa Grazia sposato al mio paese io non la sento era una persona nativa di Villa Grazia Villa Grazia di Palermo si intende sposata al mio paese ad Alto Fonte poi se ne è andato a Milano ho messo il risparato ha avuto dei problemi con la morte per quello che sono i miei ricordi non l'ho visto più non lo so ma era vicino a Cosa Nostra avevo qualche parente a Villa Grazia in Cosa Nostra era vicino specialmente a Milano mi dicono si faceva vedere con qualcuno di Cosa Nostra però non ci ho fatto mai caso perché lui non era Cosa Nostra e poi non mi interessava questo tipo di persona proprio anche signor Di Catalea ha parlato poco fa di Alamia e Terranova può specificare chi sono questi Alamia e Terranova? alla mia Terranova alla mia Terranova principalmente erano i proprietari dell'ufficio che io avevo in via Scopra ma che cosa facevano? una società di costruzione in quel periodo costruivano via regione siciliana hanno fatto due o tre palazzi Angolo via Scopra tutte e due via Scopra e poi per l'ultimo che mi ricordo l'ultimo uno che mi ricordo è stato in via Malaspina un grandissimo palazzo avevano gli uffici in via Scopra poi hanno cambiato poi sono portato in via Malaspina era un costruttore con sia Terranova mi sembra Momo Terranova si chiamava Geronimo Terranova sia Francesco Paola con Terranova ci parlavo di più era una persona più come dire più aperta ma sa qualche cosa praticamente i rapporti tra queste persone e Cosa Nostra? anche il rapporto di queste persone e Cosa Nostra uno l'aveva dentro Cosa Nostra che era il genero Pitarreste e il consorcero che era il rappresentante di Villabate se parliamo dei rapporti di Cosa Nostra l'aveva dentro Cosa Nostra il genero di chi mi scusi? di Momo Terranova di Geronimo Terranova il viaggio che da queste era Cosa Nostra e il suo Alamia il padre era Antonino che era il rappresentante di Villabate e Alamia era il nipote come? non lo sentite Alamia era il nipote di questo e cugino di Cosa Nostra nipote e cugino non so come dire con la parentiera va bene va bene senta le avevo già pronunciato che vorrei che lei parlasse un attimo se lei ricorda dei sequestri di persona prima di tutto volevo sapere da lei se i sequestri di persona erano Cosa Nostra era interessata o meno negli anni 70 stiamo parlando e allora Cosa Nostra era interessata era interessata e non doveva essere interessata in Sicilia anni 60 fine anni 60 e in poi erano state come dire non privati c'è una parola in italiano la dimentico sempre erano state di non farle non mi viene la parola esatta vietate ecco mi è arrivato era stato vietato di fare seguire in Sicilia ma con l'arresto che c'è stato che non so se era il processo 114 con l'arresto che c'è stato sia di bontà sia di battalamente il Ligio si trovava a Milano la di Tanto Milano Roma Napoli che è stato abitato a Napoli Irreina diventa una specie di reggente di questo triunvirato Irreina era povera fino a quei tempi che erano arrivati nel 68 69 dal processo di Bari lui che ha trascredito sempre nelle regole per provocare però sa come provocare si mette vicino a chi sostituiva ma Batalamente che era Antonino Batalamente cugino di Gaetano si mette vicino qualcuno della famiglia di Stefano Bontà che era Teresa non Mimbo Teresa altro Teresa Giovanni Teresa si mette vicino anche qualche altro sempre il mandamento di Stefano che era Giaconia che era compare di Torrina Giacomo Gambino da San Lorenzo se ne mette altro quanto chissà e cominciano a fare seguestione anche in Sicilia cominciano di quello Vassallo cominciano di quello più famoso quelli che ci stavano restati a Palermo Cassina Vassallo Cassina avevano tentato anche di fare quello di Giaina un costruttore che ai tempi era alla moda di costruire ma quello non è stato portato in porto qualche altro che non mi ricordo senta ma fuori dalla Sicilia fuori dalla Sicilia potevano farlo in particolare ricorda un certo sequestro di Nova o De Nora ma questo è stato fatto già nel 77 se non faccio un errore fine 76 o 77 lei cosa sa di questo sequestro questo ne so di più ancora perché anche avendolo capito dopo e poi Totucciorrina me l'ha detto perché cosa ci serviva ho dato un avutomenso io e lui ha preso a suo parente avutista in olegio l'ho messo io come impiegato per due settimane per fare a parte che lei sapeva portare perché aveva tanto tempo che era fermo come avutogenista e l'ho messo come impiegato per due settimane nella società e guidava tanto per allenarsi anche perché nella vita se succedeva qualcosa potevo dire che non sapevo niente e la vutista aveva fatto quello che aveva fatto e potevano dire anche impiegate altre vutiste che ce ne avevo mi sembra che erano 12 o qualche poche potevano dire lavorava qua ci ho dato un automenso un articolato coperto con i tendoni e prima mi aveva detto che doveva fare un cargo di di Ashi sotto un cerreire se l'hanno portato a nord questo automenso ma quando è passato un mese signori me un mese un automenso fermo ho sollecitato tutto il cerreire se l'hanno portato a nord questo automenso ma quando è passato un mese signori me un mese un automenso fermo ho sollecitato comunque dopo non mi ricordo quanto mi ha detto che stava per arrivare e l'automenso era fermo nel in un piazzale in una pompa a benzina venendo da Trapani ci sono andato personalmente io non sono andato mi sembra chi era la mezza giornata la fermo sono andato a prenderlo me l'ho portato ma già però qualche dieci giorni prima totuccio il reina mi ha detto perché cosa ci serviva quando già però penso che già l'avevano fatto perché lui era così per non fare sapere per essere sicuro che già il sequestro era stato fatto mi ha detto a che cosa ci era servito ma ci ho detto me lo posso mi disse anche chi aveva fatto a che cosa era servito in particolare e chi aveva partecipato a questa azione nel 2019 ma poi io con Pino Leggio ero molto intimo e mi ho fatto raccontare un po' come erano andate le cose visto che era e anche non mi riporto che cosa era successo anche nel camion se aveva avuto una maccatura dal lato dal lato guida uno sportello e mi aveva detto che quando avevano sequestrato questa persona la dovevano prendere sul camion che è stata sequestrata con una macchina poi dove l'avevano portata a Milano doveva essere caricata su camion su questo non furgonato scintenato si chiama nel viengolo trasportatore che è coperto fatto tutto bene e c'era neve quella sera e per avvicinarsi per non farlo vedere perché poi l'hanno portato in un appartamento e cioè questo doveva scendere a scala in piedi c'era neve non poteva avvicinare ha scivolato la mattina perché un automenso che è leggero viene più facile a scivolare ed era proprio che andasse a battere in un angolo di muro e aveva mancato lo sportello e mi hanno detto che la prima sera non l'avevano potuto perché era rimasto in pantanato se si può dire nel fanno e nella neve l'hanno dovuto fare l'indomano in sera un'altra sera e così e l'hanno portato e c'era un figlio di Ciccino Madonia e Bagarello sopra che l'accompagnava ma i sequestratori la erano stati i fratelli Carollo sotto la dirigenza di Ciccino Madonia perché era il capofamiglia e Carollo era il sotto capo sa dove venne tenuto poi il sequestrato? è tenuto e è stato portato dalla famiglia di Mazzara per Vallo da Mariano Agato sa quanto venne dato come riscatto? ma non mi ricordo se ho letto sul giornale o qualcosa ho sentito che diceva 5 miliardi e 5 erano rimasti a quelle perché quando è così se lo dividono al 50% 50% chi cura perché quelli hanno curato poi le telefonate per andare a prendere i soldi e tutto e 50% chi lo tiene e mi sembra che i 5 miliardi a Carollo 5 miliardi a Reina e compagni però non sono sicuro perché io non l'ho visto e non so va bene per quello che ho potuto apprendere a capire questi soldi provenienti dai sequestri di persone e da altre attività illecite diciamo al di là degli industriali di cui abbiamo parlato vi erano anche dei commercialisti che voi potevate utilizzare per sempre per lo stesso fine per il riciclaggio del denaro di provenienza illecita ma quando parla voi mi ci mette pure a me io non avevo commercialista avevo commercialista cosa nostra cosa nostra va bene ho sentito la parola plurale va bene anche perché non ho avuto soldi dei sequestri e questi soldi cosa nostra chiamiamole cosa nostra alcuna parte di cosa nostra perché c'è una gente che non ha visto mai una lira in cosa nostra c'è gente che ha visto centinaia di miliardi allora specifici quale parte di cosa nostra va bene questa parte di cosa nostra che faceva il sequestro che aveva la facoltà di poter fare gioche e tutto sì dipendici avevano e mi ricordo all'inizio dobbiamo andare negli altri sequestri all'inizio ho capito ho capito ho potuto pure ascoltare le società le società che aprivano da vino mandalare andiamo dopo i sequestri cassina e gli altri che abbiamo parlato che abbiamo parlato mandalare le mandalare mi ricordo che andavano in fratelli coppola Gaetano Batalamente Nino Batalamente che io l'ho conosciuto tramite Nino Batalamente perché ci sono andato all'ufficio e ci andavo a Vino Provenzano e tutto c'è il Reina va bene ma a quei tempi Batalamente e Reina erano tutti una cosa tutti vicini tutti intimi ancora e si servivano da lui per pulire soldi e fare società acquisti e tutto uno era questo poi mi è costato a me sentire il discorso per i primi discorsi si sono fatte molte discorse dentro il mio ufficio veniva anche il prete il fratello dei Coppola lei sa come venne compensato se venne compensato per i servizi che aveva reso il mandalare no questo non lo so va bene lei sa se gli venne regalata una macchina ah quella è un'altra cosa appunto stavo dicendo mi costa a me di mandalare perché venivano a parlare nel mio ufficio che visto che era vicino a quello di mandalare e molti appuntamenti se le davano la gaedano badalamente tutte quelle che ho menzionato prima poi un giorno siccome avevo l'ufficio a Genova i trasporti sulla nave imbarcavo molti automenti le macchine non me le facevano pagare mi hanno chiesto se potevo farci imbarcare una vettura a Genova e portarla a Palermo perché stavano scendendo via terra e aveva avuto un incidente e hanno dovuto riparare di nuovo l'incidente l'aveva avuto Francesco di Trapene e Dino Provenzano che stavano scendendo una merciedisi la merciedisi che doveva regalare Tanno badalamente Provenzano tutti loro una merciedisi a Coda mi sembra si chiama a Coda a Pino Mandalare perché lo chiamavano Pino Mandalare né il ragioniere né il dottore Mandalare loro lo chiamavano in questo modo e di che colore era questa macchina se la ricordo certo me la ricordo è colore champagne colore oro non lo so come potete dire colore champagne potete dire quel tipo di colore di champagne che usano le merciedisi questo è uno ma poi se c'è stato verso il 77 78 camminando in macchina con Totuccio Reina si parlava di investimento che aveva saputo investire meglio che non aveva avuto settore di che cosa era e cosa si criticava perché Totuccio Reina criticava a tutti pure a suo fratello solo che suo fratello non era cosa nostra non esisteva criticava Pino Provenzano dell'investimento che aveva fatto ecco che si è andato in un altro discorso di un altro consulente non so se devo fare il nome perché no no signor Di Caro andiamo avanti comunque c'era un altro consulente questo lo abbiamo ancora altri consulenti utilizzato signor Di Carlo tornando al denaro di cui lei ha parlato in relazione appunto alle azioni da parte dell'utri Mercello lei ha mai assistito personalmente a consegne di denaro provenienti dal dell'utri no no da te lei sa fino a quando sono andati avanti queste consegne di denaro quelle che sono a sua conoscenza non ho capito scusi sa fino a quando è durata questa consegna di denaro per quale parla mi scusi dunque lei ha parlato mi scusi lei ha detto prima i 100 milioni subito dopo l'incontro e poi ha parlato di alcune cose relative alle antenne lei sa a conoscenza se questi pagamenti sono avvenuti fino a quando sono avvenuti e come ne è a conoscenza dottore gozzo io ho parlato dei 100 poi mi sembra che ho risposto a questa domanda dicendo pagando una volta si paga sempre nel 78 come è stato il 77 il 78 non mi ricordo quando avevano i problemi dell'antenna e tutto e hanno sistemato tutto per come mi dice che Gaetano Cina hanno pagato va bene per dire sistemato ma no perché è una una situazione che si già ce n'è che perché mori Stefano o mori un altro un capofamiglia continua si continua perché se non pagano più chiunque sia rimane a capo di quella famiglia o chi dirige quella famiglia dove pagano o cosa non c'è chi prende potere l'ammazza se non pagano oppure ci fa saltare tutto ma ho detto pure che negli ultimi tempi a seconda volta l'ammazzavano è una situazione che è una situazione tempi. Poi poco l'ho visto con Balducci, un certo Domenico Balducci, Artolevo, Ortolevo come si chiamava poi, comunque gente della Magliana. Della Magliana? Sì, posso dire che era abbastanza di buono il rapporto, molto considerato perché mi è capitato stare un mese nel carcere di Regina Sceli, come si chiama, a me nel 78. Per un mese mi avevano arrestato per documenti e soldi che però non pensate, superavo i 5 milioni, stavo andando a Londra, erano quelle delle spese cose, ai tempi superando i 5 milioni c'era l'arresto obbligatorio, ma nel carcere appena, tramite Cavarruzzo sarebbe, come si chiamano, Pippo Ferrera che era nel carcere là, appena hanno saputo che io ero saputo che ero amico di Pippo Calò, tutti quelli romani non sapevano cosa fare prima, mi volevano trattare come un principe, per dire, ecco ecco, come era considerato Pippo Calò a Roma. Ho capito. Senta, lei sa se Calò ha mai investito in Sardegna? Sì. Che tipo di investimenti ha fatto nel tormento? Sì, di questo mi ho sentito parlare, si parlava con qualcuno di Cosa Nostra, a volte anche con, ve dico, a livello con Totuccio Michalizzi, a livello con, quando mi incontravo con Di Gesù, lui aveva investito, non lo so, in società per fare residenze, costruzione in una costa della Sardegna, ed era in società, per quello che so, con Carbone, in tetto Carbone, qualche altro romano di queste. Senta, sai il nome di questo Carbone? Fabio Carbone. Lei sa se questo Carbone era... Di Gesù, di Gesù, e di Norrotolo erano anche in società. In Norrotolo è un uomo d'onore, non so, era un periodo capofamiglia a Pagliarelli o Regenero. E di Gesù? Di Gesù era un uomo consideratissimo anche perché era nipote del vecchio patriarca di Caccamo. Era figlio di una figlia, perciò portava un altro cognome, ma era un panzica di madre. Senta, ma quindi le persone interessate per quello che a sua conoscenza erano, se l'ho sentito bene, Carlo, di Gesù, Nino Rotolo e Flavio Carbone. Lei sa se Flavio Carbone è il nome proprio o rappresentava qualcuno? Non manca, rappresentava almeno per quello, è come c'era qualche altro. Chi è? Chi c'era oltre a questo? Non mi viene il nome, ma c'era un romano che aveva a me, che era molto vicino, non mi viene il nome, che era interessato in tutta questa situazione. Era Dio Tallevi? No, non era questo. Ha bruciato il Danilo? Bruciato mi sembra. Danil, bruciato Danil, Danil. Lei sa, lei ha mai sentito parlare di un certo Faldetta? Faldetta l'aveva in società Pippo Calò, anche nei palazzi che ha costruito a Palermo. Eh, sa in quali palazzi o sa soltanto questo? No, so che era in società, infatti veniva spesso a Roma e l'ho incontrato a Roma e veniva a trovare a Pippo Calò, che era l'abitante. Quindi lei l'ha visto personalmente? Sì, sì. Che si incontrava con Calò? Sì. Ma qualcuno le disse che reinvestiva i soldi di Calò? O è una sua deduzione? No, no, non è una deduzione. A parte tutto che Faldetta non veniva toccato qua e là, perché si sapeva che era intimo di Pippo Calò e c'è stato un periodo che lo volevano addirittura combinare. Se poi l'hanno fatto non lo so, ma là c'era Pietro Loiacono assieme a me, che c'è stato un periodo, ho dato tante tre mesi a Roma, non so perché cosa era ricercato. E a volte capitava di ritrovarci così, andare a Franza e si parlava che era il socio di Pippo Calò. Non socio, ma addirittura, come dicono quando, la faccia pulita. Senta. E si presta il nome. Sì, sì, ho capito. Senta, lei sa se Cosa Nostra mi ha cercato di influire sull'andamento dei processi che la riguardavano in qualche modo, che riguardavano i suoi appartenenti? Mi rifà la domanda, per favore, se io? Lei sa se Cosa Nostra ha mai cercato di influire sull'andamento dei processi? Ma quello è stato sempre, va bene, se ci riuscivano, ma qua se ci riuscivano, ma a parte tutto non aveva molto bisogno, perché Cosa Nostra non era conosciuta. Cosa Nostra era conosciuta come mafia, la gente vedeva fantasmi, non pensava che le cose erano fatte degli uomini. E allora un giudice, un presidente o chiunque sia doveva giudicare, se non c'erano le prove, perché poi giuridicamente erano quelli, i codici, allora la sopravva. Se c'era qualche cosa proprio, si cercava con l'intimidazione di poterci far avvicinare e farci parlare. Se non erano nella prima, erano in corte di appello, erano in Cassazione, ma era difficile che si arrivava in Cassazione, visto l'andamento, va bene. Ci può riferire a qualche caso specifico? Specifico, valla a cercare, sembro un computer con tutte queste situazioni oggi, come vado a cercare? Ma lei ne ha già parlato con le procure competenti? Come? Ne ha già parlato con le procure competenti? Ma ci sono qualche cosa che ne ho parlato, quello che è giusto di parlare, quello che so, perché cose dette o stradette, mi sembra che ho detto oggi, non intendo mai parlare, perché in Cosa Nostra ne dicono un milione di cose, e se uno le deve ripetere, non sono di prima mano, non è giusto, anche per salvaguardare la dignità degli altri, di chiunque sia, dell'istituzione. Io sono molto delicato, ne ho parlato, va bene, di quello che sapevo, e poi posso dire, intimidazioni ci sono state quando non ci poteva arrivare, e prendiamo per dire il caso di Cappiello, mi sembrava che si chiamava così Cappiello, se la gente è quel processo là... Signor Di Carlo, non le chiedo più altro, perché capisco che ci sono le indagini da parte dei colleghi di Caltanissette, quindi non insisto. Signor Di Carlo, lei quando è che ha cominciato a collaborare? A collaborare nel 96, il 13 giugno 96. Lei ricorda quante volte è stato sentito i primi mesi della sua collaborazione? Io so solo, perché oggi l'ho segnato, c'è un'agenda, 43 volte in udienza sono andato. Subito? Interrogatorio non lo so, no, in questo periodo. Ah, in questo periodo. Lei ricorda in particolare, ha reso specificamente, immediatamente, delle dichiarazioni in relazione a Dell'Utre Marcello e a Cinecretano? Mi ha direttamente, principalmente non c'è stato tempo, perché se legge la mia situazione, anche perché ho avuto problemi personale di avere qualche situazione medica e cose, ho perso del tempo, dicio subito e poi quando mi venivano chiesti, io rispondevo se conoscevo, se sapevo, se non conoscevo, se passava avanti. Non mi ricordo quando è stato. Quindi per comprendere, quella che viene usualmente denominata dichiarazione di intenti, lei quando l'ha fatta? Ma quando sono cominciato a collaborare, mi sembra che là ci deve essere, se non c'è stato il 13, 14 giugno. Ma ha specificato tutti i fatti di cui poteva parlare? Tutti. O genericamente? La domanda è ammissibile, ma nella misura in cui, noi parliamo sempre di queste dichiarazioni di intenti, che ha fatto parte pure tra l'uolta, pure nel nostro controesame, l'archese, i sicuri collaboranti, però tutte queste dichiarazioni di intenti non esistono perché non sono state depositate nel momento della discovery. Quindi noi parliamo di qualche cosa che è controllabile da parte del pubblico ministero e purtroppo non è controllabile da parte della difesa. Quindi qualsiasi domanda che avrà una risposta non può essere né confermata né smontita la difesa. Quindi io ritengo, innanzitutto vi appongo, ma nell'ipotesi in cui la mia posizione non fosse accolta dal Presidente, che il pubblico ministero depositi tutte queste dichiarazioni di intenti riferibili ai 36 collaboranti che sono stati portati per essere esaminati nel corso dell'oderno procedimento. Grazie. Presidente, vi tengo che sia intuitivo comprendere per quale motivo non si possono depositare, quantomeno nella loro integralità, le dichiarazioni di intenti reso da tutti i collaboranti, visto che chiaramente si tratta anche di fatti ancora coperti da segreti istruttori. In ogni caso, se ho fatto questa domanda, mi scusi, ho sentito quello che lei ha detto, se ho fatto questa domanda è proprio perché il primo, il verbale di dichiarazione di intenti, in realtà quello o meno che è la considerazione di questa Procura della Repubblica, è quello del 31 luglio del 1996, proprio quello in cui si parla per la prima volta del Lutri Marcello e di Berlusconi, Silvio, nonché di Cina Gaetano. E quindi per questo motivo non è stato fatto alcun altro deposito. I verbali precedenti trattano di altre cose. Ecco perché io cercavo di fare questa indagine. Comunque siamo disponibili, anche perché si tratta appunto di verbali abbastanza generici per quanto riguarda quelli precedenti, di depositare integralmente gli altri tre verbali che sono quelli del 13 giugno del 1996, del 14 giugno del 1996 e del 21 giugno del 1996. In modo tale che la difesa prima del controesame possa rendersi conto della realtà di quanto detto dalla pubblica accusa. Detto questo io ho terminato con la mia domanda, quindi non c'è più bisogno di continuare su questo punto. Sì, sono verbali quello del 13 giugno del 1996, del 21 giugno e del 14 giugno. Che non sono stati posti a conoscenza della difesa. Perché non hanno alcuna attinenza con l'oggetto del presente procedimento. Sì, ma hanno attinenza rispetto alla domanda della dichiarazione degli altri quando poi ha parlato prima volta di Marcello Dell'Utri. Abbiamo detto che li metteremo a disposizione la difesa, del resto oggi non mi sembra che la difesa procederà al prossimo punto. Sì, Presidente. D'accordo. Ma il punto rilevante è se nella dichiarazione degli intenti, che è antecedente evidentemente a questi tre interrogatori resi davanti al pubblico ministero, vi è la trattazione dell'argomento di Milano, dell'Utri, così come ha voluto individuare in quell'occasione il pubblico ministero. Io dico quindi, se c'è questa ricreazione degli intenti, omissando tutte le parti che non interessano, può essere pure depositata nella parte in cui vi è il capitoletto, l'eventuale capitoletto che si riferisce all'oggetto di questo procedimento. Senta, signor Riccardo, lei ha parlato quindi di Dell'Utri, come ho detto poco fa, di Dell'Utri e Cina, il 31 luglio del 1996. Lei era a conoscenza che Dell'Utri e Marcello era stato interrogato il 26 giugno e il 1 luglio del 1996 dalla Procura della Repubblica di Palermo? Sì, l'avevo visto e l'avevo sentito in televisione, anche l'avevo visto. Lei ha cominciato a collaborare il 13 giugno, ha detto, da quanto era tornato dall'Inghilterra? Lei è stato detenuto in Inghilterra prima, giusto? A ciò che me lo ricordo, 11 anni e mezzo. Quanto è stato detenuto? 11 anni e mezzo in Inghilterra. 11 anni e mezzo, è tornato in Italia quando? 13 giugno 1996. E' stato lei a chiedere di ritornare in Italia? Sì, avevo fatto l'applicazione, la Corte di Appello di Palermo mi aveva accettato, che c'era una legge europea che potevo finire in riscontra la condanna in Italia. Lei aveva già intenzione di collaborare quando è stato trasferito in Italia? Ma un po' prima, prima che toccasse l'Italia, un po' prima, vedendo un po' la situazione che era in Italia, le vergogne, la cosa, non mi riconoscevo, anche perché stamattina mi avete dato spazio di dire i motivi perché sono uscito di Cosa Nostra. Vedendo che non era più Cosa Nostra, ma era Cosa Nostra, io non ero stato combinato per essere dentro Cosa Nostra, con questi mosci, perché erano cose mosciose. Ricordiamoci cosa c'era nel 1994-1995, il sequestro del mio concittadino, il bambino. Stai parlando, Misco, stai parlando del collaboratore di Di Matteo? Sì, anche con il figlio di Di Matteo, ma tante cose, veramente non si possono elengare le cose che uno vede, specialmente uno di Cosa Nostra, specialmente chi è nato negli anni Sessanta. Non è nato come Cosa Nostra, magari avrei stato nato come età. E veramente non si può. Chi entra in Cosa Nostra con una certa mentalità, ci spiegano che la situazione è diversa, chi ha assistito svariate persone anziane che la vedevano in un altro modo, si trova veramente male. Io, se parliamo di un pentimento, io, l'unico pentimento nella mia vita è stato quando ho visto cos'era Cosa Nostra, quando sono entrato in Cosa Nostra, non quando sono uscito. Quello è stato veramente il pentimento. Quando sono uscito non avevo niente da pentirmi, non ho cosa da pentirmi, perché uno bisogna guardare prima, anche essendo in quella situazione, perché i reati si pagano sia in Cosa Nostra e sia nella legge. E allora cercare di camminare, di cercare il meno possibile, però a volte occasioni si fanno. E le dico, vedendo cosa era il quadro, vedendo la situazione e vedendo poi di che cosa erano formate, perché se andiamo a guardare i discorsi di Reina, di Brusca e tutti, vedete uno di chi era amministrato, chissà, mi è venuta questa spontaneamente, di dirci principalmente ai miei figli, che suo padre non era un assassino come questo, di bambine e di donne come queste che c'erano in giro. Suo padre era appartenuto a Cosa Nostra, non a Cosa Nostra, ma a Cosa Nostra di un tempo, dove c'erano valore. Suo padre era entrato in Cosa Nostra da uomo d'onore, perché in Cosa Nostra si entrava da uomini d'onore. A volte dicono, ma lei è stato uomo d'onore, si riferiscono perché uno è entrato in Cosa Nostra. No, perde l'onore, perde l'onore. In Cosa Nostra si entrava, si aveva delle onorabilità. E l'hanno fatto finire. Cosa indegna, non mi va di parlare di qua, perché forse nemmeno voi sapete come si era successo tutto dentro Cosa Nostra e cosa facevano. Cosa veramente indegna, anche a livello di guardare le donne, cosa che ci insegnavano che non si guardavano, fino a settima generazione di donne, verso le famiglie, rispetto. A meno che se uno non deveva sposarsela, ma hanno fatto completamente cosa vergognosa. Mi ho sentito liberare. Mi sono sentito poter guardare in faccia tanti amici che avevo in Inghilterra, in Europa e in Italia, all'infuori di Cosa Nostra. Perché quelli erano veramente i miei amici. Quelli me le imponevano. Quelli dovevano essere un amico. E poi tutti assieme ci venivano a sparare o uno ci doveva andare a sparare. Ho voluto uscire e ho voluto uscire che spero nella mia generazione, penso che non ce ne saranno più, specialmente di come ho fatto crescere i miei figli studiando, che nei miei nipoti, che a volte non c'è figli maschi ma si va nei figli dei figli femmine a diventare Cosa Nostra, non ce ne potranno essere più per la mentalità che io ho imparato e tutto. Questa è stata la mia, una dei tanti. Poi le dico una cosa al dottore Cosa, vado a vivere 15 anni in Inghilterra, che io non amo quella nazione, però vado a vivere là per dire, ma la civiltà quant'è bella, specialmente che uno viene in Cosa Nostra, lei non c'è bisogno di andarci lei, va bene, perché lei è un magistrato e sa cos'è. Ma tanta gente che vive in Sicilia, basta stare 10 anni, 15 anni per capire cos'è il fuori della Sicilia. Ho compreso. Senta, lei per che cosa era detenuto in Inghilterra? Io sono stato detenuto per una cosa che non ho fatto, purtroppo, però ne avevo fatto altri. Sì, ma qual è il fatto? Il reato era trafoco di gioco internazionale. Quanti anni le rimanevano da scontare, secondo quelli che erano i calcoli che aveva fatto lei? Altri 4 anni, non se che avevo fatto io e la legge. Ne avevo fatto 11 anni e mezzo, dovevo fare 16 anni e 8 mesi, rimanevano 5 anni quelli che erano. Lei aveva avuto anche comunicazione ufficiale? A meno che non mi deportavano e finiva, come hanno fatto quegli altri due prima di me. Un certo Luciani, un certo Montaleone, l'hanno deportato. Chi se ne ha fatto 10 anni e Montaleone se ne ha fatto 12 e mezzo. E come mai sulla base di quale... Ma è un criterio che hanno in iniettere. Gli stranieri, anzi a noi ci hanno tenuto, perché c'era il fattore clausa, mafia, cose, ma di soldi colombiane, tutti gli stranieri appena fanno il 50% le mandano al proprio paese, le mandano sull'aereo, le mandano ai propri paesi. Mentre a noi ci hanno fatto... A me proprio no, nemmeno mi avrebbero deportato, sarei stato subito libero per quella cosa, avrei finito una condanna che non meritava, però che volete la situazione era quella. Mentre quelli due che non hanno fatto... Anzi, non ci hanno voluto dare a Falermo il rimpatrio, perché erano accusate per le stesse cose, sono state deportate. A me, che mi hanno accettato il rimpatrio, sono ancora sotto questa condanna, perché sto finendo di scontarlo. Signor Di Carlo, lei allo Stato è detenuto? Arresti domiciliari, dottor. Arresti domiciliari, da quanto? Ma da... Allo stesso anno. E sta. Ma è una cosa che mi aspettava, non è per la collaborazione, tengo a precisare il dottore Gozzi, è una cosa perché quasi ho finito, perché mi hanno dato due anni di condono, visto che la condanna è stata riconosciuta in Italia, già sono proprio alla fine, è una cosciana che danno a tutti i cittadini. Prima ho cominciato a uscire in permesso, visto che rientravo, va bene, che mi hanno dato poi anche questa facoltà. Signor Di Carlo, lei nel corso di questa sua collaborazione, che ormai dura da un anno e mezzo circa, ha riferito di omicidi, in particolare, di fatti di sangue? Io ho riferito tutto quello che sapevo, ma a parte tutto non quelle cose raccontate, perché siamo sempre là, ma cose che più dirette sono sempre raccontate, però assistevo agli discorsi, o sapevo di più ancora, perché avrei accompagnato che sono tutti a livello di un certo livello, questi... Può riferire alcuni di questi omicidi di cui hai parlato? Ho assistito a discorsi, come le diceva, e il primo è uno dei tanti che si doveva fare nel 75, poi l'hanno fatto nel 79, che era a Terranova, cioè l'edifico assistito al discorso del 70... Giudice a Terranova? Giudice a Terranova, sì, poi onorevole, infatti si doveva fare a Roma. Poi ho parlato del procuratore Corsi, il procuratore Scaglioni, di Mario Francesi, il giornalista? Il giornalista è anche di impastato, un po' quel ragazzo là che lo davano per terrorista, poveraccio. E poi mi sembra anche... L'omicidio reina... Reina con lei, non reina, ma cara, sarebbe stato reina politico. Ha parlato per caso dell'omicidio a Mattarella? Anche abbastanza, e ho chiarito questa... quello che potevo chiarire. E dell'omicidio del Capitano Basile ha parlato? Colonnello Russo e Capitano Basile in cruz. Sì. Signor Di Carlo, ora le volevo fare alcune... altre domande su alcuni soggetti che sentiremo qua, alcuni altri collaboratori di giustizia che sentiremo in questo procedimento, o abbiamo già sentito? Per sapere se lei li conosce, sa che ruolo avevano in Cosa Nostra. In particolare volevo sapere se lei conosce Cancemi Salvatore. No, non lo conosco. Non lo conosce? Non lo ha sentito? Deve parlare più vicino al... Non lo conosco, dottore. Gaspare Mutolo? Lo conosco da una vita. Sì. Dal 62. Faceva parte di quale famiglia? Che ruolo aveva? Mattarella Modello, l'hanno combinato verso il 73, mi sembra. Dopo tantissimi anni che io c'ero Cosa Nostra, lo conoscevo come vero un rabbinatore, lo conoscevo abbastanza bene e poi l'hanno combinato. Famiglia per Tanna Mondello, molto considerato, è una persona molto vicina a Saro, Ricco Bono e a Totuccio Micalinzi. Francesco Norato ne ha già parlato, quindi inutile che ribadiamo quanto ha già detto. Lei ha conosciuto Angelo Sino? L'ho visto da lontano una volta, per fortuna. ma non è Cosa Nostra, non l'ho lasciato mai, era un saccio sepparo che Bernardo Plusca lo voleva ammazzare perché dicono che era spione, va bene, e l'avevo visto da lontano e cosa. Sono stato la causa di non, io, di più veramente ne ne geraci per dire la verità, di non farci l'ammazzare per non darci il dispiacere a Peppino Bertolino perché Peppino Bertolino aveva questo genere una figlia che si era portata a questo Sino ma sapeva chi era e chi non era Bernardo Plusca lo voleva togliere ne ne geraci un giorno discutendo io ne geraci e Bernardo Plusca poi mi ha detto convincerlo tu a Bernardo cioè Franco non è giusto il suo Peppino ha sacrificato tutta la vita dopo che muore in casa questa è una giolosia per me ancora Senta questo chiaramente sono le sue conoscenze fino al 1982 o ha conoscenze anche successive a questo anno? No, no fino all'82 su questo caso Senta Marino Mannoio Francesco lei lo conosceva? Sì e mi ricordo quando l'hanno combinato che famiglia apparteneva? Da Stefano Puntata a Santa Maria di Gesù Lei ricorda che l'hanno combinato perché era presente? No perché l'indomano me l'hanno presentato già me ne avevo parlato prima lo chiamavamo i giornali della famiglia di Bontate che era Giovanni Pullarà me ne avevo parlato prima di le sue intenzioni che dovevano stare tu Senta lei conosce Tommaso Buscetta? Sì conosco Tommaso Buscetta A che famiglia apparteneva? A Portanova però l'ho avuto presentato perché non c'è stato mai occasione l'ho avuto presentato mentre era l'attitante che era venuto alla favarella mentre lui era l'attitante io ero l'attitante Senta conosce Ganci Calogero ha conosciuto Ganci Calogero? L'ho conosciuto come persona da bambini a tutti i tre fratelli se parli per figlio di Faluzzo Sì Ganci ma come Cosa Nostra non lo conosco E Anselmo Francesco Paolo? Pure dal ragazzo perché andavo a trovare i zii i padri però come Cosa Nostra Galliano Antonino lo conosce? Nemmeno nemmeno come ragazzo non mi ricordo almeno portarsi che andavano i suoi zii e cose vedevano i voti però non Scrimo a Francesco? No La marca Francesco? Nemmeno I cognome non mi dicono niente perché a volte portarsi che ho perduto oppure forse vedendo una fotografia riuscirebbe a riconoscere ho perduto la visuale tante persone Cucuzza Salvatore? Cucuzza lo conosco da quando non era ancora Cosa Nostra ma l'ho conosciuto anche come Cosa Nostra? Sì certo e in che famiglia era? Era nella famiglia di Borgovecchia a Volello non in famiglia è stato Angelo Graziano che poi è scomparso e Porto Ciremilla Ferrante Giovanni Battista lo conosce? conoscevo conoscevo se ancora vivo non lo so il padre lui mi sembra di averlo visto il giovanottino proprio così in via Usoni in questa zona ma il padre lo conosceva ritualmente? come Cosa Nostra come Cosa Nostra conosce un certo parte Antonio? no questi sono troppi Pennino Gioacchino lo conosce? Pennino dottore? sì il medico? sì l'ho conosciuto era nella famiglia di Brantaccio l'ho conosciuto presentato a Favarella da Michele Grevi signor Di Carlo lei ha avuto periodi quando era in Gran Bretagna perché praticamente prima di collaborare lei è stato detenuto in Gran Bretagna lei è stato detenuto insieme a uomini di Cosa Nostra altri uomini d'anore? Gran Bretagna? sì no no dove erano là? successivamente la sua collaborazione quindi dal giugno del 1996 in poi lei è stato detenuto insieme non intendo certamente nella stessa cella ma è stato detenuto nello stesso carcere insieme ad altri uomini d'anore ha avuto modo di incontrarli? quando sono arrivato in Italia? sì io sono stato prima cinque mesi isolato in una stanza grande la che c'era sempre a Re Bibbia cinque mesi a partire dal 13 giugno? sì cinque fino a fine dell'anno non mi ricordo preciso e poi successivamente e poi per fortuna che nemmeno sapevo che esisteva una sezione dove potevo andare perché già mi ero stancato cinque mesi isolato uno che si è affatto undici anni e mezzo di carcere si immagina e anche nella situazione dov'ero un giorno mi vedo trasferito in una sezione sempre a Re Bibbia però era un'altra sezione dove là ho trovato tantissimi tantissimi detenuti poi so il numero che oscillava mi hanno portato in questa sezione in questa sezione e l'indomani mi stavano di nuovo isolando perché la procura di Palermo non aveva dato per me per me solo sta bene che doveva darlo non lo so com'era la situazione di potermi mettere in una in una sezione così di tutti i tipi di persone ma io avendo scoperto che là potevo stare in compagnia potevo fare socialità o un po' di sforzo perché stare sempre chiusi in una cosa e ci ho detto no no e se mi mettete di nuovo la chiusa meglio che mi mettete nei comuni che non ho niente più comunque direttori guardie e tutte cose comunque mi ha stabilito la procura di Palermo ha detto di mettermi una sorveglianza particolare specialmente dalla mattina che si apriva la porta fino alla sera alle 10 e mezzo di avere sempre una guardia accanto a me sotto le proprie occhi là ho trovato persone di tutti i tipi mi creda e